Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Alexandros. Di Valerio Massimo Manfredi. Il mare è spiegato con barri di grano. Alessandro III di Macedonia, che sarebbe stato poi famoso in tutto il mondo con l'appellativo di Alessandro il Grande, nacque una notte del 356 a.C. a Pella, nel Palazzo Reale, in una nuova capitale che suo padre Filippo, in quel momento occupato nell'assedio di Potidea, aveva costruito nella pianura. Forse la regina madre fu assistita dal suo medico Nicomaco, che era il medico di corte, che poi sarebbe stato conosciuto come il papà di Aristotele, il grande filosofo che avrebbe poi allevato Alessandro, che avrebbe istruito Alessandro durante tre anni. Poi, il bambino sicuramente fu affidato alle sue nutrici, perché venisse lavato, profumato, fasciato e preparato per la vita. Una vita straordinaria, una delle vite più avventurose che sia mai stato dato a un essere umano di vivere, appunto quella di Alessandro. C'è tutta una geografia, appunto, sul suo conto, anche sulla sua infanzia, perché Alessandro divenne leggenda prestissimo, e la sua leggenda era destinata poi a varcare i millenni. Quindi, straordinario in gioventù, straordinario nell'età adulta, doveva essere stato straordinario anche da bambino, e quindi gli si attribuivano tutta una quantità di azioni e di comportamenti meravigliosi. I suoi maestri pare che ben presto dichiarassero al padre Filippo di non avere più nulla da insegnarli, perché il bambino era avido di conoscenza ed era brillante e intelligente. Si raccontano episodi anche della sua sensibilità, per esempio. Si dice che una volta entrato in un santuario, Alessandro avrebbe cominciato a gettare incenso nel bracere con grande prodigalità. Il maestro Leonido lo avrebbe ripreso. Userai con tanta abbondanza una sostanza tanto preziosa quando avrai conquistato i paesi che la producono. Anche questo, certamente, una costruzione geografica a posteriori, perché poi sappiamo che Alessandro, effettivamente, alla vigilia della sua morte, stava progettando l'invasione e la conquista della rabbia, che era appunto la terra degli aromi, la terra dell'incenso, della mirra, sostanze preziosissime. Il bambino, invece, avrebbe risposto al suo maestro che non bisognava essere avari con gli dèi, che bisognava, invece, essere generosi per poter poi ottenere il loro favore. Una propensione, diciamo, alla religione che lo avrebbe poi seguito per tutta la vita. Egli, anche da adulto, continuò sempre ad ufficiare i culti agli dèi personalmente. Nel momento in cui Alessandro nasceva, il suo popolo, il popolo dei Macedoni, si era ormai stanziato definitivamente in pianura. Sembra che la parola Macedon significhi montanaro e, infatti, questo ci dice dell'origine dei Macedoni. Essi abitavano, in un primo momento, le parti montagnose della Lincestide e delle Ordea, quindi le zone più settentrionali del paese. Poi fu, soprattutto Filippo, a stanziarli in pianura, a farne un popolo dedito all'agricoltura, legato al territorio e poi suddiviso per tribù che avrebbero fornito le singole unità dell'esercito. Secondo la straordinaria riforma militare di Filippo, che appunto ripartì l'armata in falangi, ispirandosi, sembra, al modello del battaglione sacro di Tebe, che lui aveva conosciuto quando era stato ostaggio dei Tebani in gioventù. Esiste ovviamente una certa geografia sulla condizione di Alessandro nella sua gioventù, con episodi destinati poi a perpetuarsi, a diventare addirittura soggetto di opere d'arte, come la famosa caccia al leone, alla quale Alessandro prese parte, assieme anche al padre, assieme ai suoi amici, tra i quali poi si distinse Fistione, che gli salvò la vita. La cosa più interessante però di tutto questo è che a quel tempo esisteva ancora il leone in Europa. Questo è veramente un fatto incredibile, straordinario, se pensiamo che la nostra natura ormai, il nostro ambiente naturale, è così degradato. Leoni allo stato selvaggio in Macedonia. Erano leoni indiani, non erano leoni africani, e questa specie ancora sopravvive in un piccolissimo gruppo nell'India nord-occidentale, nella foresta di Gir. Questo episodio della caccia al leone, poi è stato ritrovato e figiato in una specie di mosaico di piccoli ciottoli colorati, rinvenuto a pella nella capitale. Quindi doveva essere diventato in qualche modo un topos, cioè un classico, insomma, un episodio che veniva frequentemente raccontato, forse si raccontava anche nelle scuole, forse si leggeva, che faceva parte appunto della geografia, diremmo noi oggi, di questo grande sovrano. Nella gioventù di Alessandro però non c'è dubbio che il fatto più importante è la sua formazione. Per questa il padre Filippo non badò a spese, reclutò al suo servizio la mente più brillante della sua epoca, e forse una delle più brillanti di tutti i tempi, e cioè il filosofo Aristotele. Dobbiamo pensare che Aristotele ha dominato la scena, diciamo, della filosofia del pensiero occidentale praticamente fino a Galileo Galilei, il quale appunto mise in crisi il pensiero aristotelico introducendo un metodo, il metodo sperimentale. A quell'epoca egli era senz'altro uno degli uomini più famosi del suo tempo e di tutta la Grecia. Per creare questa specie, diremmo noi oggi, di università privata, Filippo adattò una vecchia residenza di caccia a Mieza, non molto lontano da Pella, riattando gli edifici, sistemando i giardini, in un luogo molto bello, molto ameno, con fontane, con boschetti, evidentemente proprio per creare una situazione un po' come noi oggi vediamo in certi campus americani. Aristotele lo seguì per quasi tre anni. Sappiamo che alcune delle lezioni di Aristotele erano dette acroamatiche e significava che erano per il principe soltanto, cioè erano lezioni destinate a lui in esclusiva e destinate poi quindi a rimanere riservate o addirittura segrete, al punto che quando Alessandro poi partì per la sua spedizione in Asia, saputo che Aristotele aveva pubblicato parte di quelle lezioni, se ne risentì e gli scrisse una lettera abbastanza seccata. Aristotele, quindi, maestro di Alessandro. C'era chi faceva anche delle ironie su queste cose. Siccome gli era stata negata la presidenza dell'Accademia, si diceva perché si riportava i capelli dalla nuca sul cranio un po' calvo, ed essendo stata ritenuta questa un segno di scarso equilibrio psichico, si diceva che Aristotele si vendicò di questo fatto creando Alessandro. Certo, Alessandro non l'ha creato Aristotele, l'hanno creato una serie di situazioni, una serie di fatti molto importanti, la formazione è anche ricevuta dai suoi genitori, ma vedremo ora come si svolse questo suo rapporto con il grande filosofo. Che cosa avevo raccontato soprattutto nella formazione di Alessandro? Certamente la vicinanza dei suoi genitori, l'influenza dei suoi genitori. Filippo, che era un uomo di grande intelligenza, di grande acume, di grande coraggio, di grande forza d'animo, un uomo di grande razionalità, anche se di spiriti bollenti, facile all'ira, facile alla collera, però un uomo sempre di grande razionalità. Di lui l'oratore isocrate ebbe a dire che egli è il più grande europeo dei nostri tempi. E gli uomini più lungimiranti vedevano in Filippo l'unico che potesse veramente unificare le forze dei greci per sbarazzarsi una volta per tutte del loro secolare nemico, l'impero persiano. L'educazione dovrebbe essere rigida perché questo era l'uso. I ragazzi, i figli dei nobili, che noi oggi chiamiamo con un termine un po' così adattato, chiamiamo paggi, venivano mandati a Palazzo Reale e li ricevevano un'educazione appunto molto rigida assieme anche allo stesso principe ereditario. A loro era concesso addirittura di montare la guardia nell'anticamera del talamo reale, cioè della camera da letto del re. Quindi veniva dato loro una grande dimostrazione di fiducia. Al tempo stesso solo il re poteva infliggere loro punizioni, anche corporali, nel caso in cui avessero commesso qualche cosa di sbagliato. Certamente anche il carattere di Olimpias, della regina madre, dovete influire su Alessandro. Olimpias era una donna molto particolare, un carattere inquietante per molti aspetti. Le si attribuivano strani comportamenti, si diceva che fosse dedita a culti orgiastici, si diceva addirittura che avesse fatto sacrifici umani. Probabilmente si tratta di chiacchiere, di dicerie che sono state diffuse da ambienti ostili alla corte della regina dopo che Alessandro fu morto. Ma certamente c'è molto di vero, perché si sa dalle sue azioni, da quello che accadde in seguito, da come si comportò con i suoi nemici, con uno spirito di vendetta così terribile da creare proprio una leggenda che Olimpias doveva essere veramente una tigre da un certo punto di vista, tanto che nemmeno Filippo era mai riuscito a domarla. Era una donna che sapeva essere languida, che sapeva essere anche probabilmente soave, legata al figlio da un rapporto molto intenso, quasi morboso. Alessandro stesso poi rimase sempre molto attaccato alla madre, continuò sempre a scriverle, a rimanere in contatto con lei durante le spedizioni militari, a pensare a lei, le mandava regali, le mandava doni, le stoffe più belle, per esempio, dai bottini, dai saccheggi. Quindi tutto questo dimostra che Alessandro le voleva bene, le era molto affezionato. mentre con il padre Filippo certamente aveva un rapporto conflittuale, perché ambe due erano caratteri molto forti, molto duri, e quindi certamente hanno avuto i loro momenti di crisi anche molto difficili. Queste furono ovviamente le due componenti del carattere di Alessandro, la razionalità del padre, l'istintualità, l'appassionalità della madre. Forse poi questi due aspetti alla fine vennero personificati in questo mito dell'occhio nero e dell'occhio azzurro che venivano attribuiti ad Alessandro. L'occhio nero come la notte, ebbe a dire Giovanni Pascoli e nel poemetto Alexandros l'occhio azzurro come il cielo. Poi venne Aristotele. Ecco, quindi fu Aristotele, il grande filosofo, il responsabile della sua principale educazione. Che cosa avrà insegnato Aristotele ad Alessandro? Purtroppo, come abbiamo detto, molte di queste lezioni erano acromatiche, e cioè assolutamente riservate e quindi segrete che non dovevano essere pubblicate. E se anche in parte furono pubblicate non ci sono pervenute. Quindi, purtroppo, non abbiamo la possibilità di assistere, così potremmo dire, a distanza, ad una lezione di Aristotele ad Alessandro. Un tema che poi ha formato anche il soggetto di tanti quadri del periodo neoclassico, proprio perché affascinava la mente degli artisti l'idea di questo grande condottiero ancora giovanissimo e questo grandissimo filosofo. Certo, Aristotele gli avrà insegnato le scienze naturali, di cui lui era uno dei più grandi esperti, dei più grandi conoscitori. Da cosa lo deduciamo? Dal fatto che Alessandro, quando andò poi nella sua spedizione in Oriente, man mano che trovava piante rare, animali mai visti, eccetera, li mandava al suo maestro per la sua collezione, per il suo museo. C'è un altro aspetto molto interessante. Le lance macedoni, le famose sarisse che poi servivano a creare questa impenetrabile barriera di picche ferrate nella fanteria pesante di linea, erano fatte con un solo fusto di corniolo, che è una pianta durissima e quindi ogni asta aveva il suo midollo, quindi aveva una resistenza formidabile. Chi è che ci parla di queste piante? È Teofrasto e Teofrasto è allievo di Aristotele. Quindi anche qui probabilmente proprio nella scelta di questi elementi che avrebbero poi fatto la forza dell'armata macellana, può darsi che ci sia stata l'expertise, la scienza, la capacità cognitiva del grande Aristotele. Certamente gli insegnò le costituzioni delle principali città greche. Aristotele faceva collezione di costituzioni perché ovviamente questo serviva per la formazione politica del suo allievo. Poi Alessandro ovviamente andò oltre, Alessandro non seguì probabilmente gli insegnamenti di Aristotele. Aristotele per certi punti di vista era un greco del suo tempo quindi era molto rigido, aveva delle idee che oggi sarebbero considerate anche poco corrette politicamente. Diceva i greci sono gli unici uomini liberi quindi sono loro che devono comandare, i barbari sono servi e c'è solo un uomo libero fra i barbari e dell'imperatore, tutti gli altri sono servi e quindi sono abituati a obbedire e devono obbedire. Alessandro invece sarebbe andato oltre queste cose, avrebbe fatto altri progetti che forse non accontentarono il suo maestro forse anzi lo scontentarono ma vedremo più oltre poi di che cosa si trattò. Sappiamo che Aristotele tornando alle scienze naturali era in grado per esempio di sezionare un embrione di pollo di soli due settimane di età quindi vuol dire che faceva delle esperienze di tipo proprio sperimentale diremmo noi oggi. pare anche che avesse sezionato dei feti gli si attribuivano insomma attività investigative molto importanti molto stupefacenti anche per i nostri tempi aveva certamente una cultura medica essendo figlio di un medico famoso e quindi possiamo essere ragionevolmente sicuri che questi tre anni in cui Alessandro rimase a contatto continuo con il suo maestro devono essere stati molto intensi molto proficui e comunque devono aver inciso profondamente nella formazione del giovane principe e forse anche la fisica la geografia Alessandro sappiamo che fu divorato da questa curiosità insaziabile di continuare di andare sempre avanti di andare sempre a cercare nuovi orizzonti ecco forse Aristotele gli insegnò che la terra era rotonda per esempio Aristotele lo sapeva che la terra era rotonda e ne portava le prove diceva che l'ombra della terra sulla luna durante le eclissi è rotonda che quando le navi si allontanano dal porto prima scompare lo scafo poi scompaiono gli alberi e quindi la terra deve essere curva e certamente tante altre cose purtroppo che non sapremo mai io vi do appuntamento per domani sera alle 8 della sera su radio 2 per proseguire assieme la grande avventura di Alessandro la vera prova del fuoco per il giovane Alessandro fu la partecipazione alla battaglia di Chiaronea Filippo aveva fatto una politica molto particolare e cioè aveva in un primo momento occupato tutti gli stanziamenti soprattutto atteniesi nella zona della Tracia nella zona degli Stretti nella zona della penisola calcidica erano colonie erano città che poi avevano la loro vita le loro magistrature i loro rapporti internazionali e mantenevano però sempre con la madre patria un rapporto intenso e importante Filippo non ce l'aveva con gli ateniesi non ce l'aveva con le grandi polis del sud ma voleva chiarire che la Macedonia la Tracia e tutte le sue adiecenze erano roba sua che non avrebbe tollerato nessun'altra presenza nessun'altra ingerenza e così aveva preso una dopo l'altra Potidea Olinto poi Bisanzio allarmando enormemente gli ateniesi che invece avevano disseminato di colonie la parte nord dell'Egeo per un motivo anche molto importante e cioè per il traffico del grano di cui la città si alimentava e che veniva quasi tutto dalle zone del Mar Nero ormai diciamo i democratici che facevano capo soprattutto a De Mostene in Atene si erano convinti che Filippo avrebbe privato i greci della libertà altri invece in qualche modo forse potremmo dire più illuminati pensavano che Filippo fosse in qualche modo l'uomo del destino fosse l'uomo che invece poteva diventare il condottiero dei greci indurli a lasciare la loro ancestrale rissosità le guerre continue le lotte fratricide per unirsi contro il comune nemico e cioè l'impero persiano un gigante un colosso che si estendeva dalle rive del Danubio fino all'Indo fino alla valle dell'Indo lo stato l'impero più grande che il mondo di allora avesse mai visto Filippo però non si fece non si fece spaventare da queste reazioni continuò la sua marcia inesorabile e quando si formò una coalizione per sbarargli il passo appunto fu chiamata addirittura la lega delle leghe perché facevano blocco fra di loro varie confederazioni di state la lega delioattica atenese la lega tebana beotica e altre lo scontro avvenne a Cheronea Cheronea sorge sulle colline in Beozia e ha davanti una vasta pianura è molto bella Cheronea ancora oggi si può mirarne il teatro che è scolpito nella viva roccia e dai gradini proprio di questo teatro si può immaginare il movimento delle armate nella pianura l'avanzare delle falangi le manovre della cavalleria che era un altro dei grandi punti di forza di Filippo ci servivano i nobili che avevano il titolo onorifico di etairoi cioè di compagni del re mentre ai fanti alla fanteria pesante di linea era stato dato il nome di pezzetairoi cioè di compagni a piedi del re dicono le fonti che Alessandro prese parte a questa battaglia al comando di un'ala di cavalleria qualcuno ha messo in dubbio che Alessandro a 18 anni a soli 18 anni fosse in grado di compiere un'impresa così clamorosa ma diciamo che la tradizione consolidata invece conferma questo fatto al tramonto il campo di Cheronea era un massacro Filippo danzava fra i cadaveri lanciando le sue grida di vittoria le armate nemiche compreso il mitico battaglione sacro dei Tebani considerato invencibile erano state sterminate De Mostre nel grande nemico era fuggito attraverso un valico e aveva cercato rifugio ad Atene era uno shock spaventoso era evidente che non c'era nessuna forza in Grecia che potesse resistere a Filippo bisognava stare con lui o contro di lui ma stare contro di lui era molto pericoloso la schiacciante superiorità tattica e strategica delle armate di Filippo aveva un nome Falange e in particolare Falange Macedone perché la Falange era anche l'unità di combattimento delle fanterie pesanti greche delle Poleis qual era dunque la differenza? Filippo all'inizio non aveva le risorse per potersi permettere le costosissime armature degli opliti cioè dei fanti pesantemente armati delle città greche che comprendevano schimieri comprendevano corazza il massiccio scudo oplitico l'elmo la lancia la spada il pugnale e quindi cosa aveva? aveva soprattutto la cavalleria ma la cavalleria da sola non poteva vincerla contro un blocco di fanteria pesante greca schierato a quadrato bisognava quindi inchiodarla sulle sue posizioni con la fanteria e permettere alla cavalleria di attaccare alle spalle così egli inventò la Falange Macedone cioè unità che erano schierate su tre file con lance di lunghezza progressiva per cui queste lance sporgevano tutte in prima fila creando veramente un muro di bronzo impenetrabile con queste lance così lunghe erano chiamate sarisse la fanteria pesante di Filippo teneva a distanza gli opliti greci dando così poi il tempo alla cavalleria di compiere la manovra girante e di attaccare alle spalle con manovra devastante c'era un proverbio praticamente che veniva attribuito a Filippo secondo cui la Falange era l'incudine la cavalleria il martello questa diciamo questa sioma funzionò drammaticamente terribilmente in tutte le battaglie compresa quella di Cheronea dove anche abbiamo visto il battaglione sacro fu sterminato era chiamato questa unità tebana era chiamata battaglione sacro perché ogni soldato aveva un giuramento era legato da giuramento al suo compagno e secondo questo giuramento non l'avrebbe mai abbandonato non l'avrebbe mai lasciato solo si diceva addirittura che questi guerrieri fossero legati anche fossero anche amanti fossero cioè legati da un vincolo anche personale di amore di affetto andarono completamente sterminati a questo punto la città di Tebe si arrese e Atene era di fatto in difesa ma Filippo non vuole esagerare non vuole dare l'idea di essere un barbaro spietato non vuole l'umiliazione degli stati greci li vuole riunire in un'unica grande alleanza contro il persiano e quindi manda lo stesso Alessandro a restituire i corpi dei caduti molti di loro erano Atenesi e questo gesto di pietà fa una profonda impressione diciamo che in qualche modo dispone bene gli animi di coloro che poi costituivano il cosiddetto partito filo macedone come in Europa diciamo durante la guerra fredda c'era stato un partito filo americano un partito filo sovietico in qualche modo anche allora c'era qualche cosa di simile la macedonia da alcuni veniva visto come un nemico implacabile un nemico da cui bisognava liberarsi che bisognava annientare secondo altri invece no quello stato aveva ancora energie intatte e doveva quindi essere il leader quello che conduceva la grecità contro i persiani quindi l'ambasciata di Alessandro ad Atene ottiene un notevole successo e l'anno dopo nel 337 a Corinto si costituisce la Lega Panellenica cioè la Lega praticamente di tutti gli stati greci con uno scopo ben preciso attaccare e abbattere il secolare nemico l'impero persiano il convegno della Lega Panellenica si tenne come abbiamo visto a Corinto la città era in una posizione molto favorevole perché era sull'istmo appunto di Corinto tra nord e sud tra est e ovest quindi era il luogo ideale per i convegni internazionali diremo noi oggi qui Alessandro ebbe un incontro molto speciale con un personaggio molto speciale e cioè con Diogene Diogene era un filosofo cinico oggi la parola cinico ha una connotazione molto negativa cioè sta per persona priva di ideali che non crede in nulla che prende le sue decisioni con freddezza allora era molto diverso la parola veniva da Kionkinos che significa cane perché si diceva che questi filosofi facevano tutto in pubblico come i cani anche i loro bisogni corporali ma questo per noi ha un significato speciale cioè in fondo c'era certamente anche una volontà di ritorno alla semplicità un desiderio di recuperare origini perdute e lontane sta di fatto che Alessandro secondo le nostre fonti incontrò questo filosofo il quale viveva in una pithos cioè l'equivalente di una botte diremmo noi oggi un grande vaso che una grande giara che a noi evoca una famosa novella di Pirandello di cui lui aveva fatto la propria abitazione c'aveva un cagnolino vicino quello stesso che viene ritratto in una famosa statua pervenutaci e viveva probabilmente di elemosine se ne stava lì al sole e Alessandro gli si presentò e gli disse chiedimi qualunque cosa e io te la darò probabilmente con un'espressione abbastanza infelice di un giovane principe un po' arrogante e molto sicuro di sé ma di oggi ne lo mise subito a posto gli rispose proprio tutto e disse sì rispose Alessandro allora fatti in là che mi togli la luce del sole una grande lezione una lezione di semplicità Alessandro rispose disse poi ebbe a dire ai suoi compagni se non fossi Alessandro vorrei essere diogene poi segue un anno estremamente tumultuoso siamo tra il 337 e il 336 avanti Cristo alla corte ci sono dei grossi cambiamenti Filippo si è innamorato il padre di Alessandro si è innamorato di una bellissima ragazza figlia di uno dei nobili macedoni più in vista si chiama Euridice è bellissima affascinante il re ha avuto una bambina da lei che ha chiamato Europa e un bambino quindi questo mette in allarme la regina madre e addirittura in un primo momento al matrimonio di Filippo con Euridice incinta del suo secondo figlio c'era stato un vero e proprio scontro che cosa era successo Filippo aveva preteso che la regina Olimpias e suo figlio Alessandro fossero presenti al banchetto nuziale la giovane sposa era incinta del secondo figlio il re era perdutamente innamorato di lei e certamente insomma un uomo sui 46 47 anni che ha un bambino piccolo che ricomincia una vita che ha una sposa giovane può effettivamente avere questo tipo di vulnerabilità e di debolezza sta di fatto che il pranzo nuziale purtroppo degenerò in una vera e propria rissa che cos'era successo era accaduto che il suocero di Filippo lo zio della sposa il padre non c'era più a un certo punto aveva fatto un brindisi aveva levato la coppa esclamando possano gli dèi benedire questa coppia e possano presto essi avere un erede legittimo al trono questo mandò Alessandro su tutte le furie Alessandro gridò perché cosa sono io un bastardo e minacciò si lanciò praticamente quasi contro Attalo Filippo intervenne perché aveva preso come un'offesa il fatto che Alessandro si fosse scagliato contro il suo suocero ma mentre cercava di passare da un letto treclinare all'altro inciampò cadde rovinosamente in una pozza di vino e di avanzi Alessandro gli si fece sopra e con fare beffardo disse guarda qua l'uomo che vuole passare dall'Europa all'Asia non è capace di passare da un letto all'altro senza cadere per terra era un'offesa sanguinosa anche perché dentro c'era un doppio senso passare da un letto all'altro e cioè da quello di Olimpias a quello di Euridice e Filippo urlò gridò lo trattennero c'era il pericolo che i due venissero addirittura a via di fatto Alessandro capì che per lui non c'era più posto e se ne andò se ne andò con la madre fuggirono e andarono in Epiro dove regnava lo zio di Alessandro di pochi anni più vecchio di lui anche egli chiamato Alessandro fratello giovane della regina Olimpias lì i due furono ospitati poi Alessandro decise di lasciare l'Epiro forse per non mettere in imbarazzo il giovane zio che avrebbe dovuto fare i conti con Filippo infuriato sta di fatto che Alessandro si avventurò forse solo forse con Efestione non sappiamo bene in pieno inverno tra le montagne dell'Illiria coperte di neve anche i compagni di Alessandro i suoi amici quelli che erano stati con lui a miezza a scuola d'Aristotele quelli che lo accompagnavano in ogni occasione quelli che avevano partecipato con lui alla caccia a leone furono esiliati furono mandati via Filippo era veramente fuori di sé era veramente su tutte le furi però il tempo si sa sana molte cose alla fine Filippo richiamò il figlio richiamò i suoi amici perché perché c'era una nuova grande occasione politica e festiva e cioè Filippo per aggirare o per disinnescare l'influsso che avrebbe potuto essere nefasto della sua regina di Olimpias sul giovane fratello re De Piro volle stabilire con lui un rapporto di parentela diretta e cioè concesse in moglie ad Alessandro De Piro la propria stessa figlia Cleopatra cioè la sorellina più giovane di Alessandro che all'epoca aveva forse 16-17 anni si preparò quindi un grande matrimonio al quale avrebbe partecipato lo stesso Alessandro al quale era invitata anche la regina madre che però non si fece vedere giunto il gran giorno la processione nuziale mosse dal palazzo reale giù giù verso il teatro dove erano riuniti tutti i rappresentanti della lega panellenica tutti gli inviati delle principali città incedevano i sacerdoti poi dei fanciulli abbigliati come amorini le statue dei dodici dei dell'Olimpo portate in processione e poi da ultimo il re il re abbigliato come un dio ma purtroppo ormai incombeva un evento tremendo grazie per essere stati con noi vi do appuntamento a domani sera alle 8 della sera su radio Filippo un attimo prima di fare il suo trionfale ingresso nel teatro gremito di delegati venuti per assistere al matrimonio tra sua figlia Cleopatra e Alessandro De Piro si fermò si fermò per licenziare la sua guardia del corpo non voleva entrare davanti ai greci alla presenza dei greci attorniato da guardia del corpo come usava per i tiranni e quindi li rimandò indietro ed entrò solo ma appena fu nella luce del sole offrendosi agli applausi della folla un uomo sbucò dal buio della galleria d'ingresso una delle guardie che lui aveva licenziato e che invece non se n'era andato e gli immerse la spada nel fianco Filippo crollò buttando sangue dalla ferita davanti a tutti i delegati proprio nel giorno più bello forse della sua vita Alessandro e gli altri cominciarono a gridare lanciarono ordini alcuni soldati balzarono a cavallo e si misero all'inseguimento del uccisore il quale era atteso da alcuni suoi compagni su una collinetta non lontano dal teatro dicono le fonti che inciampò nella radice di un albero di vite gli inseguitori gli furono addosso e lo massacrarono sta di fatto che a quel punto l'unico testimone gli altri erano fuggiti l'unico testimone che avrebbe potuto dire chi era il mandante era morto un po' come accadde per John Fitzgerald Kennedy ucciso durante una parata proprio come Filippo assassinato da un uomo che poi a sua volta fu ben presto assassinato chi fu allora il mandante dell'omicidio di Filippo ancora oggi gli storici se lo chiedono e non sono ancora riusciti a darsi una risposta all'epoca si parlò di una faccenda torbida di amori maschili si disse che l'assassino che si chiamava Pausania fosse l'amante di Filippo che quando Filippo si era messo con Euridice lui gli avrebbe fatto una scenata allora Attalo che invece voleva favorire le nozze di Euridice con Filippo l'avrebbe invitato a una battuta di caccia e lì i suoi capi caccia l'avrebbero catturato l'avrebbero preso e avrebbero abusato di lui tutta la notte furente per l'otraggio subito egli avrebbe chiesto a Filippo di vendicarlo Filippo avrebbe rifiutato e lui l'avrebbe quindi ucciso evidentemente il gossip diciamo che circolò nella corte macedone durante quel periodo alla fine forse fece comodo anche accettare questa versione che in fondo era una versione privata che non coinvolgeva la politica che non coinvolgeva le grandi relazioni internazionali ma in realtà in realtà in quel momento tutti erano sospettabili e cioè l'impero persiano che aveva paura di Filippo perché c'era già un corpo d'armata in Asia pronto ad attendere il grosso delle forze per marciare contro di loro gli atteniesi almeno le forze ostili a Filippo furrenti contro di lui per l'oltraggio subito i Tebani che erano stati duramente sconfitti nella battaglia di Cheronea che avevano subito un vero e proprio massacro lo odiavano ferocemente avrebbero voluto la sua morte la regina Olimpias che lo detestava perché era stata umiliata in pubblico al suo matrimonio con Euridice si era vista messa da parte tradita qualcuno anche gettò ombre sullo stesso Alessandro il quale avrebbe voluto così assicurarsi una successione anzitempo tutti colpevoli nessun colpevole chiunque sia stato a progettare l'assassinio di Filippo era un genio perché appunto aveva scelto un momento in cui tutti erano sospettabili nessuno escluso e quindi in qualche modo nessuno perché quando tutti sono sospettabili è molto più difficile individuare un mandante le fonti dicono che la regina Olimpias arrivò immediatamente arrivò quella stessa notte e fu vista mettere sulla testa sul cadavere di Pausania dell'assassino appeso a un palo una corona di fiori ma anche questo sembra un gesto comunque non probante perché se lei fosse stata veramente il mandante non avrebbe compiuto un gesto così plateale sembra strano che i persiani fossero riusciti in una cosa del genere senza poi rivendicarla e lo stesso si può dire per i tebani per gli atteniesi per i tanti suoi nemici e onestamente a me sembra anche strano implicare Alessandro certamente Alessandro ha avuto dei momenti molto duri di scontro con suo padre ma io credo che i due si volessero bene in fondo al matrimonio di Cleopatra Alessandro incedeva vestito di bianco nel posto che competeva al principe ereditario al successore Alessandro era stato designato da Filippo come il suo successore Filippo aveva investito somme enormi per lui per la sua istruzione gli aveva regalato un cavallo che era costato 11 talenti il mitico Bucefalo che Alessandro aveva domato semplicemente rendendosi conto che il cavallo aveva paura della sua ombra l'aveva circondato di molte attenzioni l'aveva istruito per il suo futuro per la sua missione quindi sembra molto strano che si potesse arrivare a questo in più non bisogna dimenticare che quando Alessandro arrivò all'oasi di Siwa e cioè all'oracolo di Ammone la prima domanda che fece all'oracolo fu gli assassini di mio padre sono stati tutti puniti o qualcuno ancora è rimasto impunito il che a mio avviso la dice lunga sui sentimenti di Alessandro egli non poteva lasciare che nessuno fra coloro che erano stati implicati in questo assassino la facesse franga resta comunque il mistero purtroppo noi non sapremo mai a meno che non emergano nuove prove nuove testimonianze da fonti sconosciuti chi fu colui che armò la mano del sicario che quel giorno lontano del 336 avanti Cristo abbattè il grande Filippo II di Macedonia uno dei più grandi sovrani di tutti i tempi uno dei politici più accorti più intelligenti davanti proprio ai suoi delegati nel giorno del suo tripudio la cosa ebbe immediate e drammatiche conseguenze Alessandro rendendosi conto della gravità della situazione si precipitò a pella fiancheggiato dai suoi compagni dalla sua guardia del corpo entrò nel palazzo armato di tutto punto questo significava una cosa sola noi oggi diremmo lo stato di legge marziale cioè lo stato di massima allerta lo stato di coprifuoco e cioè leggi speciali situazione speciale tribunali militari Alessandro assunse quindi formalmente il potere come Alessandro III re dei macedoni e i suoi compagni gli si misero al fianco per sostenerlo in questo suo nuovo ruolo quello che accadde dopo è ancora qualche cosa di terribile sul quale non facilmente gli storici hanno tentato di far luce accadero cose terribili in quella notte certamente il bimbo di Euridice non superò le 24 ore dicono le fonti che la regina Olimpia infierì sulla madre e che Alessandro la riprese duramente per questo chiedendole perché che bisogno c'era di fare del male a quella povera ragazza che non poteva più nuocere fu quindi la regina madre a uccidere il giovane figlio di Euridice e di Filippo il bambino che era poi il fratellastro di Alessandro per toglierlo di mezzo perché non potesse avverarsi quell'augurio così sciagurato che aveva fatto Attalo speriamo che nasca un erede legittimo ma purtroppo le ombre c'erano perché mentre Euridice era macedone puro sangue la regina Olimpia era una straniera era un'epirota quindi c'era sempre stato questo senso un po' di rifiuto verso la straniera e quindi poteva anche esserci un gruppo di nobili macedoni che adottasse il bambino e ne facesse in qualche modo l'erede al trono comunque siano andate le cose è molto probabile dato quello che dicono le fonti che la regina si sia incaricata diciamo di questo lavoro sporco di togliere di mezzo il piccolo figlio di Filippo e di Euridice poco dopo morì anche in un incidente di caccia il cugino di Alessandro Archelao e non è difficile qui vedere che l'incidente sia stato ovviamente organizzato a bella posta mentre invece diciamo altri due cugini di Alessandro Aminta e un altro Alessandro tutto sommato non ebbero a temere nulla avrebbero seguito il re nella sua spedizione e soltanto molto più tardi furono coinvolti come vedremo nelle grandi epurazioni che seguirono gli attentati di cui Alessandro fu oggetto nella sua campagna nell'estremo oriente nell'India comunque siano andate le cose ormai il campo era libero Alessandro aveva assunto pieni poteri era il sovrano indiscusso l'erede indiscusso di Filippo ma se questo era evidente a pella e nei dintorni non lo era più né in Tracia né in Beozia né ad Atene De Mostene che era andato in una specie di volontario esilio nell'isoletta di Calauria rientra in Atene e infiamma gli animi gridando c'è un ragazzino sul trono di Macedonia è il momento di riconquistare la libertà perduta ora o mai più e incita appunto gli Atenesi a ribellarsi Alessandro che era infatti giovanissimo si dimostrò assolutamente all'altezza della situazione al nord erano andati perduti tutti i possedimenti in traccia i tribali e i geti si erano coalizzati e avevano dato alle fiamme le fondazioni di Filippo tra cui Filippopoli l'odierna Plovdiv Alessandro fece risalire la flotta lungo il Danubio da Bisanzio perché avendo attaccato in pieno inverno i geti e i tribali si erano rifugiati proprio su un'isola del Danubio Alessandro attaccò nel pieno di una tempesta egli fece delle zattere per attraversare il Danubio bloccò geti e tribali su questa isola e li massacrò poi fece ritorno nessuno più in quell'area ebbe il coraggio di ribellarsi a quel punto gli era giunta notizia che altri guai si profilavano all'orizzonte la cattiva notizia era che i tebani avevano assediato e bloccato la guarnigione macedone lasciata da Filippo sulla loro acropoli e minacciavano una strage perfino i tessali che erano da sempre alleati della Macedonia al punto che il re di Macedonia era anche il presidente diremmo noi oggi della lega tessalica si erano ribellati quando Alessandro si presentò per ottenere la loro adesione questi rifiutarono e schierarono l'esercito e anche qui Alessandro dimostrò che per lui non c'era nulla di impossibile fece tagliare una scala nella viva roccia nel monte ossa che era precipizio sul mare e fece passare la fanteria alle spalle del presidio tessalico quando arrivò l'ufficiale di Alessandro per trattare il passaggio e questi rifiutarono lui disse guardate che è meglio che vi giriate perché noi siamo già alle vostre spalle e così i tessali si arresero senza colpo a ferire e riaderirono alla lega con la Macedonia Alessandro in soli quindici giorni marciò dalle sponde del Danubio fino alle mura di Tebe chiese subito ai Tebani di aderire nuovamente alla lega panellenica di consegnare i responsabili della ribellione coloro che avevano eccitato gli animi per porre il blocco alla guarigione macedone e sterminarla al rifiuto dei Tebani che anzi lo presero in giro lo schernirono Alessandro si tramutò in una furia lanciò attacchi su attacchi finché a un certo punto uno dei suoi generali Berdicca riuscì a penetrare attraverso una posterla che era rimasta aperta e a dilagare all'interno della città fu un vero e proprio massacro la popolazione fu passata per le armi la città fu rasa al suolo i superstiti furono venduti come schiavi la città di Edipo e di Ercole una delle tre grandi città della Grecia una città che aveva le sue origini radicati in miti ancestrali antichissimi quello dei sette Controtebe per esempio più antico della guerra di Troia era cancellata dalla faccia della terra né mai più sarebbe risorta se non come ricostruzione assolutamente svincolata e separata ai tempi dell'imperatore Adriano la Grecia intera a mutoli quello che De Mostene aveva chiamato un ragazzino si era rivelato uno sterminatore implacabile un combattente tremendo contro il quale non c'era alcuna speranza di vincere Giovava invece rassegnarsi Alessandro non era certo più debole di suo padre anzi si era dimostrato ancora più forte a quel punto fu giocoforza riaderire alla Lega di Corinto che Alessandro riconvocò e di là proclamò la sua ferma intenzione di vendicare le invasioni persiane del 490 e del 480 i morti di Maratona delle Termopili di Salamina di Platea l'incendio dei templi greci era quindi la grande crociata contro un nemico secolare di cui Alessandro si proclamava il comandante il condottiero indiscusso quindi mise insieme un'armata un'armata di 40.000 uomini e 5.000 cavalli che si compose anche con gli effettivi che già erano in Asia al comando di Parmenione e di altri generali pronti a muovere la grande impresa stava per cominciare un'impresa che avrebbe lasciato il mondo col fiato sospeso io vi do appuntamento per domani alle 8 della sera sempre su Radio il prossimo crollo dell'impero persiano era stato secondo alcuni profetizzato da un oracolo un oracolo di Delfi che diceva il toro è incoronato la fine è vicina il sacrificatore è pronto e tutti avevano visto nel toro il sovrano Achemenide la sua fine imminente il sacrificatore era Filippo non vera dubbio purtroppo gli eventi dimostrarono assolutamente il contrario il toro incoronato era invece Filippo e sua la fine il sacrificatore Pausania che lo uccise nel teatro di Ege così come c'erano stati poi altri oracoli è interessante per noi soffermarsi su questo aspetto del mondo greco c'erano stati altri oracoli in occasione della distruzione di Tebe si era visto una grande ragnatela all'interno di un tempio una ragnatela che aveva la forma di un mantello e l'oracolo delfico aveva risposto gli dei mandano questo segno a tutti i mortali ai beoti in primo luogo e ai loro vicini poi era stato consultato l'oracolo ancestrale di Tebe che aveva detto la tela del ragno per qualcuno è un disastro per altri è un bene come potremmo mai pronunciarci l'oracolo delfico era sempre e per sua caratteristica ambiguo perché non poteva rischiare di sbagliarsi e perché doveva mantenere il suo prestigio Alessandro pure consultò l'oracolo delfico e siccome non era quello il momento previsto egli aveva costretto a viva forza la pizia la sacerdotessa a vaticinare la famosa pizia che veniva invasata dal dio secondo le credenze la pizia rispose irritata sei invincibile ragazzo non è possibile convincerti e lui rispose questo vaticinio mi è sufficiente e così Alessandro parte parte per questa enorme avventura che cosa lascia dietro di sé lascia la madre la madre Olimpia la quale era certamente molto legata a lui la quale certamente soffrì della sua lontananza però Alessandro che pure è legatissimo alla madre non lo è al punto da lasciarle un grammo di potere un briciolo di potere affida la gestione degli affari di stato al generalissimo Antipatro un vecchio ufficiale della guardia di suo padre un ufficiale appunto della vecchia guardia come era Parmenione perché si occupi della Macedonia e tenga l'occhio vigile sugli stati greci sempre insofferenti del protettorato macedone ha istruzioni di tenere la regina assolutamente fuori dalla politica di rispettarla di attribuirle tutti gli onori dovuti al suo rango ma di non lasciarle mettere il naso in politica evidentemente Alessandro conosceva molto bene la sua mamma lascia Aristotele lascia Aristotele il suo grande maestro l'uomo che aveva forse sognato di fare di quel giovane principe lo strumento di un particolare tipo di espansione della civiltà greca in luoghi molto più remoti di unificare forse tutta la grecità sotto un'unica egida si sa che non si rividero mai più forse ci fu un addio forse ci fu un saluto non lo sappiamo per un certo periodo però gli loro rapporti continuarono ad essere cordiali lasciò tutto quello che aveva gli dissero quando lui aveva lasciato tutti i suoi beni che cosa tieni per te rispose la speranza Alessandro lasciava anche il suo zio amico e omonimo Alessandro De Piro e anche cognato quindi immaginiamo la complessità di questi rapporti fra i due giovani Alessandro De Piro avrebbe ben presto compiuto a sua volta una grande impresa e cioè avrebbe invaso l'Italia sarebbe sbarcato in occidente dove pure il mondo greco aveva importantissimi centri quelli diciamo della Magna Grecia che ancora oggi sono città importantissime del Mediterraneo pensiamo a Napoli pensiamo a Reggio a Messina a Catania pensiamo a Siracusa e a tante tante altre bellissime città c'era un accordo fra i due noi sappiamo che purtroppo la spedizione di Alessandro De Piro ebbe un esito in Fausto il giovane sovrano ebbe all'inizio una serie di travolgenti successi si alleò addirittura coi romani contro i sanniti e i lucani ottenendo veramente i grossi risultati poi l'anno dopo cadde in un'imboscata e perse la vita c'era un accordo c'era stato fra i due Alessandri un un trattato un accordo cui uno avrebbe dovuto andare a occidente e l'altro a oriente forse per incontrarsi da qualche parte dall'altra parte della terra chi lo può dire è molto probabile quasi tutti gli studiosi pensano che lo sbarco di Alessandro De Piro in occidente che poi sarebbe stato emulato molti anni più tardi dall'altro sovrano epiroto il famoso Pirro re dell'Epiro con i suoi elefanti fosse proprio un'avanguardia in ogni caso del più potente cognato e sta di fatto poi come vedremo che parecchi anni dopo si era diffuso molto fermento tra le colonie greche d'occidente per l'imminente arrivo di Alessandro i due non si rividero mai più la giovane Cleopatra la sorella di Alessandro rimase vedova dopo meno di due anni di matrimonio Alessandro quindi sbarcò sul continente asiatico aveva 40.000 uomini altri 5.000 lo aspettavano sul suolo asiatico al comando dei generali di suo padre e 160 navi da guerra che in gran parte erano costituite dalla flotta ateniese Atene un alleato non molto comodo un alleato in parte riluttante un alleato forse anche in fido ma assolutamente necessario proprio perché la spedizione di Alessandro doveva avere una protezione dalla parte del mare dove la flotta dell'impero persiano era potentissima con le sue unità da battaglia i suoi equipaggi fenici siriaci cari misi e ioni Alessandro quindi sbarca in Asia e che cosa fa subito la creazione di un evento che noi oggi chiameremmo mediatico Alessandro è un grandissimo comunicatore e gli porta con sé oggi diremmo un imponente ufficio stampa ha uno storico ufficiale Callistene che è il nipote di Aristotele ha un gruppo di cronisti incaricati di redigere il diario quotidiano della spedizione e sappiamo che poi il suo ingegnere capo Aristobulo avrebbe scritto una storia il suo amico Tolomeo avrebbe scritto una storia il pilota della nave reale Onesicrito l'ammiraglio supremo Nearco un'imponente grandiosa documentazione Alessandro voleva che il mondo intero sapesse quello che stava per accadere tra le cose che Alessandro portava con sé nel suo avventuroso viaggio in Asia c'era un libro che cos'era questo libro erano i poemi omerici soprattutto l'Iliade in una preziosa edizione che gli era stata regalata personalmente dal suo maestro Aristotele questa preziosa edizione era chiamata l'edizione della cassetta perché appunto gli era stata regalata in confezione di lusso diremmo noi oggi in un prezioso cofanetto di legno intagliato e dicono che Alessandro tenesse questo libro sotto il cuscino che non andasse mai a dormire senza prima averne letto una parte perché perché il suo idolo era Achille il guerriero bollente il guerriero collerico che apre proprio lo scenario dell'Iliade con quei famosi versi cantami odiva del pelide Achille l'ira funesta ecco Alessandro era veramente convinto di discendere da Achille per parte di madre infatti il figlio di Achille Pirro era stato il fondatore secondo il mito della dinastia Epirota da cui veniva sua madre e per parte di padre da Ercole per la dinastia degli Argeadi e questa sua discendenza mitica era per lui probabilmente un fatto concreto un fatto reale che influiva fortemente sui suoi sogni sulle sue fantasie sulla sua progettualità certo Alessandro è anche un uomo di grandissima razionalità quindi è molto difficile per noi interpretare le sue azioni stagli agendo per impulso per pathos per collera per trasporto oppure in base a un calcolo ben studiato è difficile saperlo anche perché purtroppo le fonti originali sono andate perdute sta di fatto che il suo sbarco in Asia comincia con un evento che noi veramente oggi chiameremmo mediatico davanti a tutto l'esercito schierato Alessandro nudo corre più volte attorno al tumulo di Achille mentre Effestione anche egli nudo corre attorno al tumulo di Patroclo quindi Achille e Patroclo Alessandro ed Effestione siamo di fronte quindi a una nuova coppia eroica Alessandro si propone come il nuovo Achille la guerra di Troia che aveva portato la Grecia contro l'Asia di nuovo incomincia si ripete con impiego di forze non minore con una determinazione di andare ben oltre l'impresa di Agamennone quegli aveva preso una sola città dopo dieci anni di assedio Alessandro invece avrebbe conquistato l'Asia intera perché nudi perché è la nudità eroica la iconografia ellenica ci presenta sempre nella nudità gli eroi e gli dèi come noi rappresentiamo i santi con l'aureola ecco se noi vediamo una figura con un'aureola sul capo diciamo è un santo oppure è una madonna eccetera eccetera una figura rappresentata nella nudità integrale significa appunto un eroe o un dio e Alessandro poi sarebbe stato considerato l'uno e l'altro quindi ecco l'uso della mitologia in funzione propagandistica il mito fa parte profondamente della cultura dei greci è un elemento fondante e quindi il mito viene sempre chiamato in causa per le sue valenze politiche quindi Alessandro qui non è semplicemente un avventuriero egli è l'erede di Achille egli è il discendente di quell'eroe che aveva portato la guerra sotto le mure di Troia e a buon diritto egli di nuovo sbarca in quella terra per compiere un'impresa ben più grande dopo diciamo aver ufficiato questa solennissima cerimonia ecco che Alessandro procede verso oriente gli hanno detto che un'armata persiana si sta concentrando a non molta distanza Alessandro in primo luogo vuole assicurarsi l'amicizia e la fedeltà delle colonie greche nella zona degli stretti in particolar modo di Abido e di Cisico Cisico in particolare è fondamentale perché perché Cisico batte moneta le sue monete sono famose sono i cosiddetti Cisiceni hanno un titolo d'argento eccellente per cui sono accettati come moneta di scambio come diremo noi oggi il dollaro o l'euro non lo so proprio come moneta di scambio internazionale non solo ma l'impero persiano utilizza quella zecca proprio per battere moneta e pagare i suoi numerosi mercenari quindi Alessandro è molto attento molto cauto nel fare le sue mosse sulla vasta scacchiera che ha di fronte di fronte poi abbiamo un nemico un avversario molto temibile il comandante delle armate persiane è un greco si chiama Memnone di Rodi è un soldato mercenario è un soldato di mestiere ma un uomo di grandissimo onore il quale dà la parola una volta sola e una volta che ha dato la parola vi mantiene sempre fede la sua patria è la sua spada il suo pane è la sua lancia come avrebbe detto Archiloco ed è un uomo di grande esperienza Alessandro forse lo teme certamente sa che lo deve trattare con molta cautela deve stare molto attento a non scoprirsi sembra che il piano di Memnone fosse quello di attirare Alessandro lontano dalla costa di fare terra bruciata dietro di sé fino a che il suo esercito fosse affamato e sfinito e allora vibrare il colpo di maglio ma avrebbe trovato l'intransigente opposizione dello stato maggiore persiano l'alto comando si riunisce in una valle dell'Anatolia settentrionale e prende una decisione questo ragazzo presuntuoso va fermato e va duramente punito non bisogna ritirarsi perché mai incendiare le proprietà perché mai incendiare i villaggi e le ville fare cioè al proprio territorio più male di quanto non gli farebbe il nemico meglio fermarsi meglio affrontarlo e sconfiggerlo una volta per tutte i fatti dimostrarono che Memnone aveva ragione e che loro avevano torto ma tant'è quella fu la decisione e si stabilì di schierare l'armata sulle sponde del fiume granico un piccolo corso d'acqua della Bitinia lì le rive erano abbastanza precipiti le sponde erano di argilla inzuppata d'acqua perché era piovuto molto negli ultimi giorni quindi molto difficile per la cavalleria e quindi sembrava il luogo ideale Alessandro non si fece pregare e decise di andare all'appuntamento le fonti soprattutto calistene da cui derivano le nostre fonti bisogna qui ricordare lasciate che faccia una parentesi di tutto questo immenso apparato mediatico diremmo noi oggi al seguito di Alessandro nulla è pervenuto non è pervenuta una sola riga tutto quello che abbiamo cioè la storia di Ariano di Plutarco di Diodoro di Curzio Rufo è di 300 anni successiva quindi è sempre un po' difficile fare delle ricostruzioni accurate in ogni caso è molto probabile che l'esercito persiano non fosse così sovrabbondante così di schiacciante superiorità come ci hanno tramandato le fonti è probabile anzi che fosse un po' meno numeroso di quello di Alessandro alla vigilia della grande battaglia io vi saluto vi do appuntamento per domani sera su Radio 2 alle 8 della sera come era composto l'esercito che Alessandro si apprestava a condurre contro il suo avversario contro Memnol di Rodi contro Reo Mitre il satrapo e contro l'armata persiana che gli si opponeva era composto delle unità della fanteria pesante la falange dei pezzeteri dei compagni del re a piedi era composta da diverse unità di cavalleria dei nobili cioè gli eteri i compagni del re a cavallo e da un certo numero di truppe ausiliarie cioè c'erano reparti di fanteria pesante dei greci che rappresentavano un po' quasi tutte le polis della lega panellenica a parte Sparta Sparta non aveva voluto aderire diciamo che aveva ignorato Alessandro non gli si era messo contro non gli aveva neanche aiutato e gli spartani avevano risposto che loro erano abituati a guidare gli altri non a essere guidati e quindi non erano interessati a prendere parte alla spedizione in più aveva degli altri ausiliari erano soprattutto genti delle montagne aveva questi traci triballi o drisi e gli agriani veri e propri gurca dell'esercito di Alessandro erano barbari dell'interno sanguinari dalle folte chiome rossicce dai volti lentiginosi che entravano in battaglia con urla disumane che addirittura si battevano con morsi e calci se necessario e quindi truppe temibilissime truppe d'assalto che spargevano il terrore tra le file nemiche e passavano poi a finire i feriti ad uccidere tutti quelli che ancora non erano morti aveva poi un ottimo stato maggiore al suo fianco c'erano due generali della vecchia guardia di Filippo e cioè Parmenione con i suoi tre figli e Clito detto il nero Clito era il fratello della sua nutrice quindi l'aveva si può dire tenuto in braccio da ragazzino era un guerriero formidabile un cavaliere animoso e abilissimo ed era un ottimo colonnello diremmo noi oggi un ottimo comandante di reparto fedele determinato poi c'era la nuova generazione degli ufficiali macedoni ed erano i compagni di Alessandro e cioè Perdicca Tolomeo Seleuco Lisimaco c'era Filota il figlio di Parmenione eccetera e ovviamente Efestione sappiamo che Efestione era legato ad Alessandro da più che un'amicizia cioè i due giovani erano amanti e si sapeva cioè era una cosa ben nota anche se Alessandro poi come vedremo avrà svariate avventure con diverse donne avrà dei figli e sarà anche sposato dall'altra parte appunto Memnone di Rodi ma soprattutto i generali persiani che erano anche i governatori delle province dell'Anatolia occidentale difficile stabilire esattamente che cosa sia accaduto proprio perché sembra che le nostre fonti si siano soprattutto basate sulla relazione di Callistene Ptolomeo probabilmente comincia a scrivere più tardi Ptolomeo che è senz'altro il più affidabile e che un giorno sarebbe diventato il fondatore della dinastia destinata a governare l'Egitto per quasi 300 anni probabilmente Ptolomeo non ha forse ancora stabilito di scrivere una grande storia forse lascia per il momento il campo a Callistene che appunto fa una relazione sicuramente molto encomiastica esagera il numero dei persiani che porta a più di 100.000 mentre probabilmente dovevano essere un po' meno dell'esercito di Alessandro e poi fa compiere ad Alessandro una manovra arditissima quella di attraversare a cavallo le acque impetuose del granico e affrontare frontalmente l'armata persiana schierata dall'altra parte questo sembra difficile da credere è più probabile invece che Alessandro abbia adottato una diversa strategia è molto probabile anzi forse anche dimostrabile che Alessandro era un grande lettore leggeva molto leggeva di tutto e sicuramente in procinto di intraprendere la sua grande spedizione asiatica aveva letto o leggeva dei testi adatti tra i quali quasi certamente l'anabasi di Senofonte che era un diario di una spedizione che aveva avuto luogo 70-80 anni prima intorno al 401 avanti Cristo un gruppo di mercenari greci era stato assoldato da un principe persiano per spodestare il fratello erano arrivati fino alle soglie di Babilonia lì il principe Ciro era stato ucciso loro erano sopravvissuti ed erano riusciti a ritornare a casa dopo una interminabile marcia lungo 6.000 km di quella marcia di quell'avventura è rimasto un diario appunto l'anabasi scritta dall'atenese Senofonte e sicuramente Alessandro l'aveva letta e la leggeva con diligenza perché era la prima e unica esperienza che in qualche modo richiamava quella che lui stava intraprendendo ora nell'anabasi proprio si dice che i persiani hanno una strana usanza e cioè che di notte quando si accampano sciolgono i cavalli tolgono il morso e i finimenti e li impastoiano quindi dice Senofonte nel caso di un attacco improvviso è per loro molto difficile reagire perché devono mettere i finimenti al cavallo mettere il morso togliere le pastoie finalmente montare e lanciarsi alla carica è molto probabile che Alessandro sapesse di questa cosa quindi un'ipotesi molto probabile è che lui abbia mandato dei commando a far fuori diciamo le sentinelle a togliere di mezzo le sentinelle abbia passato il fiume col favore ancora delle tenebre e poi abbia lanciato l'attacco contando appunto sulla parziale impreparazione della cavalleria persiana durante la notte certo una battaglia ci fu i persiani reagirono la battaglia fu terribile e fu risolta comunque alla fine dalla cavalleria abbiamo nelle fonti dei flash proprio dei primi piani di Alessandro in battaglia come è giusto che sia da un certo punto di vista anche se noi avremmo voluto avere più particolare invece più vista aerea diremo noi oggi dei movimenti delle truppe sta di fatto che Alessandro viene ferito da un gran colpo di spada che gli spacca l'elmo e gli incide il cuoio capelluto il suo avversario sta per finirlo quando un colpo di Clito il nero che gli avvicino trancia di netto il braccio dell'aggressore Clito poi un giorno ricorderà ad Alessandro di avergli salvato la vita in questo frangente e i greci le truppe greche al comando di Memoli di Rodi resistono combattendo con enorme valore e subiscono alla fine pesantissime perdite e anche poi i prigionieri verranno eliminati Alessandro non poteva perdonare greci che combattono contro dei greci non forse per un fatto sentimentale non probabilmente per un fatto personale idealistico ma piuttosto per un fatto ideologico Alessandro giustificava la sua grande spedizione come crociata contro i persiani come spedizione di tutto il mondo ellenico contro il nemico di sempre quindi non poteva assolutamente tollerare di lasciare in vita dei greci che avevano scelto di combattere contro dei greci Memnone si salvò e alla fine Alessandro se lo sarebbe ancora trovato contro sempre più agguerrito sempre più determinato sempre più minaccioso è probabile che l'esercito che si oppose ad Alessandro sul granico non fosse di altissimo livello a parte i mercenari greci al comando di Memnone di Rodi che erano professionisti preparati e determinati gli altri dovevano essere truppe raccolte un po' all'ultimo momento tra le quali forse c'erano anche reparti di elite ma probabilmente di impatto e di dimensione limitata sta di fatto comunque che la vittoria fu clamorosa che creò un enorme entusiasmo e la notizia poi fu subito sparsa in Grecia furono mandati messaggeri dovunque perché si sapesse del grande successo di Alessandro furono scelte le stoffe più belle dalla preda per essere mandate alla regina madre un pensiero appunto per la regina Olimpias poi furono scelti alcune delle armature più belle e furono mandate ad Atene per essere dedicate sull'acropoli questa offerta venne accompagnata con una scritta Alessandro e i greci ad eccezione degli spartani dedicano agli dèi questa preda tolta ai persiani era uno schiaffo a Sparta che non aveva voluto unirsi alla spedizione panellenica e al tempo stesso una celebrazione un trionfo per l'impresa di Alessandro sconfitti i persiani al granico Alessandro si mise a discendere la costa qual era il suo progetto egli pensava che la sua flotta non fosse abbastanza grande da poter competere con quella dei persiani e in ogni caso era costosissima perché gli equipaggi andavano stipendiati il noleggio sostanzialmente andava pagato agli ateniesi che la fornivano e quindi egli pensava di escludere la flotta persiana del Mediterraneo semplicemente tagliandola fuori da tutti i porti e così con incredibile determinazione città per città egli si mise ad inanellare assedio dopo assedio conquista dopo conquista per espellere appunto la flotta persiana dalle sue basi prima dell'Egeo e poi dal Mediterraneo Efeso lo accolse come un trionfatore e lì egli si concesse un po' di riposo lo raggiunsero due grandissimi artisti uno era Lisippo l'unico scultore dal quale Alessandro si lasciasse ritrarre un suo magnifico ritratto un busto ora conservato nel Nickarsberg Museum di Copenhagen da un originale di Lisippo ci fa vedere forse il primo ritratto per il quale Alessandro posò bellissimo lo ritrae giovane forse sedicenne diciasettenne ovviamente molto idealizzato Alessandro avrà avuto forse anche qualche brufolo a quell'età che certamente non appare nella meravigliosa levigata superficie dell'opera Lisippea ebbene Lisippo viene richiamato viene richiamato con quale con quale compito col compito di ritrarre i compagni di Alessandro caduti nella prima grande carica del granico è la cosiddetta torma di Alessandro con tredici figure a cavallo con lo stesso Alessandro fusa in bronzo che avrebbe dovuto essere poi schierata in un sacrario in un grande sacrario in Macedonia perché per sempre rimanesse il ricordo di quegli eroi si sa che quel gruppo fantastico fu portato a Roma dai romani dopo la conquista della Macedonia ed esposto sotto il portico di Ottavia è probabile che una statuina di bronzo che ritrae Alessandro a cavallo mentre scaglia la lancia del museo nazionale di Napoli sia una piccola copia dell'originale che appariva in questo grandioso gruppo statuario e poi venne Apelle il grande pittore e voleva ritrarre Alessandro come Zeus col fulmine in mano Apelle era il più grande pittore probabilmente del suo tempo dipingeva come diciamo i nostri pittori del quattrocento su tavola linea e per questo purtroppo nulla della sua arte ci è pervenuta così come non è pervenuto nulla degli altri pittori suoi contemporanei sappiamo che egli però prediligeva i violenti chiaroscuri e prediligeva i grandi effetti scenici si racconta un episodio abbastanza divertente a questo proposito Apelle stava rappresentando Alessandro a cavallo stava costruendo un grandioso dipinto di Alessandro a cavallo e voleva tentare di rendere con grande realismo la bava sanguigna di bucefalo attorno appunto al morso ma per quanto facesse il risultato era sempre insoddisfacente a un certo momento colto da stizza afferrò la spugna intrisa di un po' di tutti i tipi di colore e la scagliò contro il quadro la spugna andò proprio a colpire il punto in cui si vedeva il morso di bucefalo lasciando questa impronta sanguigna questa spuma sanguigna completamente casuale che poi lo fece celebrare come uno dei suoi più alti virtuosismi e addirittura a pelle era stato chiamato in causa quando Alessandro aveva avuto la sua prima esperienza con una donna era un etera cioè una ragazza diciamo di compagnia che si chiamava pancaspe era così bella che Alessandro aveva chiesto ad a pelle di farle un nudo che lui voleva portare con sé durante le sue spedizioni durante i suoi viaggi ma poi si era accorto che questo ritratto non veniva mai completato che tirava molto per le lunghe e scoprì che era accaduto una cosa molto normale e cioè che il pittore si era innamorato della modella a quel punto resosi conto della situazione fece ad a pelle una proposta che non poteva rifiutare gli disse completami il quadro io non ti pagherò il quadro lo terrò per me e io però ti lascerò la ragazza il pittore accettò e da quel momento la bella pancaspe divenne la sua compagna fissa nel ritratto che gli propose di fare ad Alessandro ad Efeso lo voleva appunto ritrarre come Zeus con in mano la folgore e addirittura dicono le fonti che egli avrebbe iscurito i toni di colore di tutto il quadro per dare alla folgore il bagliore più accecante quindi certamente sono aneddoti ma che ci fanno pensare ad un grande virtuosismo di questi pittori del primo ellenismo forse un po' paragonabile ai nostri grandi pittori del cinquecento Alessandro prosegue nella sua avanzata ad Efeso egli però non fa nessun tipo di rappresaglia ripristina le istituzioni democratiche anche se questo poi si conclude con un bagno di sangue perché i signori gli oligarchi si identificavano anche con i collaborazionisti cioè erano quelli che collaboravano con il governo persiano e quindi doppiamente traditori doppiamente oppressori e vennero appunto massacrati dalla popolazione finché poi Alessandro non pose fine a questi disordini ripristinando la legalità dopodiché avanzò verso Mileto altro porto importantissimo altra città importantissima che aveva poi anche dato origine ad una grande corrente scientifica grandi correnti filosofiche era un po' una vera metropoli anche Mileto cadde restava una fortezza considerata imprendibile Alicarnasso e dentro a quelle mura Memnone di Rodi io con questo vi lascio vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 8 della sera sempre su radio Alicarnasso era una fortezza formidabile era retta da un dinasta locale che ricopriva però anche la carica di satrapo per conto dei persiani Alessandro addirittura era stato sul punto di sposarne una figlia qualche mese prima quando Filippo era ancora vivo poi la ragazza era stata invece proposta al fratellastro di Alessandro Filippo Arrideo mezzo scemo poi alla fine non se ne era fatto nulla qui appare anche un personaggio molto strano molto particolare c'è la regina Ada la quale era in effetti la regina di Caria sorella oltre che moglie del regnante però era stata estromessa dal potere e quindi in qualche modo per rifarsi e per vendicarsi si presentò ad Alessandro offrendogli il regalo la fortezza di Alinda che era la chiave proprio per l'interno dell'Anatolia in cambio chiedeva che Alessandro diventasse suo figlio cioè una specie di adozione è una cosa abbastanza curiosa addirittura gli mandava dolci gli mandava i suoi cuochi biscotti le corne di ogni sorta finché Alessandro le rispose con una letterina dicendo che il miglior condimento per la colazione era una marcia notturna che lui era abituato a cibi semplici e per nulla ricercati e che quindi la ringraziava e la invitava insomma a non insistere però poi come vedremo Alessandro accettò il regalo della regina Ada e addirittura poi la ricambiò con una carica molto importante ad Alicarnasso si era trincerato Menone e sperava appunto anche nell'appoggio della flotta persiana la città aveva una cinta di mura molto possente aveva un porto fortificato fiancheggiato da torri e all'interno un monumento straordinario che gli antichi avevano annoverato tra le sette meraviglie del mondo e cioè il famoso mausoleo prendeva il nome da mausolo il fondatore di questa dinastia il cui corpo riposava all'interno di questo grandioso monumento fatto di una gradinata di un colonnato che poi sorreggeva una specie di piramide sulla quale stava un carro trionfale con l'immagine del sovrano una statua che rappresenta mausolo è conservata al British Museum di Londra e qualcuno pensa che si tratti proprio dell'immagine che stava sul carro trionfale in cima alla piramide ma è altamente improbabile portare un gruppo marmore a quell'altezza sarebbe stato quasi impossibile e quasi certamente invece si sarà trattato di un bronzo e come tutti i bronzi poi soggetto nei secoli al riciclaggio e quindi a sparire sembra invece che questa statua fosse all'interno del monumento che resistette fino al medioevo quando fu demolito per costruire il castello dei cavalieri di San Giovanni prima altre fortificazioni e poi anche in parte per costruire il castello dei cavalieri di San Giovanni così è stata la fine di molti monumenti dell'antichità gli abitanti all'Icarnasso si difesero con tutti i mezzi possibili e immaginabili e lì veramente Alessandro arrivò al punto di pensare che la sua avventura fosse finita per prima cosa Memnone di Rodi fece scavare un'enorme trincea davanti alle mura dalla parte di terra la cui funzione era di impedire ad Alessandro di avvicinarsi con le macchine da guerra le quali stavano giungendo con la flotta smontate venivano poi a un certo punto sbarcate in una località deserta della costa e poi riassemblate quando le macchine furono in vista si potesse procedere all'operazione di assemblaggio Alessandro fece riempire la trincea mentre i difensori bombardavano gli operai con ogni sorta di missili e questi venivano riparati a volte dagli scudi dei combattenti a volte da tettoie e da altri marchigegni deve essere stato veramente uno spettacolo da mozzafiato vedere le operazioni d'assedio di questa fortezza macchine enormi torri d'assalto arrieti che martellavano le mura giorno e notte a turno perché la gente non potesse dormire non potesse riposare non avesse mai un momento di tregua poi a un certo punto quando Alessandro fu quasi sul punto di aprire una breccia ci fu un'incursione dei difensori che diede fuoco alle macchine d'assedio e le bruciò allora Alessandro dovette ricostruire le macchine poi quando finalmente di nuovo ebbe abbattuto a colpi d'arriete uno dei bastioni scoprì che all'interno era stato costruito un altro bastione e all'interno di questo ancora era stata innalzata una torre che scagliava proiettili a grande distanza missili infuocati e altri ordini fu veramente un duello all'ultimo sangue e solo dopo parecchi mesi d'assedio gli assalitori riuscirono ad aprire una breccia sufficientemente larga ma quando furono all'interno veramente bisogna considerare che Memnone era indomabile quando erano già all'interno e avevano presidiato la breccia preparandosi poi all'ingresso definitivo nella città Memnone fece dar fuoco a tutte le case che stavano a ridosso delle mura approfittando del vento di mare quando cominciò a soffiare il vento di mare egli fece dar fuoco alle case che stavano a ridosso delle mura per cui si alzò un incendio tremendo che rischiò di sloggiare gli uomini di Alessandro dalla breccia e quindi permettere agli abitanti all'incarnasso agli uomini di beno di riprenderne il possesso Alessandro lanciò allora i suoi genieri i quali abbatterono anche con l'uso di macchine da guerra le case vicine uccidevano chiunque fosse visto in giro a piccare il fuoco e creare una specie di banda frangifuoco che permise ai soldati macedoni di attestarsi all'interno delle mura in modo saldo e di dominare la situazione presidiando la breccia d'ingresso a quel punto la città era alla sua mercè Memlione di Rodi si ritirò verso il porto e poi con gli ultimi superstiti si imbarcò su alcune unità della flotta persiana Alessandro fece demolire un certo numero di abitazioni per far avanzare le macchine da guerra fino alle fortezze del porto e questo fece sì che si diffondesse la notizia che lui aveva raso al suolo la città in realtà questo non è vero e anzi quando ebbe terminato l'occupazione richiamò la regina Ada e le offrì di governare la Caria e Alicarnasso per conto suo Alessandro aveva attraversato con la sua armata la Frigia la Misia la Lidia e ora si trovava in Caria davanti a lui c'era un cammino molto impervio dopo la Caria veniva infatti la Licia dove le montagne arrivano praticamente a ridosso del mare in modo precipite tanto è vero che ancora fino a pochi anni fa quella zona dell'attuale Turchia era accessibile soltanto alla navigazione del di porto cioè le barche a vela che la costeggiavano e magari potevano prendere terra in qualche caletta e consentire visitatori di camminare nell'interno è un'area veramente spettacolare di montagne altissime cosparsa di antichi centri come Xanto come Aspendo come Faselide che ancora conservano dei resti bellissimi imponenti addirittura nella zona di Marmaris oggi possiamo vedere le tombe lice che arrivano fino dentro al mare lì c'è stato un fenomeno di bradissismo e qui si verificò un altro episodio che moltiplicò smisuratamente la fama di Alessandro non solo egli aveva ormai preso tutte le città dell'Aionia in presa che non era mai riuscita a nessuno in precedenza e che era sempre stato il casus belli quella appunto dell'indipendenza delle città Ioniche dal Gran Re ma addirittura si spingeva oltre e si scoprì che c'era un passaggio molto pericoloso a mare praticamente un poco più di un sentiero tagliato nella viva roccia ma battuto dalle onde che poteva diventare pericolosissimo sia perché era scivoloso per le alghe sia perché in caso che il mare fosse appena un poco mosso poteva trascinare giù uomini e cavalli forse per un fenomeno naturale anzi senz'altro per una eccezionale bassa marea e un'eccezionale bonaccia Alessandro riuscì a passare senza colpo ferire senza alcun problema senza perdita di nessun genere e ovviamente forse la penna cadulatrice di Callistene fece sapere che perfino il mare aveva obbedito ad Alessandro e si era ritirato davanti a lui ora egli procedeva verso l'interno qui era anche una terra di eroi la licia i lici nell'epopea omerica erano alleati di Priamo l'eroe Sarpedonte e l'eroe Glauco provenivano da questa terra erano appunto genti anelleniche ma limitrofe che in qualche modo erano lambite e interessate dal mito omerico Alessandro qui punta verso l'interno ed è qualche cosa che non era praticamente mai stato fatto in precedenza i greci si erano dati in Anatolia una specie di diciamo di confine alla loro possibile espansione ed era il confine che era stato anticamente del mitico regno di Lidia quello di Creso quello appunto di questi grandi re noti per la loro ricchezza e questo confine era il fiume Alis cioè il moderno Chizilirmac che si getta nel Mar Nero diciamo la zona di Ancara quindi l'Anatolia centrale l'altopiano centrale quello per i greci era l'estremo limite l'estremo limite verso Oriente e quando durante la rivolta dell'Aionia prima che cominciassero le guerre persiane Aristagora di Mileto era venuto a Sparta a chiedere aiuto e addirittura a chiedere che si marciasse fino a Susa che distava tre mesi di marcia dal mare il re Cleomene I rispose non chiedi cose buone a un greco se gli chiedi di allontanarsi più di tre mesi di marcia dal mare viene da chiedersi se Alessandro a questo punto della sua spedizione sapesse già esattamente dove voleva arrivare certo una risposta sicura non può essere data non possiamo sapere esattamente che cosa volesse fare però certo non intendeva fermarsi a quei confini diciamo che tradizionalmente il mondo greco si era assegnato era un mondo fatto di città costiere di insediamenti in piccole cale o in magnifici porti naturali ma non era un tipo di insediamento che si spostasse verso l'interno diceva Aristotele il maestro di Alessandro diceva siamo come rane attorno a uno stagno e in effetti da un certo punto di vista aveva ragione Alessandro punta decisamente verso il nord e davanti a sé manda il generale Parmenione il fido Parmenione il generale della vecchia guardia il vecchio guerriero aveva ormai 67-68 anni ancora durissimo ancora saldissimo egli marcia a nord precede Alessandro nell'altopiano dove oggi sorge la capitale della Turchia Ancara e lì ci sono una serie di strani avvenimenti viene catturato un messaggero del re di Persia il quale vorrebbe proporre ad Alessandro il cugino appunto del re secondo altri Adaminta vorrebbe proporre il regno di Macedonia in cambio dell'assassinio di Alessandro c'è un scambio di messaggi in cifra tra Parmenione e Alessandro stesso e poi alla fine diciamo la cosa si risolve in maniera abbastanza tranquilla cioè non avviene nessun bagno di sangue però è probabile che Alessandro già da questo momento da questi primi sospetti di cui poi non fu possibile trovare la prova cominciasse ad aver paura cominciasse a preoccuparsi in realtà lui era stato presente al regicidio cioè all'assassinio di suo padre quella scena doveva essere rimasta molto impressa nella sua mente qui poco prima diciamo di arrivare nella città che oggi si chiama Ancara Alessandro si ritrovò in un grande santuario molto famoso della Frigia che era quello di Gordio e qui avvenne un episodio che fa parte di tutta l'anedottica meglio nota sul condottiero macedone la storia del famoso nodo di Gordio che cos'era il nodo di Gordio Gordio era una città tempio e cioè come oggi sarebbe Lourdes ma una città santuario la città era sorta e si era sviluppata attorno ad un grande santuario che era il santuario della gran madre degli dèi che aveva anche un bellissimo tempio a Sardi per esempio qui veniva custodito il carro di Mida altro famoso re della Lidia il re Mida noto per la famosa leggenda secondo la quale aveva ottenuto avendo fatto un favore al dio Bacco Dioniso aveva ottenuto una ricompensa ma aveva chiesto una cosa molto stolta cioè che tutto quello che toccava diventasse oro quindi poi aveva rischiato di morire di fame Dioniso aveva soddisfatto poi il suo pentimento ma in cambio gli aveva lasciato due belle orecchie d'asino qui c'era questo mitico carro di Mida e una profezia chi avesse sciolto il nodo che legava il carro al timone sarebbe divenuto il dominatore dell'Asia dopo una serie di tentativi infruttuosi Alessandro si trovò nell'imbarazzante condizione di non riuscire a sciogliere il terribile nodo allora ebbe un lampo di genio sguainò la spada e con un gran colpo tagliò il nodo in due e il timone cadde a terra con gran rumore Alessandro aveva sciolto il nodo di Gordio l'Asia si apriva di fronte a lui e con questo io vi do appuntamento a domani sera sempre alle 8 della sera sempre su radio a questo punto Alessandro punta a sud e cioè vuole lasciare evidentemente la zona degli altipiani anatolici e inoltrarsi in quello che oggi noi chiamiamo il vicino oriente cioè l'area della cosiddetta mezzaluna fertile quella delle grandi civiltà mesopotamiche e della terra del Nilo per accedere all'area siriaca c'è uno sbarramento prima Alessandro attraversa diciamo la steppa centrale dell'Asia minore passando molto vicino al lago che gli antichi chiamavano Tatta e che oggi si chiama Tusgelu è un lago di pochissima profondità molto salato che deposita uno strato di sale per decine 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 di chilometri con un effetto assolutamente straordinario dice Strabone che gli abitanti del luogo mettevano delle statuine perché si coprissero di sale e le vendevano ai visitatori diremmo appunto dei souvenir per i turisti poi c'era la catena del Tauro la catena del Tauro che orla in tutta la zona sud la penisola dell'Asia minore sono montagne molto alte molto aspre e il passaggio è un passaggio obbligato bisogna attraversare una strettoia che gli antichi chiamavano porte di Cilicia e che ancora in parte si conserva nel nome turco di Gilek Bogaz Gilek appunto Cilicia Bogaz vuol dire porta il passaggio era così angusto che secondo le fonti antiche poteva transitare solo un animale da Soma bardato non due poi questo passaggio era stato in parte allargato in seguito fu allargato ancora però ancora 15 anni fa ancora 15 anni fa la strettoia delle porte Cilice era veramente impressionante passava una strada stretta bisognava dare la precedenza e cioè se c'era un autocarro un'automobile o una jeep non poteva passare quindi veramente si aveva l'impressione fisica di questo sbarramento di questa porta che si apriva verso il mondo siriaco e mesopotamico un presidio di non moltissimi uomini ben motivati e ben guidati avrebbe potuto inchiodare Alessandro forse per mesi ma ormai si era sparso il panico lui diffondeva sempre di più questo suo mito di guerriero invincibile il mare che aveva ceduto il passo di fronte a lui il nodo di gordio che era stato sciolto con un colpo di spada era una comunicazione mediatica continua e anche se a quell'epoca non c'erano né radio né televisione però le voci correvano e come e correndo si ingigantivano spargendo sempre di più il panico e infatti gli uomini che presidiavano le porte di Cilicia per conto del satrapo di quella regione fuggirono come lepri al primo apparire di Alessandro e dei suoi uomini cosicché il giovane re macedone potè scendere agevolmente verso Tarso Tarso la conosciamo tutti perché è nota per essere la patria di San Paolo che sarebbe nato 250 anni dopo qui Alessandro arrivò senza colpo ferire eppure accade un incidente che avrebbe potuto costargli la vita era molto caldo Alessandro era sudato aveva anche mangiato molto volle assolutamente fare un bagno nel fiume il fiume Cidno che attraversa quella zona ma il fiume è molto breve ed è fatto diciamo è alimentato da acque che vengono dagli scioglimenti delle nevi del Tauro e che non fanno a tempo a riscaldarsi perché è troppo breve è il percorso che giunge al mare Alessandro fu preso da una congestione e rischiò di morire fu dato per morto più morto che vivo Alessandro fu condotto al suo alloggio fu chiamato d'urgenza il suo medico Filippo che era un allievo di Nicomaco il quale cominciò a curarlo noi non sappiamo che cosa abbia fatto può darsi che abbia usato degli emetici può darsi che abbia usato dei rimedi naturali c'erano anche a quel tempo medici che praticavano da un lato una medicina ufficiale dall'altra anche una medicina che noi oggi chiameremmo più naturale e più sperimentale sembra che questo Filippo avesse comunque una grande reputazione Alessandro cominciò lentamente lentamente a migliorare forse cure di Filippo non facevano altro che aiutare una sua costituzione già molto robusta ma proprio nel corso di questo periodo di convalescenza si verificò un episodio che è riportato un po' da tutte le fonti e cioè il generale Parmenione mandò un biglietto ad Alessandro dicendo attenzione mi risulta mi riferiscono che il tuo medico tenta di avvelenarti proprio in quel momento Alessandro riceveva Filippo che entrava con una pozione per somministrargliela come era solito Alessandro con una mano prese la coppa con il medicamento con l'altra allungò a Filippo il biglietto che lo accusava un gesto di completa fiducia per fargli capire che si fidava di lui ciecamente Filippo non disse nulla sorrise e Alessandro beve tutto d'un fiato dopodichè pian piano egli continuò a recuperare però nel frattempo c'erano altri problemi e altri guai e cioè i soldati erano accampati in zone basse paludose e cominciavano a diffondersi delle malattie forse la malaria cominciava a diffondersi la dissenteria probabilmente a causa di acque non buone che bevevano bisognava muoversi e Alessandro verso la fine dell'estate cominciò a muovere verso sud che cosa lo guidava probabilmente il suo vecchio buon manuale e cioè il diario della ritirata di 10.000 la famosa anabasi di Senofonte perché infatti Senofonte era passato di lì 70 anni prima e era penetrato in Siria valicando la catena del monte a mano alle cosiddette porte siriache Alessandro quindi sapeva che andando verso est fino alla base del monte a mano si sarebbe trovato un sentiero che saliva fino in cima valicava la catena e poi scendeva dall'altra parte in Siria non sapeva evidentemente che esisteva un altro passo ed era quello detto delle porte a maniche che era più a nord e che invece venne utilizzato dal imperatore da Dario III il suo avversario molti qui molti discutono dicono che questa mossa di Dario III fu completamente casuale che Alessandro si trovò imbottigliato a sud tra il monte a mano e il mare per puro caso ma a me sembra evidente che invece fu una cosa determinata Dario III non poteva non sapere dove stavano i valichi e i passaggi importanti e critici nel suo territorio Alessandro invece si faceva guidare da un vecchio manuale che evidentemente non conosceva e non era al corrente di tutti i passaggi alternativi il re aveva posto il campo alla base del monte a mano era ormai autunno inoltrato faceva abbastanza freddo nonostante la latitudine e pioveva molto spesso ci fu anzi quella notte un grande intenso temporale a un certo momento gli giunse notizia che il gran re era alle sue spalle era cioè in una località che si chiamava Isso Alessandro non ci volle credere come era possibile se il passo il valico era davanti a lui come aveva potuto il gran re passare senza che lui se ne fosse accorto infatti come abbiamo detto Alessandro ignorava che ci fosse questo importante valico più a nord alle cosiddette porte a maniche a tal punto gli sembrava inverosimile che mandò indietro una nave della sua flotta per accertarsene la nave tornò indietro con grande sforzo e con grande fatica e ritornò un paio di giorni dopo riferendo che sì c'era l'esercito del gran re esattamente alle sue spalle Alessandro era imbottigliato l'esercito nemico gli tagliava tutte le vie di comunicazione con la patria davanti aveva le montagne a fianco il mare era virtualmente da un punto di vista strategico in trappola ma nulla valeva a scoraggiarlo il condottiero macedone decide di reagire torna indietro ed è colto da un'altra notizia che lo ferisce profondamente dicono che i soldati feriti e malati che lui aveva lasciato a isso erano stati catturati dai persiani e orrendamente mutilati non sappiamo se questo sia un elemento diciamo di propaganda antipersiana però elementi che testimoniano l'estrema crudeltà degli usi in oriente sono abbastanza frequenti nelle fonti anche in fonti non sospettabili per cui forse ci possiamo credere Alessandro tornò indietro e si ritrovò l'armata persiana questa volta sì almeno centomila uomini schierati dall'altra parte del fiume Pinero era una situazione estremamente svantaggiosa per Alessandro il fiume si era ingrossato per le piogge della notte prima il terreno era scivoloso dall'altra parte i persiani erano ben piazzati ben attestati e il loro fronte superava di gran lunga quello di Alessandro le due armate sono una di fronte all'altra sono schierate tra le colline che sono a est e il mare a ovest Alessandro si lancia all'attacco squillano le trombe la falange si mette in marcia a lance basse la cavalleria leggera e la fanteria leggera che sono disposti come un velo davanti all'armata persiana si vanno a schierare sui lati e rivelano la fanteria pesante di linea i mercenari greci e la fanteria pesante degli asiatici Alessandro capisce che potrebbe essere aggirato dalla parte delle colline e lancia la sua fanteria leggera dove ci sono i temibili agriani assaltatori feroci e implacabili e lancia anche reparti di cavalleria per fermare la manovra di aggiornamento dei persiani e al tempo stesso cosa fa? Contro manovra si lancia dalla parte opposta con la sua cavalleria verso il mare dove non è atteso e mentre i sei battaglioni della falange avanzano nel fango si gettano dentro nel fiume e cercano di impegnare la fanteria pesante dei greci in un scontro veramente tremendo sanguinoso Alessandro si getta completamente dall'altra parte e vede di fronte a sé il carro di Dario forse accade davvero quella scena che vediamo raffigurata congelata cristallizzata nel tempo nel mosaico di Pompei Alessandro e Dario l'uno di fronte all'altro che si fissano negli occhi per alcuni interminabili secondi i due signori del mondo fronte a fronte è un momento di tensione tremenda anche qui Alessandro non perde la testa egli sa da senofonte che colpire il re significa decapitare l'armata colpire il re significa disperdere il greggio il pastore è messo in fuga il greggio si disperde e quindi Alessandro si lancia con tutta la forza che ha contro Dario il re visto la mala parata si mette in fuga Alessandro è ferito a una coscia eppure non demorde dall'inseguimento corre per tutta la sera finché non trova il carro del re e il suo mantello ma il re non c'è è probabilmente montato in sella a uno dei cavalli e si è dileguato verso l'interno a tarda sera dopo il tramonto ormai buio Alessandro coperto di fango ferito grondante sangue fa ritorno al suo accampamento tutta la valle risuona delle grida di entusiasmo dei suoi soldati che lo acclamano al suo passaggio lo vedono come un dio è un essere invincibile ha umiliato il gran re ha messo in fuga la più grande armata del mondo non si è scoraggiato non si è perso d'animo quando ha saputo di essere imbottigliato in fondo a una strettoia tagliato fuori dalle vie di scampo ha attaccato con determinazione ha ignorato le cattive condizioni le condizioni sfavorevoli e ha colpito dritto al cuore l'armata nemica ed ecco che i suoi uomini si prendono cura di lui il suo medico gli estrae la freccia è ancora convalescente ma vuole vedere vuole vedere che cos'è l'accampamento di Dario ed ecco lo conducono zoppicante alla luce delle torce dentro al padiglione reale è un vero e proprio palazzo mobile sorretto da tronchi di legno di cedro cortine di stoffe preziose tappeti finemente ricamati al suolo donne bellissime che fuggono a rifugiarsi negli angoli più nascosti terrorizzate per quello che potrebbe loro accadere una vasca da bagno cibi raffinati servi cuochi profumieri è una vera e propria reggia mobile quella tenda Alessandro si guarda intorno e dice dunque questo significa veramente essere re cioè gli si rende conto di quello splendore orientale così estraneo così diverso dalla austera semplicità dei sovrani macedoni egli comincia ad essere affascinato da quel tipo di vita sente sente dei pianti sente dei gemiti è la regina madre ed è la sposa di Dario e sono le sue concubine perché pensano che il re sia morto Alessandro le rassicura dice che il re si è salvato di stare di buon animo che non verrà loro torto un capello che saranno trattate con il rispetto che merita la loro posizione e il loro rango racconta Plutarco che nel momento in cui Alessandro entrò nella tenda la regina madre si gettò ai piedi di effestione pensando che lui fosse Alessandro perché era più alto più imponente più robusto del re Alessandro sorrise e quando uno degli eunuchi le fece presente che si era prostrata davanti alla persona sbagliata la regina si sentì morire il cuore in petto perché nel grande impero persiano il protocollo era una cosa molto importante ma Alessandro la aiutò ad alzarsi e le sorrise e disse non fa nulla anche lui è Alessandro con gli squilli di vittoria delle trombe macedoni io vi lascio vi ringrazio per essere stati in ascolto e vi do appuntamento per domani sera sempre alle otto della sera sempre su radio che cos'era accaduto intanto dell'avversario implacabile di Alessandro di Memnon e di Rodi che abbiamo lasciato su una nave persiana che abbandonava la baia di Alicarnasso le fonti sono qui molto avare di notizie sappiamo che si ammalò e che di lì a poco morì altro non sappiamo e quindi queste situazioni possono dar corso a molte fantasie ma più di questo certamente non possiamo dire quello che possiamo dire è che Memnon fu un grande soldato fu un grande combattente che se fosse vissuto avrebbe dato ad Alessandro molto filo da torcere tra i suoi programmi c'era forse quello di uno sbarco in Macedonia addirittura per costringere Alessandro a tornare indietro era geniale ed era leale alla sua parola lasciò la moglie la moglie che si chiamava Barsine era una donna persiana di straordinaria bellezza e mentre Alessandro si trovava ancora a Isso Parmenione che era andato avanti ed era arrivato a Damasco gli fece sapere che nel quartier generale del Gran Re c'era anche lei Barsine la donna del suo nemico Alessandro marciò verso Damasco e lì incontrò questa altra porzione diciamo della corte persiana con centinaia di cuochi di profumieri di portatori di parrucchieri di sarti e tutto quello che componeva l'incredibile armamentario del seguito del Gran Re forse una delle ragioni per cui appunto non aveva poi retto alla prova dei fatti all'assalto di un popolo invece ancora molto austero e molto semplice nei costumi ancora molto attaccato alle proprie tradizioni Alessandro ormai è libero dalla minaccia di Memnone Memnone non è più un pericolo tutti i porti dell'Asia minore sono inaccessibili alla flotta persiana ce n'è rimasto soltanto uno conquistato il quale i persiani saranno completamente tagliati fuori dal mare è Tiro Tiro è una grande metropoli è una città fenicia ed è da sempre un luogo inaccessibile e privilegiato tante volte i re assiri e i babilonesi hanno cercato di prenderla ma la sua posizione la rende veramente inespugnabile è come un nido di pietra su una roccia chi viaggiando nel sud dell'Asia minore nella Panfiglia ha visto il castello di Anamur su un isolotto roccioso a poche miglia dalla costa si può fare un'idea molto verosimile di come fosse l'aspetto di Tiro appunto una fortezza sopra a uno scoglio a poche centinaia di metri dalla costa Alessandro non vuole infierire non vuole spargere sangue inutile e quindi fa una proposta che in qualche modo secondo il suo modo di vedere poteva essere accettabile e cioè chiede di immolare un sacrificio all'Ercole Tirio chi è l'Ercole Tirio? è Melkart cioè il dio Poliade il protettore della città il quale Melkart era rappresentato coperto da una pelle di leone e quindi proprio per questo era stato identificato dai greci con Ercole al punto che si erano inventate altre fatiche dell'eroe Argivo nel lontano occidente proprio sull'oceano atlantico per quale motivo? perché là c'era Cadice fondazione fenicia anch'essa protetta dal dio Melkart gli abitanti di Tirio rispondono che può accomodarsi in terraferma nella città vecchia perché anche lì c'è un tempio dedicato a Melkart Alessandro risponde voi mi dite questo perché pensate di essere un'isola ma io vi posso trasformare in una penisola e in questa risposta c'è tutto Alessandro il più grande biografo moderno di Alessandro lo studioso britannico Robin Lane Fox dice che la battaglia di Tiro fu combattuta più da Alessandro al tavolo da disegno che non sul campo è un'espressione colorita per dire che qui la tecnologia giocò un ruolo assolutamente fondamentale quando i suoi uomini e quando i suoi ufficiali e i suoi ingegneri gli chiesero cosa intendeva con l'espressione trasformare la città in una pelisola Alessandro rispose di demolire la città vecchia buttarla in mare e collegare la città sull'isola alla terraferma cioè costruire praticamente un molo questo molo fu realizzato ed è quello che ha trasformato effettivamente Tiro in una penisola chiunque di noi abbia viaggiato in Libano e sia andato a Tiro si è reso conto proprio della verità di questo cambio morfologico che è stata una realizzazione artificiale proprio di Alessandro e anche qui le sue letture lo hanno aiutato di quale letture parliamo Alessandro molto probabilmente aveva letto Filisto uno storico delle guerre tra Greci e Cartaginese in Sicilia soprattutto tra Dionigi il Grande e i suoi avversari Punici e in particolare la storia dell'assedio di Mozia che era avvenuta circa 70 anni prima anche questa era la stessa situazione un isolotto vicino alla terraferma e quindi un molo che era stato costruito per far passare le macchine da guerra e abbattere le mura così fa Alessandro fa costruire delle macchine da guerra enormi in grado di scagliare massi a una distanza di 150 250 metri addirittura fa mettere in mare coppie di navi da guerra incatenate fra di loro a sostenere delle piattaforme sulle quali sono piazzate delle torri d'assalto e degli arrieti gli abitanti di tiro mandano i sommozzatori a tagliare le funi di ancoraggio perché le piattaforme mobili vadano alla deriva Alessandro manda fuori le navi da guerra ad agganciarle e a riportarle in posizione a forza di remi sostituisce le funi di ancoraggio con catene di ferro manda i suoi uomini di nuovo all'assalto i tiri fanno un'incursione con dei brulotti cioè dei barchini incendiari che danno fuoco alla colossale macchina da guerra che Alessandro aveva piazzato sul molo Alessandro la fa ricostruire e finalmente la città è nella morsa dell'assedio colpita da tutte le parti con gli rieti dalla punta di bronzo che battono incessantemente notte e giorni le altissime mura gli abitanti di tiro che addirittura fanno arroventare di giorno la sabbia dentro agli scudi e poi la rovesciano sugli assalitori oppure progettano e realizzano dei raffi che vengono scagliati dalle mura e agganciano con i loro uncini i soldati macedoni e li trascinano in alto lasciandoli appesi a gridare fino a morire è un scontro feroce spaventoso terribile sanguinoso ma alla fine alla fine la città in ginocchio deve cedere i macedoni aprono una breccia e dilagano all'interno dell'orgogliosa capitale fenicia la madre patria di cartagine e di tante tante altre colonie giù giù fino a cadice sugli estremi confini dell'oceano non rimane che una distesa di rovine fumanti l'ultimo ostacolo è stato travolto nulla può più fermare Alessandro la flotta persiana non ha più nemmeno una base in tutto il Mediterraneo l'armata macedone procede verso meridione attraversa la palestina e si ritrova di fronte all'ultima piazzaforte quella che presidia l'accesso al paese più ricco dall'antichità il favoloso Egitto è la piazzaforte di Gaza ancora oggi punto chiave da un punto di vista strategico tra l'Asia l'Africa e l'Europa Gaza sorge in prossimità del mare ed è circondata da donne di sabbia è difesa da rampe e da bastioni di mattoni crudi legati insieme con l'asfalto Alessandro quindi ha grossi problemi a far avanzare le macchine da guerra e deve prendere la città veramente con la vera e viva forza dei suoi soldati all'interno c'è un difensore testardo caparbio che non sente ragione che si difende fino all'ultimo è un eunuco etiope cioè un nero si chiama Batis e inchioda Alessandro per mesi e mesi dandogli del filo da torcere non meno forse che la possente tiro che era una città difesa dal mare la sabbia evidentemente fa lo stesso effetto e l'assalto dei macedoni viene più volte respinto alla fine un vaticinio dell'indovino di Alessandro che si chiamava Aristandro che interpreta uno strano fenomeno un corvo che era sceso sulle mura di Gaza ed era rimasto appiccicato all'asfalto fuso per il calore però lasciando lì alcune delle penne era poi volato via e quindi Aristandro dice che Alessandro sarà ferito ma conquisterà Gaza Alessandro allora si lancia all'attacco effettivamente viene gravemente ferito si fa bendare la ferita torna in battaglia riesce a sfondare le difese nemiche e a penetrare nell'interno quando gli portano davanti Batis egli compie un'azione veramente spregevole Batis abbiamo detto è un nero è sudato è obeso è un eunuco e cioè un uomo che è stato evirato e questo essere così ai suoi occhi deforme ma che gli ha inflitto tante sconfitte che ha vanificato tanti suoi assalti diventa l'oggetto della sua vendetta lo trascina attorno alle mura di Gaza legato al suo carro così come Achille aveva fatto con il corpo di Ettore è certamente una macchia sull'onore di Alessandro ancora una volta quello che l'eroe fulgido il giovane colto e compassionevole poteva trasformarsi improvvisamente in una belva umana ormai non ci sono più ostacoli Alessandro avanza attraverso la penisola del Sinai avanza lungo la costa e sempre fiancheggiando il Mediterraneo seguito dalle navi del suo ammiraglio Nearco che ora ha rinforzi da Cipro che gli sono anche serviti nell'assedio di Tiro finché giunge alla foce del Nilo e alla capitale Menfi l'Egitto lo accoglie come un liberatore lo accoglie come un triunfatore e Alessandro che già si era reso conto che bisognava rispettare le tradizioni locali che già a Tiro aveva mostrato di identificare il proprio antenato Ercole col dio protettore della città anche qui rende omaggio agli dei egiziani restaura templi e fa tutto quello che può per rendersi accetto diversamente da quello che avevano fatti i persiani i quali si diceva avevano sempre perseguitato la religione locale si diceva che Canvise avesse addirittura fatto uccidere il bue api ma è necessaria l'ultima investitura e per questo Alessandro si mette in marcia sempre sulla riva del Mediterraneo verso il deserto occidentale alle foci del braccio occidentale del Nilo viene contattato da un bizzarro architetto tale Dinocrate che gli propone di scolpire la sua immagine nel monte Athos in atto di reggere una città sulle mano Alessandro si toglie il mantello lo depone sulla riva del mare e dice forse il tuo progetto è un po' troppo dispendioso mi accontento di meno fammela qui una città così in forma di un mantello macedone così nasceva Alessandri nel frattempo erano giunti ad Alessandro notizie molto tristi quella probabilmente della morte del suo cognato zio Alessandro De Piro in Italia quella della morte della sposa di Dario che era accaduta mentre cercava di dare la luce il suo bambino e nonostante questo Alessandro procede perché deve avere l'ultimo avallo il massimo il più grande quello del dio Zeus Amon che sta nell'oasi di Siva Alessandro ha anche sposato la moglie del suo nemico cioè Barsine che gli darà un figlio Alessandro Ercole che morirà alla teneretà dei tre anni in questo momento egli vuole prendere possesso dell'Egitto e vuole prendere possesso del suo destino l'oracolo di Amon era un oracolo antichissimo c'erano dei miti greci probabilmente filtrati attraverso la colonia africana di Cirene che dicevano che assieme all'oracolo di Zeus a Dodona in Epiro cioè la patria della madre di Alessandro l'oracolo di Siwa era il più antico che erano partite due colombe dopo il giudizio universale una si era fermata sulla quercia di Dodona e una su una palma di Siwa quindi i due oracoli erano collegati Alessandro poteva ben vedere in questa leggenda qualche cosa che lo riguardava direttamente con una marcia molto aspra attraverso il deserto più arido e implacabile sotto la vampa del sole l'esercito di Alessandro rischia più volte di perdersi anche qui abbiamo il ripetersi di eventi miracolosi si dice che l'esercito a un certo momento fosse guidato da un corvo sempre davanti a loro e che in questo modo a un certo punto sarebbero giunti a destinazione si dice perfino che piove cosa che non era mai successa a memoria d'uomo in quella distesa di sabbie roventi alla fine Alessandro giunse nell'osi di Siwa certamente un santuario antichissimo che appunto i Cirenei i greci di Cirene identificavano con Zeus e gli egiziani con Amon il loro dio padre effigiato con la testa di Ariete Alessandro entra nel grande santuario e chiede per prima cosa chiede sono stati puniti di tutti coloro che hanno ucciso mio padre o qualcuno ancora è rimasto e il dio risponde attento a come parli ragazzo perché tuo padre non può morire tuo padre sono io è l'investitura definitiva Alessandro è figlio di un dio la leggenda prende carne e ossa egli è designato come il faraone noi non sappiamo se questa proclamazione di Alessandro come figlio di Amon è semplicemente una investitura di lui come faraone d'Egitto o se c'è qualche cos'altro o se c'è un intento specifico del giovane re macedone di creare e di rafforzare il suo mito con un'origine divina di cui già la stessa regina Olimpias aveva diffuso strane e inquietanti dicerie sta di fatto che da quel momento Alessandro è anche il faraone d'Egitto il giovane principe macedone che de Mostene aveva definito un ragazzino sta seduto sul più antico trono della terra purtroppo il suo trionfo è funestato da un'altra disgrazia il più giovane dei figli di Parmenione mentre passa in barca sul Nilo pavoneggiandosi nella sua armatura scivola e cade nel fiume il suo corpo non viene mai più ritrovato il vecchio generale è come una quercia colpita dal fulmine e con questo io vi saluto vi do appuntamento a domani sera su Radio 2 alle 8 della sera Alessandro rientrò la primavera successiva a Tiro la città si stava lentamente penosamente riprendendo dalla distruzione che aveva subito si ricominciava lentamente l'opera di ricostruzione e qui Alessandro volle dare grandi feste per celebrare le sue numerose vittorie il suo trionfo anche sull'Egitto vennero attori dalla Grecia compagnie di recitazione vennero celebrati dei giochi si fecero degli spettacoli teatrali con grande pompa e con grande dispendio di denaro Alessandro ovviamente aveva il suo attore preferito la star dell'epoca che si chiamava Tessalo e pare secondo le fonti che gli giungesse addirittura a fare delle pressioni perché venisse a lui concesso il premio in ogni caso sta di fatto che l'esercito di Alessandro si ferma per parecchio tempo nella zona di Tiro e sembra quasi che il re abbia dimenticato i suoi programmi arriva una lettera da parte di Dario III una lettera molto importante che ci è stata conservata dalle nostre fonti in questa lettera Dario III riconosce ad Alessandro la vittoria gli dice che a questo punto meglio è essere amici gli offre in sposa una delle figlie gli offre tutta l'Anatolia tutta la Siro-Palestina e l'Egitto in cambio della sua alleanza e diciamo della cessazione delle ostilità Dario III in qualche modo pensa che tenendosi la patria ancestrale e cioè la Perside le regioni iraniche dell'interno potrà forse sempre un giorno riprendere la riscossa e riconquistare i territori perduti in quel momento Armenione sembra essere molto favorevole a questa richiesta il Gran Re ed è famoso anche qui l'episodio in cui una volta che era stata data lettura di questa missiva Armenione dice io accetterei se fossi Alessandro e Alessandro risponde anch'io se fossi Armenione è una risposta che sembra soprattutto di tipo umoristico ma è una risposta dura e rivela sotto l'apparenza dell'aneddoto curioso rivela un dissidio fondamentale tra Alessandro e i generali di suo padre per costoro non aveva senso spingersi nell'interno perché il mondo l'unico in cui valeva la pena di vivere stava attorno al Mediterraneo era lì che sorgevano le città era lì che c'erano i templi i santuari le piazze i porticati c'erano le opere d'arte le statue le pitture c'erano i traffici i mercati c'era il brulicare della vita che senso aveva ad entrarsi nell'interno verso quegli altopiani battuti dal vento verso quelle lande desolate dove i centri abitati erano pochissimi e disseminati in spazi enormi percorsi solamente da pastori seminomadi non aveva assolutamente alcun senso ma è evidente che Alessandro non vuole fermarsi ed è evidente un certo contrasto con i generali della vecchia guardia con Clito e soprattutto con Parmiglione quella sua risposta secca che non ammette repliche significa che si va avanti e infatti l'esercito riprende la sua marcia Alessandro muove verso nord attraversa la Palestina e la Siria qui in Palestina succede un fatto molto particolare e cioè l'unico attestato incontro tra Alessandro e gli ebrei molti studiosi e ricercatori sono stati affascinati dall'idea di un incontro ravvicinato tra Alessandro e il misterioso invisibile Dio degli ebrei che stava nel suo tempio a Gerusalemme ma questo è un fatto che rimane solo nel limbo delle ipotesi quello che sappiamo è purtroppo un ennesimo fatto di sangue ad Alessandro venne riferito che i samaritani avevano massacrato il presidio macedone che egli aveva lasciato in quella zona e quindi egli salì dal mare e raggiunse gli altopiani e sterminò completamente i samaritani probabilmente attirandosi la gratitudine degli ebrei ortodossi di Gerusalemme che erano fieramente nemici dei samaritani e che consideravano una cosa intollerabile il loro tempio sul monte Garizim lo chiamavano infatti la bestemmia dei samaritani bestemmia a cui Alessandro pose fine in maniera brusca e definitiva dopodiché egli mosse verso settentrione inoltrandosi nella pianura siriana fino a raggiungere la città di Tapsaco sul alto corso delle Eufrate proprio ai piedi della catena del Tauro questo nome Tapsaco è un nome di origine fenicia anche se siamo piuttosto lontani dalla costa e significa passaggio infatti riconosciamo la stessa radice di Pesac da cui viene la parola Pasqua e cioè il passaggio degli ebrei attraverso il deserto per raggiungere la terra promessa durante l'esodo qui dall'altra parte del fiume sono attestati i persiani per cui Alessandro deve fare tutta una serie di mosse contro mosse diciamo per spiazzarli finché riesce a attraversare il fiume e a metterli in fuga anche questo luogo fa parte della epopea dei diecimila e Alessandro lo sa bene sa che quando Senofonte e i suoi attraversarono le Eufrate a Tapsaco ebbero poi il periodo più difficile di tutta la spedizione perché sulla riva sinistra delle Eufrate non c'era assolutamente nulla e quindi l'esercito patì la fame gli stenti e la missione rischiò di essere completamente compromessa quindi egli non vuole seguirne le tracce pensa di imboccare un'altra strada quindi attraversa la vasta pianura che sta tra le Eufrate e il fiume Habur sempre tenendo sulla sinistra le montagne del Tauro fino a raggiungere la città di Nisibi che oggi è in Siria e si chiama Nusaibin quindi mantiene un nome ancora molto simile poco dopo egli si trova di fronte il corso del Tigri la parola Tigri in antico assiro significa freccia probabilmente per la grande velocità delle acque di questo fiume che scende impetuoso dalle montagne dell'Armenia dove le nevi sono perenni qui Alessandro probabilmente viene a sapere che il gran re lo aspetta dall'altra parte in un luogo che si chiama Gaugamela Gaugamela è una zona pianeggiante e dicono addirittura i suoi scout i suoi esploratori che il gran re ha fatto spianare il terreno ha fatto rimuovere tutti gli ostacoli per preparare la carica dei suoi temibili carri da guerra Alessandro si avvicina con la sua armata al campo di battaglia di Gaugamela dove Dario III lo aspetta siamo nel 331 poco più di due anni dopo l'inizio della grande campagna asiatica la battaglia Gaugamela è uno scontro assolutamente titanico perché il gran re ha concentrato veramente tutte le sue forze ha schierato gli uomini migliori ci sono rappresentanti di tutte le nazioni dell'impero ci sono aracosi daci sciti battriani massaggeti persiani susiani caucasici indiani cari mercenari greci ircani saci medi assiri è veramente un mosaico di popoli di razze ci sono perfino mercenari etiopi doveva essere uno spettacolo assolutamente straordinario e terribile terribile perché qui veramente lo sforzo di Dario III è enorme e forse non siamo lontani dal vero dall'immaginare un'armata di più di 200.000 uomini Alessandro ne ha forse 60.000 perché nel frattempo le sue file si sono ingrossate con altri reclutamenti e è praticamente sicuro che anche questa volta la sua buona stella lo assisterà decide di assumere una formazione di tipo obliquo e cioè non attacca frontalmente l'armata persiana perché sa bene che verrebbe subito accerchiato sui lati quindi deve allungare le proprie linee ne forma una specie di cuneo con gli squadroni diciamo i distaccamenti dei mercenari greci e degli alleati sul lato destro dobbiamo immaginare una specie di cuneo e sul lato sinistro che diciamo sfila di fronte di fianco all'esercito persiano ha invece i battaglioni degli scudieri e i battaglioni della falange guidati dai suoi generali da Coeno Perdicca Meleagro Polisperconte Simmia Cratero eccetera a Parmenione è lasciato il compito di difendere l'accampamento dove ci sono tutte le salmerie i carriaggi e dove ci sono le donne dell'arema imperiale dove c'è la regina madre addirittura quindi la giornata campale comincia con questo sfilare diciamo dell'esercito di Alessandro a Cuneo sulla pianura che è antistante la linea persiana che invece è disposta proprio su un andamento orizzontale quindi è una situazione molto strana a quel punto c'è una carica subito una carica persiana che cerca di smantellare questo Cuneo mentre invece gli squadroni della falange cominciano a dispiegarsi e a fare pressione sul centro nemico qui ecco che vengono lanciate viene lanciata la carica dei carri da guerra questi carri erano macchine tanto tremende a vedersi quanto obsolete e era già successo nella battaglia di Cunassa quando l'esercito di Ciro il Giovane si era battuto contro l'esercito di Artaserse il fratello e qui la carica dei carri era stata neutralizzata semplicemente le linee si erano aperte li avevano lasciati passare e poi gli arcieri avevano abbattuto da dietro gli aurighi e i guerrieri questi carri avevano falci che sporgevano da sotto il cassone per tagliare a pezzi chiunque tentasse di salvarsi buttandosi sotto e fuori dagli assi per falciare come spighe di grano i soldati nemici anche qui l'esercito macedone fa tesoro in particolare Alessandro fa tesoro dell'esperienza dei 10.000 a Cunassa all'attacco dei carri le falangi si aprono li lasciano passare tra le loro file e certamente ci sono delle perdite ma molto limitate poi vengono lanciate gli uomini della fanteria leggera che con gli archi e le fionde abbattono gli aurighi e i guerrieri e così la carica dei carri praticamente si esaurisce quasi senza colpo ferire poi mentre l'ala diciamo esterna del cuneo composta dagli alleati greci tiene botta contro gli assalti ripetuti della cavalleria persiana in particolare guidata da Besso un personaggio che poi diventerà protagonista come vedremo di avvenimenti successivi l'ala invece interna quella che fronteggia proprio lo schieramento persiano si dispiega e attacca a lance basse proprio sono i battaglioni della falange che dispiegano tutta la loro potenza d'attacco ma in una situazione così confusa dobbiamo immaginare che siamo in una pianura mesopotamica quindi dopo i primi movimenti il polverone che era alzato dalle zampe dei cavalli dalle ruote dei carri era assolutamente una cosa spaventosa era difficile perfino riconoscersi e quindi in questa fase così confusa due battaglioni della falange si distanziano troppo e uno squadrone di cavalleria persiana si infila nel mezzo e punta dritto verso l'accampamento l'accampamento che è difeso dal vecchio Parmenione che alla verde età di 70 anni si batte ancora con lancia e scudo come un giovanotto veramente un guerriero incredibile un uomo di una tempra fisica e morale assolutamente straordinaria Parmenione che difende non solo i carriaggi ma difende l'arem reale difende l'imperatrice madre e ovviamente cerca di impedire che venga liberata questo è forse lo scopo di questo raid della cavalleria persiana invoca disperatamente l'aiuto di Alessandro il quale in quel momento è lontano Alessandro gli fa rispondere che è inutile distogliere forze per venire a salvare l'accampamento che se la battaglia sarà vinta anche l'accampamento sarà salvo che se la battaglia verrà perduta tutto sarà perduto e quindi Alessandro tira dritto davanti a sé alla testa dell'agema cioè il reparto di elite della cavalleria in groppa a Bucefalo Alessandro avanza senza distogliere lo sguardo un momento dal nemico egli cerca cerca Dario come l'aveva cercato Aisso cerca lo scontro diretto lo scontro quasi singolare come un eroe omerico è preceduto da una bandiera rossa col sole argeade è visibilissimo ed è per questo anche che ci spieghiamo quante volte Alessandro è stato ferito ma anche quante volte i suoi uomini hanno visto che lui per primo si assumeva il rischio più grande alla carica irresistibile della cavalleria di Alessandro fa riscontro anche l'impatto massiccio della falange a nulla vale che le ali dell'esercito nemico si richiudano sia sulla destra che sulla sinistra il centro viene sfondato e travolto anche gli immortali la truppa di elite la guardia imperiale si disperdono Dario vista impossibile ormai ogni resistenza si allontana dal campo di battaglia sul suo carro a tutta velocità e scompare al tramonto il sole scende su un campo pieno di morti di feriti e di lamenti e con questa vittoria di Alessandro sul campo di battaglia di Gaugamela mi congedo da voi ancora una volta vi do appuntamento a domani sera alle 8 della sera su Radio 2 a Gaugamela a Gaugamela Alessandro consegue una vittoria decisiva il suo avversario l'imperatore Dario III aveva gettato nella fornace di quella battaglia tutte le sue ultime risorse aveva adunato guerrieri da tutte le nazioni del suo sterminato impero aveva preparato accuratamente il campo di battaglia aveva visto anche i suoi migliori ufficiali battersi con grandissimo valore ma la macchina da guerra di Alessandro si era rivelata veramente invincibile all'atto conclusivo l'impatto delle massicce falangi coperte di bronzo precedute da una siepe di picche impenetrabile l'impeto straordinario della cavalleria avevano risolto la situazione una battaglia che sembrava perduta l'accampamento quasi in mano al nemico la confusione che regnava dovunque tutto alla fine si era risolto e ad Alessandro dovete venire in mente quella frase di Ciro il giovane che esortava a Cunassa i mercenari peloponesici ad attaccare al centro perché là aveva detto là c'è il re e se noi uccidiamo il re tutto da noi è compiuto tutto è compiuto la vittoria è nelle nostre mani Dario fugge fugge verso le contrade più remote del suo sterminato impero Alessandro non lo segue stranamente egli volge verso sud non ha motivo in effetti di avventurarsi in questo sterminato territorio che egli non conosce territorio accidentato difficile da percorrere dove bisogna conoscere i passaggi montani bisogna conoscere la disposizione dei pozzi bisogna aprirsi la strada tra popolazioni semi selvagge seminomadi fedeli ai loro capi feudali ferocemente attaccate alla loro libertà e al loro territorio meglio consolidare le conquiste fatte ormai Alessandro domina tutta la penisola ellenica domina tutta la penisola anatolica la siro palestina l'egitto e ora la mesopotamia è un successo al di là di qualunque aspettativa al di là dei sogni più rosi nessun greco nessun greco si era mai spinto tanto lontano nessun greco aveva mai ottenuto successi così clamorosi risultati così incredibili quindi da Gaugamela Alessandro decide di scendere verso sud egli fiancheggia il fiume Tigri la sponda sinistra del fiume Tigri attraversa i vari affluenti probabilmente passa vicino alle rovine imponenti delle antiche città mesopotamiche forse vede le rovine di Ninive forse vede la piramide a gradoni di Nimrud e continua la sua marcia appunto verso Meridione qui si verifica un episodio curioso Alessandro si trova davanti a un pozzo di petrolio Nafta lo chiamavano gli antichi un termine che usiamo ancora noi oggi e lì uno del suo seguito dice che la Nafta non può prendere fuoco se è per esempio su un corpo umano perché l'umidità del corpo umano impedirebbe alla Nafta di prendere fuoco e un povero paggio si presta a fare l'esperimento viene completamente coperto di Nafta poi gli viene applicato il fuoco naturalmente il poveretto si trasforma in una torcia umana viene subito per fortuna cacciato dentro alla vasca da bagno del re che è lì vicino pronta per il bagno di Alessandro e in qualche modo vengono spente le fiamme ma il poveretto sarà sfigurato per il resto dei suoi giorni nemmeno sappiamo poi se sia sopravvissuto Alessandro attraversa i Tigri a Opis che oggi uno dei luoghi più suggestivi dell'Iraq moderno nelle sue immediate vicinanze sorge la città di Samarra che è assolutamente uno dei luoghi più belli e più suggestivi lì sorge il famoso minareto a spirale che forse è ispirato alle zigurat mesopotamiche e poi Alessandro taglia obliquamente quella specie di collo di bottiglia che c'è nel punto in cui più o meno dove sorge oggi Bagdad il Tigri e le Eufrate si avvicinano soprattutto dopo poi si allontanano di nuovo per poi ricongiungersi in fondo al Golfo Persico e qui Alessandro arriva a Babilonia quello che non era riuscito ai 10.000 che erano rimasti inchiodati a Cunassa a pochi chilometri a nord di Babilonia 40-50 chilometri riesce ad Alessandro e senza colpo ferire l'immensa metropoli gli apre le porte Alessandro addirittura poi aveva mantenuto il satrapo Mazeo che era stato uno degli artefici della più dura resistenza a Gaugamela contro le sue truppe lo riconferma come satrapo di Babilonia questo era un modo molto intelligente che aveva Alessandro di assicurarsi la fedeltà dei suoi nuovi sudditi riconfermare in qualche modo la classe dirigente vecchia nei suoi posti di responsabilità però ovviamente sotto la sorveglianza dei suoi ufficiali delle sue forze armate Babilonia era una delle grandi capitali del mondo antico Babilonia aveva una cinta di mura enormi Erodoto dice che su queste mura due carri potevano viaggiare appaiati c'erano torri e ognuna delle torri aveva la sua porta erano porte di bronzo alcune rivestite d'argento altre rivestite d'oro le porte erano tutte rivestite di mattonelle smaltate che raffiguravano torri alati animali mitologici grifoni lo spettacolo di questo scintillio sotto il sole mesopotamico doveva essere veramente da mozzafiato Alessandro entra come un dio accolto da due ali di folla festante vengono gettati petali di fiori al suo passaggio egli entra in questa capitale leggendaria mitica che per un greco era qualcosa di remoto di lontano fuori da tutte le rotte fuori da tutti i passaggi solo Erodoto c'era stato e ne aveva dato una descrizione veramente accurata almeno fra gli uomini in grado di essere ricordati c'erano decine decine di templi a tutte le divinità in una sorta anche di sincretismo religioso straordinario lì erano stati prigionieri gli ebrei deportati da Nabucodonosor nel 560 avanti Cristo e molti di loro erano rimasti dando vita a fiorenti attività economiche c'erano artigiani c'erano artisti c'erano uomini politici c'erano burocrati c'erano mercanti che scendevano dal nord con le loro barche lungo il fiume con le loro barche di canna rivestite di pelli e quindi ecco che Alessandro si ritrova in questa favolosa capitale al centro di essa sorge la mitica torre di Babele una gigantesca piramide a gradoni alta più di 90 metri sulla cui cima sorgeva il santuario sembra che all'età di Alessandro la torre fosse già parzialmente in rovina Erodoto c'era salito sopra infatti aveva descritto come si sale lungo le gradinate come ci si riposa sulle panchine ad ogni gradone eccetera e ancora esisteva una delle meraviglie del mondo antico i giardini pensili è probabile che quando Alessandro arrivò a Babilonia i giardini pensili non fossero più efficienti fossero in qualche modo in decadimento ma sappiamo che comunque il sovrano aveva in animo di fare imponenti opere di restauro nella grande capitale mesopotamica che forse era diventata un po' periferica nel suo ruolo ormai di capitale regionale i giardini pensili erano una struttura meravigliosa in sostanza si trattava di una piramide a terrazze con dei vasconi per ogni gradino dei vasconi asfaltati e quindi assolutamente impermeabili riempiti di terra serviti da un sofisticato impianto di irrigazione e cioè l'acqua veniva sollevata dal fiume dalle eufrate portata fino sulla cima e poi distribuita in questi vasconi dove alimentava una vegetazione lussureggiante ovviamente la vegetazione aveva acqua sole e aria e quindi aveva uno sviluppo meraviglioso il tutto dava l'impressione di una montagna coperta di fiori e di boschi si diceva che uno degli antichi re l'aveva costruita perché la sua regina che veniva dalle montagne dell'interno non avesse nostalgia appunto del suo ambiente una montagna artificiale con un bosco artificiale alessandro passò parecchio tempo a babilonia si concesse un riposo concesse riposo ai suoi uomini i quali avevano compiuto imprese assolutamente incredibili naturalmente c'erano feriti c'erano uomini debilitati c'erano malati e quindi era anche necessaria una pausa per porre rimedio e riorganizzare tutto quello che c'era da riorganizzare alessandro prende alloggio assieme ai suoi ufficiali nei palazzi c'è un periodo di feste e di bagordi come spesso poi succedeva tra una battaglia e l'altra finché sul finire dell'estate Alessandro decide di rimettersi in movimento e quindi va a Susa Susa è più verso sud però non molto lontano dal golfo persico vicino alle prime pendici dei Monti Zagros era una delle grandi capitali dell'impero persiano e anzi di esserla più frequentata dalla corte imperiale come oggi si dice Washington per dire gli Stati Uniti o si dice Londra per dire la Gran Bretagna il centro di potere della Gran Bretagna allora si diceva Susa appunto per intendere il potere persiano la città è stata scavata agli inizi del novecento e ha rivelato appunto i resti del grande palazzo imperiale ha rivelato il basamento di una grande piramide torri di difesa la linea delle mura era veramente una grande e ricca città anche per la sua posizione importantissima tra i grandi altopiani a est e le grandi pianure a ovest qui c'era il trono imperiale e qui si verifica uno di quegli episodi che poi lasciano traccia nelle fonti quando Alessandro entra nel grande palazzo e nella grande sala delle udienze va a sedersi sul trono a sedersi sul trono degli Achemenidi ma siccome Alessandro è piccolo non arriva a toccare terra con la punta dei piedi allora uno dei suoi ufficiali per toglierlo dall'imbarazzo gli mette sotto i piedi quello che lui crede uno sgabello e subito si alzano grandi lamenti gli eunuchi reali si strappano i capelli e si danno la disperazione e richiesti del motivo dicono che quello non è uno sgabello era la mensa del gran re e quindi un oggetto sacro sul quale il nuovo conquistatore aveva messo i piedi sia a Babilonia che a Susa Alessandro aveva trovato immensi tesori erano un po' come le sedi delle nostre banche centrali e quindi lì aveva trovato accumulate decine e decine di migliaia di talenti d'oro e d'argento il talento non era una moneta era un'unità di misura come oggi noi diremmo un milione un miliardo e corrispondeva sostanzialmente a un'unità ponderale cioè di peso e corrispondeva espresso appunto in misure moderne a circa 36 chili quindi dobbiamo pensare a una massa d'oro e d'argento assolutamente incredibile con questo denaro Alessandro pagò i suoi uomini fece grandi regali fece ricchi tutti i suoi amici in particolare il suo segretario Eumene di Cartia ma anche Tolomeo Seleuco Perdicca e tutti gli altri e si preparò poi a proseguire nella sua marcia commovente la descrizione che fanno le fonti della reazione delle donne dell'arma imperiale quando arrivano nel palazzo in cui probabilmente erano rimaste fin da bambine dice che toccavano gli stipiti piangendoli bagnavano di lacrime e l'altra faccia della medaglia la faccia dei vinti le lacrime il pianto la disperazione la malinconia il rimpiangere tempi e persone che non torneranno mai più ma purtroppo a tanta distanza di tempo non è che il nostro mondo moderno da questo punto di vista sia molto migliorato ormai siamo a ridosso dell'ultima grande capitale dell'impero Persepoli la città sorge su un vasto altopiano ed è separata dalla pianura da un'alta catena montuosa siamo ormai alla metà di dicembre e Alessandro sale con le sue colonne verso il valico che si trova a oltre duemila metri di altezza attraversano un terreno molto aspro molto accidentato salgono per sentieri stretti ed impervi e a un certo momento si trovano davanti a uno sbarramento praticamente inaccessibile sono le famose porte persiane cioè una gola strettissima sbarrata da un muro dal quale arrivano proiettili di tutti i tipi ci sono delle catapulte schierate sulla vetta su questo muro e scagliano macigni e ogni altro tipo di proiettile molti soldati vengono colpiti uccisi feriti Alessandro deve ritirarsi si tiene un concilio di guerra sotto la tenda sotto l'infuriare di un temporale con neve e tormenta e freddo intensissimo la situazione è a uno stallo non si sa che fare quando a un certo punto uno dei soldati incontra un pastore è un pastore licio il quale dice di sapere come condurli alle spalle delle porte alle spalle di questa strettoia di questo presidio che sembra assolutamente inespugnabile sembra una vendetta della storia nella seconda guerra persiana nel 480 quindi 150 anni prima un pastore di nome Fialte aveva guidato i persiani alle spalle del presidio greco che teneva le termopili e ora si sta verificando la stessa cosa Alessandro e i suoi si assumono il rischio lo seguono e riescono ad arrivare alle spalle della fortezza con questo io vi lascio vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre su Radio 2 alle 8 della sera come abbiamo visto Alessandro con l'aiuto di un sconosciuto pastore licio è riuscito ad aggirare la fortezza imprendibile che vigila le porte persiane e che impedisce l'accesso all'altopiano su cui sorge l'ultima delle capitali Persepoli non sapremo mai il nome di questo sconosciuto pastore di questo personaggio che fu invece personaggio chiave nella storia della spedizione macedone fu grazie a lui che cadde effettivamente l'ultima delle capitali dell'impero Alessandro è ormai giunto a 2500 metri d'altezza il freddo è intensissimo continua a nevicare si trova ormai alle spalle della fortezza delle porte persiane qui divide l'armata in due tronconi uno composto di quattro reggimenti della falange viene inviato verso oriente a costruire un ponte sul fiume Pulvar con gli altri uomini Alessandro prende alle spalle il presidio e lo massacra senza pietà l'attacco è improvviso e durissimo molti dei soldati persiani vengono uccisi altri addirittura si gettano dagli spalti sulle ruppi sottostanti sfracellandosi piuttosto che cadere prigionieri del nemico altri fuggono dispersi per l'altopiano la via per per secoli è ormai aperta Alessandro si ricongiunge con il resto del suo esercito passa il fiume e si presenta davanti alla capitale dobbiamo immaginare lo spettacolo che si presentò davanti agli occhi del condottiero macedone a una certa distanza si doveva vedere il palazzo imperiale che svettava sopra i tetti della città infatti sorgeva su una terrazza alta più di 20 metri con le sue grandi colonne gli atri le scalinate il governatore persiano Abulite cerca di trattare con Alessandro gli apre le porte il condottiero entra nel palazzo dei re a Chemenidi è uno spettacolo assolutamente incredibile un grande atrio poi due enormi sale per le udienze ecco gli appartamenti imperiali che furono di Dario il Grande che furono di Cerse ci sono le loro statue ci sono portoni di bronzo laminati in oro ci sono giganteschi bassorilievi nei quali si vedono animali favolosi che lottano gli uni con gli altri pietre preziose dovunque uno splendore che lascia assolutamente senza fiato e poi la sala del tesoro grande come un campo di calcio e lì sono ammassati 120.000 talenti in lingotti d'oro la più grande fortuna in un unico luogo che esista sulla faccia della terra Alessandro prende possesso della città e del palazzo e qui con una decisione che lascia sbigottiti abbandona la capitale al saccheggio gli scavi archeologici che ebbero luogo dopo tanti tanti secoli hanno dimostrato e provato gli atti di vandalismo ci sono dovunque vasi spezzati statue infrante i segni di una violenza spaventosa Alessandro ha tenuto per sé il palazzo reale con i suoi tesori e quindi ha lasciato la città in balia della soldataglia addirittura gli uomini arrivano a combattersi gli uni con gli altri per contendersi il bottino dobbiamo immaginare veramente una giornata spaventosa e anche una macchia sulla coscienza diremmo noi oggi del conquistatore eppure questo gesto ha una enorme valenza politica ideologica Alessandro infligge a Persepoli lo stesso destino che i persiani disserse 150 anni prima avevano riservato ad Atene il simbolo della Grecia il re si ferma a Persepoli per tutto l'inverno e per buona parte della primavera successiva siamo nel 330 avanti Cristo sono passati soltanto tre anni dall'inizio della campagna e tutte le grandi capitali del mondo antico sono ora saldamente nelle mani di Alessandro il gran re Dario III con ciò che resta delle sue truppe si trova ora nel nord del paese dicono che sia nei pressi di Egbatana una delle residenze estive del re persiano intanto un'avanguardia macedone va verso nord a Pasargade dove c'è la capitale ancestrale dove è sepolto Ciro il Grande e lì trovano altri 6.000 talenti che vengono aggiunti all'immenso tesoro di Persepoli qui verso la fine di aprile ai primi di maggio succede un altro disastro viene dato alle fiamme il palazzo reale e qui le fonti discordano e anche il parere degli studiosi secondo una delle versioni più tarde il disastro sarebbe avvenuto in qualche modo per caso durante una festa una ballerina ateniese di nome Thais avrebbe guidato una danza orgiastica e a un certo punto nei fumi del vino nell'eccitazione della festa dell'orgia avrebbe gridato vendichiamo la distruzione di Atene vendichiamo i caduti di Maratona e delle Termopili e impugnando una fiaccola avrebbe appiccato il fuoco al palazzo gli altri ufficiali macedoni ubriachi al colmo dell'eccitazione l'avrebbero seguita in questa operazione dissennata si sarebbe opposto il solo Parmenione il vecchio generale dicendo perché bruci quello che è già tuo ma ormai era inutile il grandioso palazzo la sala dalle cento colonne i soffitti di cedro i tappeti le cortine i tendaggi sono in fiamme una delle residenze più fastose dell'intero pianeta è ormai preda del fuoco secondo un'altra versione invece quella di Tolomeo che è amico intimo di Alessandro e che era presente la cosa sarebbe stata fatta a freddo la decisione sarebbe stata presa a freddo Alessandro avrebbe stabilito che bisognava vendicare i caduti greci delle guerre persiane la distruzione di Atene l'incendio dei templi infliggendo lo stesso destino al grande palazzo che veniva chiamato di Capodanno è un po' un problema decidere quale delle due versioni possa essere accettata ma c'è un particolare interessante noi sappiamo che questa donna bellissima questa danzatrice ateniese Thais sarebbe poi diventata l'amante di Tolomeo è abbastanza comprensibile quindi che Tolomeo abbia voluto rimuovere da questo spaventoso atto di vandalismo la figura di una donna che poi gli avrebbe dato tre figli e che sarebbe stata per molti anni la sua compagna ben sapendo che lo stesso Alessandro poi si pentì amaramente di questo gesto ma ormai era troppo tardi ma forse un'ipotesi plausibile possiamo trovarla sappiamo che poco tempo prima Alessandro aveva dato ordine di spostare l'intero tesoro del palazzo verso nord verso Ecbatana era stato necessario reclutare 10.000 animali da Soma e 5.000 cammelli per l'incredibile spedizione e questo non può essere stato fatto improvvisamente questa è una decisione che è maturata certamente attraverso mesi e quindi forse possiamo arrivare a un certo tipo di conclusione Alessandro a quel punto sicuramente sapeva già che non si sarebbe fermato sapeva che sarebbe andato fino agli estremi confini del mondo e non poteva lasciarsi alle spalle quel trono vuoto per la sua immensa valenza ideologica e quel tesoro pieno chiunque fosse passato di lì si sarebbe seduto potendo su quel trono e avrebbe speso quel denaro per sostenere il proprio potere Alessandro quindi brucia il trono e cioè brucia il palazzo con tutto ciò che significa e sposta il tesoro con la distruzione di Persepoli la rimozione del tesoro si conclude un'epoca si conclude il lungo periodo del duello tra impero persiano e stati greci si conclude la crociata panellenica di Alessandro adesso egli persegue soltanto i suoi personali progetti il suo sogno di diventare signore del mondo verso la metà di maggio egli muove verso settentrione e in poche tappe raggiunge Pasargade Pasargade è la capitale ancestrale dell'impero persiano e lì su questo altopiano solitario egli vede la tomba di Ciro è una costruzione molto strana è la tenda nomade piazzata sulla cima di uno zigurat mesopotamico quasi a simboleggiare l'origine arcaica e nomadica dei persiani sposata con le grandi civiltà dell'oriente il re ancora dorme nella sua tomba adorna e circondata da un bellissimo giardino e Alessandro la restaura e incarica i sacerdoti di custodirla gelosamente vediamo già che il conquistatore si sta pian piano identificando con la struttura imperiale del popolo che ha conquistato e muove poi verso Egbatena attraverso sentieri difficili impervi è una capitale di montagna che spesso i sovrani achemenidi usavano per i soggiorni estivi lontano dalla calura soffocante di Babilonia e di Susa qui giunto egli affida a Parmenione potremmo dire le chiavi del suo impero perché gli consegna il tesoro da custodire e il controllo di questo centro nodale assolutamente fondamentale per i contatti e le comunicazioni tra gli altopiani dell'interno e la lontana Macedonia questo significa soltanto una cosa che Alessandro si fida ancora ciecamente di Parmenione e probabilmente anche è legato a lui da un affetto sincero ormai Dario è confinato nelle estreme province orientali del suo impero ma non riesce a prendere una decisione ha con sé circa 10.000 uomini e ha ancora un buon numero di mercenari greci che gli sono fedeli ma non sa ancora risolversi non sa se deve opporre resistenza o se deve ritirarsi a un certo punto ad Alessandro giunge notizia che Dario è stato fatto prigioniero dai suoi stessi ufficiali a quel punto balza a cavallo con i reparti più veloci e per 11 giorni insegue il re fuggitivo con una tenacia incredibile molti dei suoi soldati crollano sfiniti dalla fatica molti cavalli si schiantano al suolo stroncati da infarto per l'enorme fatica finché a un certo momento arrivano in questo luogo desolato prossimità di un centro chiamato Ragae e qui incontrano una carovana cominciano a perquisire i carri perché c'è notizia che il re dovrebbe trovarsi lì ma di Dario non c'è nessuna traccia uno degli ufficiali si allontana vede per caso dietro alcune rocce un carro rovesciato coperto di polvere lo ispeziona dentro c'è un uomo avvinto in catene d'oro è l'ultimo re a Chemenide l'ultimo sovrano di Persia morto Alessandro si avvicina lo copre con il suo mantello lo fa deporre su un carro e lo fa trasportare a Persepoli perché gli venga scavata una tomba nella roccia e dorma accanto ai suoi antenati Alessandro a questo punto avanza verso Oriente e in una delle fermate successive vicino al Mar Caspio gli viene incontro il governatore locale accompagnato da un fanciullo bellissimo un giovane eunuco di corte di nome Bagoas un nome molto comune abbiamo già visto che si chiamava Bagoas anche l'eroico difensore di Gaza che Alessandro aveva poi trascinato dietro al suo carro come Achille aveva fatto con il corpo di Ettore questo fanciullo bellissimo lo affascina al punto che dopo una danza Alessandro lo bacia in pubblico e questo ci fa capire come egli ormai fosse affascinato dai costumi orientali e anche dal punto di vista dei costumi sessuali ed erotici egli poi procede e si ritrova nella zona stepposa che confina con l'immense distese dell'Asia centrale e qui egli avanza nel territorio degli Sciti è una popolazione nomade di fatto invincibile ferocemente attaccata alla propria libertà lo stesso Cire il Grande nella sua spedizione contro una delle loro tribù i massaggeti era stato ucciso tanti anni prima gli Sciti si ritirano facendo terra bruciata e Alessandro avanza in questo luogo deserto vede i fiumi che si perdono nel nulla e vengono ingoiati dalla terra è un territorio strano misterioso silenzioso distese sterminate senza confini e qui abbiamo un episodio molto curioso attestato da Ariano dice che gli venne incontro la regina delle amazzoni e che a un certo punto ci fu un incontro fra i due un incontro amoroso perché la regina delle amazzoni voleva avere un figlio dall'uomo più potente e più forte della terra non sappiamo se da questo incontro d'amore sia nato veramente un figlio di Alessandro che poi abbia corso le sterminate praterie dell'Asia centrale forse senza mai sapere di essere figlio di un re venuto dal remoto occidente e molti hanno liquidato questo episodio come pura fantasia creata dagli storici di Alessandro per alimentare il suo mito eppure recentemente alcuni studiosi che si sono occupati proprio dell'esplorazione dei grandi tumuli funerari dell'Asia centrale hanno dimostrato che in queste tombe si sono trovati corredi di donne guerriere e quindi la cosa diviene invece a questo punto altamente probabile è chiaro che siccome i greci tendevano sempre poi a identificare i costumi i riti le credenze dei popoli stranieri con le loro stesse credenze vedendo donne guerriere non hanno potuto fare a meno che riportarsi al loro mito ancestrale delle amazzoni la cui sede la leggenda poneva all'origine nel nord dell'anatolia ma che poi veniva ovviamente spostata man mano che si allargava l'orizzonte di esplorazione dei greci stessi nella sua spedizione verso l'interno Alessandro si ammala gravemente di dissenteria e viene riportato più morto che vivo nei quartieri autunnali dove però viene amorosamente curato e piano piano recupera la sua salute ora non gli resta che punire gli assassini di Dario III perché Alessandro si considera a questo punto a tutti gli effetti il successore degli imperatori Achemenedi e re dei re con questo vi lascio vi do appuntamento a domani sempre alle 8 della sera su Radio 2 abbiamo visto nelle puntate precedenti che Alessandro ha conquistato l'ultima grande capitale dell'impero persiano Persepoli e l'ha abbandonata al saccheggio distruggendo poi anche il palazzo reale un gesto di cui poi in seguito si pentì e poi abbiamo visto come egli spingendosi verso nord abbia poi incontrato il corpo esanime di Dario il nome dell'assassino è noto è Besso il satrapo della Battriana lo dierno Afghanistan che fra l'altro si era battuto anche molto valorosamente sul campo di battaglia di Gaugamela e può darsi che questo tradimento di Besso sia da considerarsi anche come un tentativo disperato forse di uno questi satrapi di ripristinare l'impero persiano togliendo di mezzo questo sovrano pavido irresoluto che aveva voltato le spalle al nemico in due grandi battaglie invece di trovare il coraggio di affrontare la morte sul campo ma Alessandro a questo punto si considera veramente l'erede degli Achemenidi egli si considera il successore legittimo di Dario III e di Ciro e quindi l'assassino di Dario deve assolutamente essere punito Alessandro in quest'area ha fondato delle città tra cui per esempio Alessandria di Margiana l'odierna Merve e poi si è spinto così a nord come nessun greco mai nessuno si era spinto egli ha raggiunto quasi le sponde del lago Daral e si è avventurato nell'area che sta tra l'Oxus e lo Iaxartes i due tributari del lago dell'Asia Centrale che si chiamano oggi Amudaria e Sirdaria qui riceve notizia che Besso si ritrova in una fortezza in mezzo alla steppa e con un inseguimento senza tregua simile a quello che ha posto in atto per raggiungere Dario soprattutto con l'aiuto di Tolomeo e dei suoi reparti di cavalleria riesce a localizzare il punto dove si trova il satrapo traditore che poi gli viene di fatto consegnato dai capi locali che preferiscono in questo modo togliersi di mezzo questa presenza assai ingombrante assai scomoda e indurre Alessandro a tornare sui suoi passi Egli infatti cattura Besso e poi lo fa mettere a morte con un supplizio atroce quello poi preteso dagli stessi ufficiali persiani al seguito di Alessandro perché vogliono che così sia punito colui che ha assassinato il re dei re Alessandro ormai è stato affascinato dai costumi persiani ma non solo Egli certamente sta maturando una nuova coscienza Egli sa che l'immenso impero che ha costituito in tempi così incredibilmente brevi e che si estende dal Danù composto di centinaia di popoli e di nazioni non può essere tenuto insieme da un oppressore da un conquistatore venuto da lontano bisogna pacificare bisogna amalgamare bisogna creare una nuova entità una nuova cultura una nuova civiltà Egli stesso quindi assorbe e assume il cerimoniale persiano Egli si adorna della candis la veste cerimoniale degli imperatori e addirittura esige un tributo formale inaccettabile per i greci la proskinesis Quello che i greci chiamavano proskinesis era un gesto cerimoniale con cui i membri della corte persiana rendevano omaggio al gran re consisteva nel piegare la schiena fin quasi a toccare terra con la fronte e mandare un bacio al re questa pratica soprattutto per i macedoni e per i greci era una umiliazione insopportabile erano abituati ad avere accesso diretto al re a baciarlo sulla guancia a trattarlo con estrema familiarità invece questa volta si trovano davanti un dinasta orientale con il capo cinto da un diadema che si abbiglia con vesti orientali con trine con sete con vesti preziose e quindi non capiscono non si rendono conto di come essi devono assumere i costumi di coloro che hanno vinto di coloro che hanno sconfitto lo vedono come un deteriorarsi un corrompersi dei loro costumi della loro cultura molti si rifiutano e comincia a spargersi un fermento fino al punto che matura un complotto sulle modalità di questo complotto forse non sapremo mai completamente la verità si sa soltanto che uno dei paggi tale Cebalino viene a sapere della congiura e ne avverte Filota il quale è il figlio del generale Parmenione che tiene appunto il controllo del tesoro e di tutte le comunicazioni con l'Occidente ma Filota benché a conoscenza della congiura poi non avrebbe avvertito Alessandro e quindi in questo modo sarebbe stato considerato coinvolto nella congiura condannato e poi messo a morte a questo punto Alessandro si trova in una situazione terribile che cosa farà Parmenione come reagirà il vecchio generale che tiene il controllo del tesoro e delle vie di comunicazione ha già perso un figlio in Egitto il giovane Ettore che lui amava teneramente ha perso un altro figlio ferito a morte nella regione del Caspio durante l'inseguimento di Dario e ora il terzo figlio il più grande il più valoroso viene messo a morte dal suo stesso re Alessandro si rende conto che se Parmenione reagirà se Parmenione romperà il suo giuramento di fedeltà alla Corona la sua fine sarà certa la fine della spedizione sarà certa verranno troncate le comunicazioni forse nascerà una guerra intestina una guerra civile forse Parmenione si metterà al comando delle sue armate e attaccherà Alessandro forse la sua spedizione si perderà nelle steppe dell'Asia egli non può affrontare questo rischio e prende una decisione drammatica e terribile una macchia indelebile sul suo onore e sulla sua coscienza egli manda un gruppo di uomini con i dromedari con i cammelli più veloci che ci siano prima che la notizia raggiunga Parmenione il vecchio generale li accoglie con ospitalità e viene assassinato a tradimento la relazione di Teodoro Siculo che raccoglie testimonianze di prima mano dice Cosimo riparmenione un uomo valoroso che non aveva mai macchiato il suo onore in tutta la sua vita e invece fu Alessandro a macchiare il proprio onore con questa esecuzione scellerata e forse anche inutile forse forse il vecchio generale avrebbe capito forse nella sua incredibile fedeltà alla monarchia macedone forse avrebbe piegato il capo soffrendo in silenzio certo non lo possiamo dire ma questa ipotesi forse non è del tutto improbabile e forse Alessandro si è macchiato per sempre la coscienza con questo assassinio senza che realmente ce ne fosse necessità certo lui non potè prendere il rischio e non volle prendersi il rischio da quel momento però tanti elementi che troviamo nelle fonti disseminati nelle fonti ci fanno capire di un suo rimorso continuo e implacabile forse è da questo momento che Alessandro cominciò a bere smodatamente dicono di sogni che egli faceva di incubi che infestavano le sue notti e anche di un sogno consolatore un sogno nel quale egli incontrò il vecchio generale assieme ai suoi figli e da lui in qualche modo fu perdonato una visione consolatoria che però è significativa ci fa capire come il re macedone che era pensiamo ancora giovanissimo aveva appena 23 anni fosse sotto l'effetto di un rimorso implacabile e certamente molti altri tra i suoi ufficiali ebbero paura si sa di alcuni che si diedero alla fuga che si andarono a nascondere in luoghi remoti perché pensavano di poter essere associati alla congiura di fare parte di queste epurazioni nelle quali furono coinvolti poi anche i due principi reali Aminta e Alessandro a un certo punto Alessandro poi ritorna verso la Batriana verso l'odierno Afghanistan e trascorre comunque l'inverno di quell'anno nella zona di Samarcanda dopo aver fondato un'altra città che si chiama Alessandria Ultima Alessandria Escate proprio la più settentrionale la più remota la più lontana che egli avesse raggiunto dopo essere partito dalla Grecia qui durante l'inverno succede un altro fatto terribile Clito l'altro generale della scuola della vecchia scuola di Filippo è ancora al suo fianco forse anche lui ha capito o in qualche modo ha tentato di capire questa decisione scelerata di Alessandro forse è riuscito a darsene una ragione o forse no e dentro di sé sta maturando un sordo rancore che alla fine culmina in una tragedia durante un banchetto Alessandro è stato raggiunto da ospiti che vengono da lontano ci sono dei cantori ci sono dei danzatori dei poeti ed ecco che uno di questi poetastri diciamo giunto dalla Grecia si esibisce in un virtuosismo completamente fuori luogo e cioè compone una poesia all'impronto in cui sostanzialmente si fa beffe di due vecchi generali che erano morti combattendo nella campagna scitica non ci vuole altro Clito che è presente si alza fuori bondo e li investe con una raffica di insulti Alessandro che all'inizio non ha fatto caso o che forse era troppo brillo per notare cosa stava succedendo improvvisamente reagisce intima a Clito di tacere di non offendere i suoi ospiti e questa è la goccia che fa traboccare il vaso Clito grida guarda come ti sei ridotto sei vestito come una donna non vali neanche un capello di tuo padre Filippo ricordati che questa mano è quella che ti ha salvato al granico Alessandro si infuria reagisce Clito insiste fuori di sé a un certo punto Alessandro prende una mela dal tavolo e gliela tira forse vuole vuole dargli un segnale vuole dirgli smettila non offendermi Clito insiste Alessandro chiama gli scudieri è un atto gravissimo chiamare gli scudieri significa che la persona del re è minacciata e quindi può a quel punto succedere di tutto Clito reagisce ancora con altri insulti Alessandro perde il lume degli occhi afferra una lancia da una delle guardie e gliela tira Clito è trapassato da parte a parte forse nel momento in cui i compagni l'avevano preso per trascinarlo fuori e forse non è riuscito ad evitare il colpo forse Alessandro ha pensato che lui lo evitasse ha voluto solo minacciarlo è difficile a dirsi sta di fatto che la morte di Clito è un dramma spaventoso in quella situazione Alessandro veramente sembra avere completamente perso la testa essersi ormai completamente allontanato da quello che era all'origine aver perso i contatti con il suo esercito con i suoi uomini Clito era il fratello della sua nutrice praticamente per i greci questo era quasi un vincolo di sangue dicono le fonti che appena questo era successo Alessandro si mise a gridare fuori di sé sguainò la spada e cercò di trafiggersi fu fermato dai suoi compagni e condotto via per giorni e giorni fu sentito lamentarsi sotto la tenda invocare il nome dell'amico perduto dell'amico ucciso si era consumata una tragedia di proporzioni spaventose Alessandro veniva ormai visto da molti dei suoi uomini come un essere corrotto come un mostro che non aveva più petà per nessuno che aveva ucciso un uomo straordinario un grande combattente un uomo d'onore come era il vecchio generale Parmenione artefice di tanti suoi successi aveva ucciso quasi un fratello di sangue come era stato Clito detto il nero questo è il momento più cupo Alessandro si può dire abbia toccato il fondo della sua follia non resta che dimenticare non resta che lasciarsi tutto alle spalle andare ancora avanti 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 cercare nuovi orizzonti nuove imprese per far dimenticare per fare capire che questo è stato soltanto un momento di obnubilazione ma la situazione è molto difficile Alessandro ha davanti ora le montagne dell'Afghanistan sono picchi altissimi e inaccessibili abitati da tribù agguerritissime che nessuno è mai riuscito veramente e completamente a domare egli riprende la campagna l'anno successivo risale la valle di Kabul dove fonderà un'altra città e va verso una provincia chiamata Sogdiana qui gli si oppone una roccaforte assolutamente imprendibile è tagliata nella viva roccia sormontata da un picco coperto di neve e di ghiaccio Alessandro manda uno dei suoi messi al governatore che tiene la fortezza annunciandogli che il re dei re è morto che il nuovo re dei re è Alessandro di Macedonia e a lui egli deve obbedienza con questo io vi lascio per questa sera vi do appuntamento al nostro prossimo incontro domani sempre alle 8 della sera su Radio 2 abbiamo lasciato Alessandro ai piedi della imprendibile roccaforte di Sogdiana una fortezza tagliata nella roccia sormontata da un picco inaccessibile coperto di ghiaccio la risposta del satropo è stata sprezzante io mi arrenderò quando il vostro re avrà dei soldati con le ali già soldati con le ali che cos'è che può mettere le ali agli uomini il denaro Alessandro offre 5 talenti una somma enorme in grado di rendere ricca una famiglia per generazioni a chi si offrirà volontario per scalare la ruppe si presentano in 300 sono quasi tutti i montanari del nord agriani tribali traci e assistiamo alla prima impresa alpinistica documentata della storia questi uomini usano i picchetti delle tende come chiodi da ghiaccio e danno la scalata alla rupe durante la notte quindi addirittura una scalata notturna perché non devono farsi vedere molti di loro si sfracellano sulle rocce la maggior parte arriva in vetta e il mattino dopo il messaggero torna davanti alla porta della rocca e dice ecco i soldati con le ali il satrapo si volge in alto e vede la cima della montagna sormontata dal gruppo degli audaci incursori di Alessandro con le frecce incoccate negli archi si arrende tale è lo stupore per questa impresa apparentemente impossibile che egli capisce che non c'è nulla da fare apre le porte al nuovo re quella stessa sera viene dato un banchetto in onore di Alessandro e quella stessa sera Alessandro si trova davanti la principessa Roxane è la figlia del satrapo se ne innamora perdutamente e la chiede in sposa Roxane diventerà la sua regina e sarà quella che gli darà un erede legittimo non sappiamo e non possiamo dire se questo sia stato effettivamente un matrimonio d'amore c'è chi dice che fu soltanto un matrimonio di convidienza che Alessandro aveva astutamente capito che il modo migliore di conquistare quella terra quell'Afghanistan che sappiamo anche recentemente è stato tanto di attualità come luogo imprendibile come luogo indomabile fosse proprio quello di imparentarsi con i maggiorenti locali di stabilire legami di sangue ma noi possiamo anche pensare che effettivamente si sia trattato di un matrimonio d'amore non abbiamo poi motivi per dubitarne e anche se è difficile per noi moderni capire i costumi di genti così diverse da noi di uomini così lontani nel tempo e nello spazio in fondo poi il cuore umano si è sempre mantenuto uguale non è cambiato poi di tanto e quindi perché no perché non accettare l'idea che Alessandro abbia avuto anche egli il suo colpo di fulmine e si sia innamorato il matrimonio fu celebrato con il rito macedone con lo spezzare del pane con la spada e Alessandro da questo momento diventa diciamo un uomo con una sposa e con una possibile discendenza ma già questo era già successo quando Alessandro divenuto padrone del mondo persiano aveva ereditato come successore di Dario l'arem reale era composto da più di 300 concubine una per ogni giorno dell'anno che lo seguivano dovunque il suo esercito ormai era diventato una vera e propria città semovente Alessandro si trova ora in Batriana cioè l'odierno Afghanistan e sta tentando di aver ragione delle ultime sacche di resistenza guidate da un satrapo ribelle un vero e proprio eroe della resistenza persiana contro Alessandro di nome Spitamene e qui abbiamo di nuovo notizie riguardo a profondi dissapori nella corte di Alessandro dovuti a questo suo cerimoniale persiano all'uso della proskinesis che lui continuava a pretendere si sa che Callistene lo storico di Alessandro si rifiutava si dice che una volta non avendo lui accettato di fare la proskinesis Alessandro gli negò il rituale bacio sulla guancia e lui avrebbe risposto pazienza me ne andrò con un bacio in meno dicono anche che un'altra volta Alessandro gli offrisse una coppa di vino schietto e Callistene lo rifiutasse va detto che per un greco bere vino schietto era un'usanza da barbari lo dice già Erodoto per esempio parlando del re spartano Cleomene I che a suo dire morì pazzo proprio perché si era abituato a bere vino schietto all'uso dei barbari evidentemente Alessandro comincia a non sopportare più questa spoccheda intellettuale di Callistene il quale poi non godeva neanche di grandissima considerazione tra gli ufficiali perché descriveva questi fatti d'arme queste battaglie senza avervi mai preso parte senza mai essersi sporcato nelle mani nei piedi sta di fatto che doveva esserci ormai una situazione abbastanza tesa che portò ad un altro evento drammatico Alessandro si trovava accampato vicino a un villaggio afgano quando decise di organizzare una battuta di caccia c'erano con lui anche i paggi reali che erano venuti dalla Macedonia quindi era la nuova generazione erano ragazzi di 15-16 anni l'età che aveva avuto Alessandro al tempo della sua prima caccia al leone qui accadde che uno dei paggi arrivò addosso a un cinghiale e lo colpì a morte proprio un attimo prima che Alessandro potesse vibrare il colpo questo era un atto di estrema scortesia cioè un paggio non avrebbe mai dovuto dare il primo colpo alla preda prima del re Alessandro lo fece frustare lo fece frustare davanti ai suoi compagni e gli tolse addirittura anche il cavallo bisogna considerare una cosa che un atto di questo genere che a noi suona come crudele come ingiusto era tutto sommato una questione di routine nella corte macedone abbiamo già visto che il re poteva infliggere punizioni corporali ai paggi e questo era un fatto assolutamente normale che si verificava ogni volta che il re lo riteneva opportuno perché era lui il responsabile dell'educazione dei figli della nobiltà invece questo ragazzo lo apprese come un insulto insopportabile probabilmente già lui faceva parte di quel gruppo che considerava Alessandro come un tiranno forse sapevano anzi certamente sapevano dell'esecuzione di Filota e di Parmenione probabilmente ascoltavano i mugugni e le critiche degli altri ufficiali e di altri personaggi della corte contro queste usanze orientali di Alessandro sta di fatto che questi ragazzi maturarono la convinzione e la decisione di assassinare il re La congiura fu scoperta i paggi furono messi sotto tortura e ammisero le loro responsabilità e qui le fonti divergono moltissimo riguardo al presunto coinvolgimento di Callistene in questa congiura Callistene come abbiamo ricordato altre volte era lo storico ufficiale di Alessandro e a lui si attribuisce l'affermazione che Alessandro gli doveva la gloria il fatto che le sue imprese sarebbero poi state ricordate dai posteri dall'altro lato invece si sa di un'espressione di Alessandro abbastanza fastidiosa nei confronti del suo storico ufficiale egli avrebbe detto Achille ha avuto Omero mentre io ho Callistene come dire insomma di una enorme sproporzione tra il canti sulla guerra di Troia e invece le relazioni sulle sue imprese secondo alcuni Callistene sarebbe stato l'ispiratore semplicemente della congiura con le sue idee da sofista contro la tirannia secondo altri invece egli avrebbe preso parte attiva nella congiura e anche sulla punizione che Callistene ricevette ci sono molte versioni discordanti secondo alcuni sarebbe stato impiccato secondo altri invece sarebbe stato tenuto prigioniero per mesi e sarebbe morto di malattia altri ancora dicono che egli era stato tenuto agli arresti perché si voleva mandarlo in Grecia dove avrebbe dovuto essere giudicato alla presenza dello stesso Aristotele che era suo zio ovviamente è difficile per noi se non è impossibile risalire alla verità sta di fatto che la storia di Callistene fu interrotta bruscamente dalla sua stessa morte a quanto ne sappiamo egli era arrivato con la sua relazione fino al momento in cui Alessandro giunto sul Mar Caspio aveva licenziato gli alleati greci congedandoli e rimandandoli in patria da questo momento in poi l'unica fonte ufficiale rimangono le efemeridi cioè coloro che stendevano il giornale della spedizione e quella di Tolomeo che rimane senz'altro la più affidabile da questo momento in poi anche si spargono notizie sulla reazione di Aristotele che era stato colpito nei suoi affetti con la morte di Callistene secondo alcuni l'avrebbe presa molto male secondo altri addirittura avrebbe meditato la vendetta resta la testimonianza di una lettera che Alessandro avrebbe scritto ad alcuni suoi generali poco tempo dopo dicendo che i paggi sotto tortura avevano rivelato la loro responsabilità e soltanto la loro responsabilità molti hanno messo in dubbio l'autenticità di questa lettera citata dalle fonti sembra strano che Alessandro scrivesse ai suoi generali riguardo a una materia così delicata e così personale quando sostanzialmente non ce n'era bisogno e sembra piuttosto invece che questa presunta lettera fosse stata costruita come un falso da storici greci che invece volevano assolvere Alessandro dall'assassinio o dalla esecuzione di Callistene comunque stiano le cose l'evento rimane in parte avvolto nel mistero ma la cosa importante è di considerare che a questo momento Alessandro è solo anche la nuova generazione la generazione dei ragazzi congiura contro di lui nessuno più lo capisce abbiamo detto quindi della solitudine di Alessandro egli si è urtato gravemente con i vecchi generali con gli uomini della vecchia guardia di suo padre ha fatto uccidere Pramenione ha ucciso di sua mano Clito il Nero e ora la congiura si sparge tra i giovani i paggi i ragazzi di 15-16 anni che sono la nuova generazione nessuno quindi lo comprende a parte forse i suoi compagni i suoi fedelissimi di sempre che continuano a sostenerlo e che anche in seguito scrivendo le loro storie lo difenderanno sempre e comunque siamo nell'estate del 327 Alessandro fonda un'altra città Alessandria del Caucaso Begram infatti ci troviamo nel Indukush che non è altro appunto che la traduzione dell'espressione Caucaso d'India e qui addirittura fu individuato il luogo in cui sarebbe stato incatenato alla rupe Prometeo e suppliziato dal avvoltoio ovviamente i greci tendevano sempre a riconoscere in nuovi orizzonti le ambientazioni dei loro miti in ottobre Alessandro convoca in una località che gli chiama Nicea convoca i ragia della valle dell'Indo i quali lo raggiungono evidentemente le notizie delle sue incredibili vittorie e del fatto che egli ormai è il signore dell'impero confinante li hanno raggiunti in un'altra località sulla via di Taxila la città principale sul corso dell'Indo che Alessandro chiama Nisa si trovano le prove le presunte prove del passaggio di Dioniso perché si dice che lì era l'unica località in cui cresceva l'Edera la pianta sacra a Dioniso e quindi Alessandro nuovo Dioniso che va sulla via dell'India ormai è certo questo sarà il prossimo obiettivo del condottiero macedone qui Alessandro raggiunge poi la pianura dopo aver attraversato probabilmente il Kyber Pass e dopo aver passato una città di montagna chiamata Aornos in greco e che gli esploratori inglesi hanno identificato con Pirsar ecco quindi che si apre davanti a lui la valle dell'Indo un luogo favoloso un luogo di cui i greci avevano sentito solamente parlare solo voci remote e non controllate qui Alessandro vede per la prima volta cose che non aveva mai nemmeno immaginato i giganteschi bamian cioè i ficus alla cui ombra poteva trovare riparo un intero reggimento e vede il più grande animale della terra l'elefante nella sua storia naturale Aristotele descrive un elefante con tale precisione che i commentatori moderni pensano che questo possa essere derivato soltanto dalla dissezione di un corpo di uno di questi animali quindi può darsi che Alessandro continuasse proprio in questo periodo ad avere comunque relazioni col suo maestro e ad inviare dei rapporti dettagliati sulle nuove scoperte sulle nuove meraviglie di questo remoto paese alle soglie dell'india lasciamo Alessandro lo ritroveremo nella prossima puntata ovviamente domani alle 8 della sera su radio 2 Alessandro attraversa l'indo su un ponte prima di raggiungere Taxila che si trova appunto tra l'indo e il primo dei suoi affluenti di sinistra il gelum che lui chiama l'idaspe Taxila è una città fatta di mattoni crudi e l'ambiente che qui si presenta ad Alessandro gli dà proprio il primo sapore dell'india qui ci sono i famosi gimnosofisti letteralmente i saggi nudi sono chiaramente i guru indiani che praticavano la meditazione praticavano l'ascesi e il loro incontro con un filosofo greco che veniva dall'isola di Kospi Rone di Elide determinerà la prima vera mescolanza tra la sapienza occidentale e la sapienza orientale sarà poi questa mistura di suggestioni indiane e di filosofia greca che darà origine allo scetticismo qui Alessandro si mette d'accordo con i ragia della valle e sfrutta le loro rivalità per avvantaggiarsene dall'altra parte dell'idaspe cioè del gelum c'è un possente ragia che le fonti ci tramandano col nome di poros forse da un indiano parvataka e rappresenta veramente un fortissimo ostacolo dicono che abbia decine e decine di migliaia di guerrieri carri da guerra e soprattutto elefanti la temibile fiera che i macedoni non hanno mai incontrato su un campo di battaglia una vera e propria macchina da guerra gli elefanti erano guidati dai loro i conducenti che stavano seduti sul collo dell'animale e con i talloni lo guidavano erano abituati a calpestare i nemici a usare la proboscide ed erano assolutamente temibilissimi Alessandro si muove all'inizio della primavera quando cominciano le prime piogge forse Alessandro sa o pensa o ragiona ancora come un uomo dell'occidente e quindi la stagione migliore per iniziare una campagna militare è la primavera ma qui siamo in un'area ormai tropicale e quindi come vedremo il tempo le condizioni atmosferiche avranno un impatto enorme sulla azione del conquistatore Alessandro giunge sulle rive del Gelum che è gonfio per le piogge e si porta al guado che gli si offre davanti ma il guado è presidiato da Poros e quindi non è possibile attraversare allora Alessandro durante la notte mentre piove a dirotto risale il fiume lascia a mezza via Meleagro con uno dei suoi reparti in una zona in cui potrebbe esserci la possibilità di passare a guado e lui va ancora oltre fino a raggiungere un luogo in cui la corrente del fiume è interrotta al centro da un'isola qui egli tenta l'attraversamento è un'impresa pazzesca perché il fiume è gonfio per le piogge molto vorticoso e il guado assai difficile però Alessandro riesce prima con un primo attraversamento raggiunge l'isola poi dall'isola guadagna la terraferma qui giunto egli comincia a discendere il fiume per raggiungere Poros ma il ragia indiano gli manda contro il proprio figlio c'è un primo scontro tra la caballeria di Alessandro e le truppe del figlio del re Poros che però sono sui carri da guerra e si ritrovano impantanati nel fango Alessandro ha facilmente la meglio e procede verso il grosso delle truppe nemiche a questo punto i due eserciti sono l'uno di fronte all'altro da una parte il condottiero macedone invitto dall'altra il possente raggia indiano che svetta col suo corpo gigantesco in cima a un enorme elefante la descrizione delle fonti è veramente impressionante in questo momento Alessandro fa la prima mossa egli deve assolutamente accerchiare sui lati l'esercito di Poros e la stessa cosa fa il suo generale Coeno dall'ala sinistra Poros quando vede questa cosa manda immediatamente all'attacco la sua cavalleria per fermare Alessandro ma viene respinto la fanteria leggera anche viene respinta e cerca scampo in mezzo agli elefanti che sono schierati davanti alla fanteria ma Alessandro manda le sue truppe leggere i famosi incursori agriani e traci a inseguire la fanteria degli indiani che si era rifugiata in mezzo agli elefanti e li stermina a questo punto la cavalleria di Alessandro e di Coeno hanno via libera per la loro manovra avvolgente sui fianchi la falange intanto ancora intatta ancora fresca i battaglioni della falange quelli degli incursori agriani e di Liri e la fanteria pesante dei greci avanzano a lance basse lo scontro è spaventoso l'elefante di Poro viene descritto quasi come una nave in mezzo a una tempesta a un certo punto la mischia si fa spaventosa i greci e i macedoni non arretrano colpiscono gli elefanti con le sarisse con le lance li fanno impazzire con i suoni dei corni e delle trombe cosicché la confusione si fa ancora più grande lo stesso re Poros è ferito le fonti descrivono il suo elefante quasi come un animale addomesticato che con la proboscide cerca di svellere il dardo che ha colpito il suo padrone ormai l'armata di Poros è in rotta la sconfitta è irreparabile le perdite sono spaventose alla fine il re indiano il ragia indiano è condotto davanti ad Alessandro i medici già si sono presi cura di lui hanno estratto il dardo e lo hanno accuratamente fasciato Alessandro avanza di fronte a lui i due sono uno di fronte all'altro il ragia indiano altissimo Alessandro molto più piccolo gli chiede che cosa vuoi come vuoi essere trattato e Poros risponde come un re e Alessandro di buon grado acconsente lo nomina satrapo della provincia dell'India che lui sta costituendo anche qui una mossa abilissima perché mostrando prima la forza e poi la clemenza e poi la generosità Alessandro si assicura la fedeltà di questi nuovi governatori che egli pone nelle sue province ovviamente sempre affiancati da presidio macedone in questa circostanza però il sovrano è colpito da un lutto terribile il suo bucefalo muore forse è stato urtato da un elefante dicono alcune fonti nel corso della battaglia forse anche la vecchiaia Alessandro è colpito da un dolore grandissimo affezionatissimo al suo cavallo e anche al suo cane pensate Alessandro aveva anche un cane di cui conosciamo il nome si chiamava Peritas Bucefalo viene sepolto con tutti gli onori Alessandro fonda una città con il suo nome Alexandria Bucefala così scompare di scena questo eroe macedone che si chiama Bucefalo cioè il mitico cavallo di Alessandro Magno sappiamo della cerimonia funebre di questa lunga processione di questa grande tomba in cui egli fu deposto una tomba che non è mai stata trovata probabilmente il luogo fu cancellato dalle continue inondazioni che si verificavano durante le piogge monsoniche eppure la leggenda di Bucefalo pensate era ancora viva in questa zona in pieno medioevo quando passò Marco Polo gli fu riferito a suo dire di stalloni con un corno sulla testa e che questi stalloni discendevano da Bucefalo anzi si disse che a causa di lotte intestine fra i vari signorotti della zona e in seguito a dispetti che si facevano l'uno con l'altro era stato ucciso l'ultimo di questi stalloni e quindi la razza si era estinta è interessante vedere come si era deformata in qualche modo la leggenda forse la parola Bucefalo che significa testa di toro aveva fatto nascere l'idea che l'animale avesse un corno o delle corna sulla testa da cui poi probabilmente sarà venuto anche il mito dell'unicorno che attraversa praticamente tutto il medioevo il mito di Alessandro è talmente grande talmente forte che in certe aree già si considera un onore vantare una connessione di discendenza anche soltanto con il suo cavallo Alessandro a questo punto procede attraversa l'altro affluente dell'indo il Cenab e poi il Ravi dobbiamo immaginare un percorso tremendo l'esercito avanza sotto un cielo continuamente nuvoloso con piogge torrenziali che loro non conoscevano attraverso luoghi assolutamente inondati dagli straripamenti mostri che loro non avevano mai visto che strisciano dovunque coccodrilli enormi serpenti viene descritto un pitone lungo 24 piedi una cosa esagerata per uomini che avevano visto soltanto bisce o piccoli serpenti nella loro vita è una natura ostile difficile una natura terribile è sconosciuta molti muoiono per i morsi dei serpenti ci sono i cobra molti si ammalano di malattie sconosciute è una avanzata durissima e difficile attraverso terreni fangosi nell'infuriare dei temporali fra il fragore dei tuoni e il bagliore accecante dei lampi eppure Alessandro continua la sua marcia e raggiunge la fortezza di Sangala nella piana di Lahore è una piazzaforte molto agguerrita e Alessandro non ha qui le sue macchine da guerra quindi non sa come fare per attaccare queste possenti mura di mattoni di fango secco e in attesa che Poros il suo recente alleato gli porti le macchine da guerra lui scava una mina sotto alle mura e alla fine il muro crolla l'esercito macedone dilaga all'interno della città ed è un massacro 17.000 morti e 70.000 prigionieri quando Poros arriva con le macchine da guerra ormai tutto è stato compiuto e Alessandro ha preso possesso anche di Sangala ormai rimane un ultimo ostacolo tra l'esercito di Alessandro e l'India sterminata l'ultimo degli affluenti dell'Indo l'ifasi l'odierno Beas che cosa sapevano Alessandro e i suoi uomini di questi territori le fonti ci dicono che gli uomini erano spaventati che perfino la posizione delle stelle nel cielo sembrava loro mutata tanto era la distanza che li separava dalle loro case in un primo momento quando erano giunti sull'Indo e avevano visti i coccodrilli cioè la specie indiana del coccodrillo che noi chiamiamo gaviale addirittura si era diffusa la notizia che quella fosse la sorgente del Nilo che diciamo quello fosse il braccio sorgentifero del Nilo perché ovviamente le conoscenze erano ancora così limitate che una simile ipotesi poteva apparire plausibile in altri termini si pensava che l'Indo nel caso si potesse identificare con il Nilo anche perché sulle sue rive vivevano degli etiopi cioè degli uomini con la pelle scura allora si poteva pensare che il fiume poi bordeggiasse la parte meridionale della Persia dell'Arabia e poi finisse nell'Africa e quindi nel Mediterraneo ovviamente noi che conosciamo la geografia moderna sorridiamo di fronte a una simile ipotesi eppure questa fu accuratamente considerata e ci fu chi pensò che ci si sarebbe potuti imbarcare e tornarsene tranquillamente sdraiati sulla tolda delle navi fino a Menfi e fino al Mediterraneo sappiamo che era una illusione assolutamente impraticabile dopo la sua vittoria contro Poros Alessandro aveva fondato una città chiamata Alexandria Nicea cioè Alessandria della Vittoria e poi aveva fondato Alexandria Bucefala lasciando contingenti di truppe e di coloni eppure nonostante questo la sua armata era ancora enorme si erano giunti tanti soldati tanti altri contingenti e aveva ora raggiunto la forza di 120.000 uomini un esercito quale mai si era visto nel mondo greco eppure davanti alla corrente vorticosa dell'Ifasi Alessandro doveva considerare ciò che c'era dall'altra parte e gli giungevano notizie tremende che soprattutto dovevano spaventare i suoi soldati dicevano che dall'altra parte viveva un sovrano che aveva un esercito sterminato si parlava di 200.000 uomini di 4.000 elefanti 2.000 carri da guerra e questo forse cominciava a spargere il panico soprattutto fra le truppe esauste per questa campagna sotto le piogge tropicali e per ormai le infinite battaglie che avevano combattuto dal momento in cui avevano lasciato la Macedonia e qui probabilmente giunse notizia di questo re Dananandra l'ultimo re dei Magada che aveva la sua capitale sulle foci del Gange a Palimbotra una città quasi mitica leggendaria con le sue piscine dorate con i pavoni che passavano tra i parchi e i giardini era qui che Alessandro voleva arrivare voleva arrivare a Palimbotra voleva arrivare sulle rive dell'oceano estremo e riunire tutta la terra sotto il suo comando ma quando veramente decise di passare il fiume egli si trovò di fronte al suo esercito deciso a non andare oltre ormai avevano fatto tutto quello che potevano volevano tornare a casa vi saluto vi do appuntamento a domani alle 8 della sera sempre su radio non sappiamo esattamente come maturasse questa specie di ammutinamento dell'armata di Alessandro forse le voci su questi regni temibili agguerritissimi che erano dall'altra parte del fiume su centinaia di migliaia di guerrieri migliaia di carri e di elefanti spaventavano questi uomini ormai esausti che avevano percorso migliaia e migliaia di chilometri combattuto decine di battaglie sappiamo che non avevano nemmeno più i loro vestiti erano costretti a vestirsi con quello che trovavano avevano perso le scarpe avevano perso le calzature erano veramente allo stremo sotto la pioggia torrenziale gettarono a terra le loro armi e quando Alessandro seppe che il suo esercito non voleva più procedere non voleva crederci poi si chiuse sotto la sua tenda come era solito fare in questi casi non voleva più vedere nessuno era disperato gli sembrava impossibile che il suo esercito lo abbandonasse gli sembrava impossibile dover rinunciare al suo progetto ora che il successo ultimo definitivo sembrava così a portata di mano superare i confini che gli dèi avevano posto agli uomini andare oltre i luoghi che aveva raggiunto Dioniso nella sua migrazione verso l'India che avevano raggiunto gli dèi gli eroi ma non c'era più nulla da fare il suo esercito non voleva più andare avanti si rifiutava di obbedire a quel punto Alessandro se ne fece una ragione disse che gli auspici i sacrifici lo dissuadevano dall'andare più oltre disse che era giunto il momento di ritornare e a quel punto uno dei suoi uomini gli si fece incontro e gli disse grazie re per aver accettato di farti sconfiggere soltanto dai tuoi soldati era una di quelle scene di enorme commozione che avevano poi anche questa funzione quasi catartica liberatoria di riconciliazione tra Alessandro e i suoi soldati tra il condottiero e i guerrieri che l'avevano condotto fino alla fine del mondo a questo punto egli fece erigere dodici altari uno per ogni dio dell'Olimpo in ringraziamento per quello che erano riusciti a ottenere per le vittorie che avevano conseguito ed egli implorò Zeus che non concedesse a nessun uomo di andare oltre quel confine che egli aveva raggiunto dopodiché cominciò la lenta marcia del ritorno Alessandro fece costruire una flotta da Nearco con il legname delle grandi foreste tropicali perché pensava di discendere l'Indo fino alla foce e così avvenne soltanto lungo la marcia di riavvicinamento si trovarono di fronte un ostacolo la roccaforte dei malli qui accade un incidente che avrebbe potuto veramente costare la vita ad Alessandro resosi conto dell'importanza di questa piazzaforte condusse le sue truppe all'assalto ma nella foga dell'attacco egli aveva perso il contatto con i suoi uomini da un lato della cinta muraria le piogge torrenziali avevano provocato una specie di slavina di questi mattoni crudi e si era creata una specie di rampa attraverso la quale forse si poteva raggiungere la sommità Alessandro si lanciò come una furia su per questa rampa e senza considerare che era distaccato dal resto dei suoi uomini si precipitò dall'altra parte e si trovò ben presto circondato da solo all'interno delle mura nemiche arretrò arretrò contro un tronco di fico battendosi disperatamente ma già un giavellotto nemico gli si era conficcato in una spalla arrivarono finalmente i suoi compagni e lo liberarono dagli assalitori ma il re sembrava ormai avere perso conoscenza sanguinante esanime fu riportato all'accampamento e il medico Filippo si prese cura di lui ma purtroppo per estrargli il giavellotto erano stati fatti già dei danni molto gravi probabilmente c'era un polmone gravemente leso Alessandro rimase per quasi tre mesi tra la vita e la morte tale era lo sgomento che si era diffuso fra le sue truppe si diceva ormai che il re era morto che veniva tenuta loro nascosta la notizia che Alessandro dovette passare in rivista le truppe benché debolissimo benché a malapena si reggesse in sella al cavallo naturalmente non più Bucefano che era morto e che riposava in questa tomba lontana sulle rive dell'Indo e già anche l'aveva lasciato un altro amico il suo cane forse un molosso e pirota di nome Perita se anche a lui Alessandro aveva dedicato una città Alexandria Peritas quando finalmente le cure dei suoi medici furono in grado di ristabilirlo Alessandro riprese la sua marcia verso sud certo la sua tempra doveva essere incredibile la sua energia vitale straordinaria pensiamo che egli fu ferito ben undici volte a volte in modo gravissimo come appunto all'assedio della roccaforte dei malli naturalmente poi tutte queste ferite avrebbero comunque inciso gravemente sulla sua salute sulla sua capacità di affrontare nuove prove e nuove sfide ma intanto egli era di nuovo nel pieno delle sue forze e Roxane la sua sposa era incinta la flotta costruita da Nearco riprese a navigare e a discendere l'Indo in varie tappe probabilmente di un giorno di navigazione ciascuna l'esercito avanzava ad ogni sosta si accampavano e ripartivano di nuovo il giorno dopo un altro evento drammatico ebbe luogo verso le foci dell'Indo perché qui si era sull'oceano e quindi l'oceano era soggetto a un fenomeno in gran parte sconosciuto per i greci e cioè le maree il Mediterraneo è un mare chiuso e quindi ha delle maree molto limitate ma l'oceano ha un'escursione fortissima a questo punto una notte la flotta si ritrovò in secca ma quando sul fare del mattino la marea tornò a invadere i bracci del tizi dell'Indo si determinò una tale turbolenza che molti vascelli furono travolti molti uomini caddero in acqua e annegarono quando la situazione ritornò alla calma Nearco si accorse che aveva perso parecchie navi e parecchi uomini anche questo un segno delle avversità naturali che quella terra terribile e affascinante poteva riservare al conquistatore finalmente si trovarono sulle rive dell'Indo Alessandro offrì sacrifici agli dèi e radunò i suoi generali una parte delle sue truppe avrebbe proceduto verso nord una parte invece avrebbe proceduto lungo la costa meridionale egli voleva sapere esattamente quali erano i confini meridionali del suo impero Nearco avrebbe avuto il compito di procedere di conserva con la flotta l'appuntamento era diciamo ad ogni giornata di navigazione sulla terraferma dove la flotta avrebbe potuto rifornire l'esercito di terra sulla carta un progetto plausibile in realtà nell'attuazione pratica si rivelò impossibile quasi subito l'armata di terra perse il contatto con la flotta e per lunghi mesi pensarono che non l'avrebbero mai più ritrovata Alessandro cominciò ad avanzare attraverso il deserto della Gedrosia in direzione ovest attraverso il territorio degli Oriti una tribù indigena costiera che però gli dette molto filo da torcere ci furono degli attacchi ci furono scaramucce ci furono perdite anche gravi alle quali Alessandro reagì con durezza e con determinazione ma l'attraversamento di questo deserto terribile si rivelò una delle imprese più difficili e più costose in termini di vite umane che Alessandro potesse intraprendere lungo la costa vivevano popolazioni molto misere dette poi nelle opere successive degli ictiofagi che significa mangiatori di pesce ovviamente è un termine anche abbastanza comune nel mondo antico troviamo ictiofagi in molte zone costiere perché significa che non c'era per loro altra risorsa che quella che poteva fornire il mare in realtà in alcuni di questi villaggi furono trovato anche del bestiame ma anche questo soprattutto pecore e capre aveva sapore di pesce si scoprì poi che anche gli animali venivano nutriti con una farina di pesce secco è una cosa interessante perché diciamo da un certo punto di vista molto moderna in quanto la farina di pesce farina proteica di pesce è stata per molti anni e forse lo è ancora una delle componenti dei mangimi con i quali noi nutriamo i nostri animali da allevamento ci sono anche qui episodi drammatici riportati dalle fonti infatti Alessandro alla fine perdette più di 20.000 uomini nell'attraversamento di questa fornace che era il deserto meridionale si racconta che un giorno uno dei soldati riuscì a localizzare un po' di umidità si mise a scavare in fondo a un uadi con la punta della spada e vide pian piano filtrare un poco di acqua limacciosa con molta pazienza riuscì a raccoglierne un poco nel fondo dell'elmo e andò ad offrirla ad Alessandro Alessandro si portò alla bocca l'elmo ma in quello stesso momento egli vide i suoi soldati avevano le labbra spaccate la pelle bruciata dal sole gli occhi abbagliati dalla vampa e non ebbe cuore di bere rovesciò a terra quelle poche gocce di acqua amara e disse non beve Alessandro quando i suoi uomini muoiono di sete a metà strada circa tra le foci dell'indo e il golfo di Ormus Alessandro decise di prendere verso l'interno i contatti con la flotta erano ormai stati persi e gli rimaneva la speranza di rincontrare il suo ammiraglio diciamo in fondo al golfo persico quando fosse rientrato a Susa prese quindi verso l'interno certamente consigliato da guide locali e cominciò a inerpicarsi verso le zone collinari fino a giungere in una località che si chiamava Pura qui fu accolto dal satrapo locale dal governatore locale con grande entusiasmo finalmente avevano raggiunto un luogo dove potevano avere cibo e acqua in abbondanza e si rese conto che ormai egli era stato dato per morto la sua spedizione era stata data per dispersa nell'immensità del deserto dopo Pura Alessandro mandò dei reparti in ricognizione verso la riva del mare e qui accadde qualche cosa veramente di incredibile a un certo punto i ricognitori gli esploratori si imbatterono in un gruppo di individui che sembravano usciti dagli inferi laceri bruciati dal sole con espressioni allucinate e però si resero conto che parlavano greco ma chi siete chiesero loro noi siamo della flotta di Nearco erano i loro compagni erano i marinai di Nearco che avevano lasciato tanti mesi prima le foci dell'Indo e che ora avevano preso terra sembrava impossibile un appuntamento che nessuno avrebbe potuto a quel momento aspettarsi e immaginare Alessandro fu avvertito e avvenne l'incontro i marinai e i soldati si abbracciarono il condottiero abbracciò il suo ammiraglio era avvenuta veramente una specie di miracolo a quel punto si decise che il prossimo appuntamento sarebbe stato alle foci del Tigri e delle Eufrate sulle sponde del Golfo Persico Alessandro quindi riprese la sua marcia tagliando fuori Ormozia la città sullo stretto che ancora oggi porta il suo nome stretto di Ormuz cioè l'ingresso al Golfo Persico e prese verso l'interno circa 200 km a nord-est del Golfo di Ormuz Alessandro fondò un'altra città Alessandria di Carmania e riprese poi di nuovo la sua marcia verso nord-ovest e all'inizio della primavera del 325 avanti Cristo Alessandro era di nuovo a Persepoli incredibile a dirsi dopo aver percorso oltre 7000 km a piedi e a cavallo attraverso la Media l'Ircania la Partia la Bactriana la Sogdiana il paese degli Sciti e poi l'India la Racosia la Gedrosia era di nuovo nella Perside l'antica culla dell'impero Achemenide e qui egli si ricongiunse con gli uomini che aveva lasciato di presidio ritrovò le rovine forse ancora molto ben visibili del palazzo che egli aveva bruciato in una notte di delirio e di follia in quello stesso palazzo tanti tanti secoli dopo gli archeologi avrebbero trovato ben due metri di cenere stratificata sul pavimento segno dell'enorme incendio delle meravigliosi travi di cedro profumato che adornavano i soffitti e le volte di quel meraviglioso palazzo di tanta ricchezza di tanto splendore rimanevano solo le pietre scolpite che ancora oggi sono oggetto di stupore e di meraviglia per i visitatori lì ancora oggi lungo le gradinate vediamo la processione di Capodanno i tributi delle cento e cento nazioni sottoposte al Gran Re gli etiopi con cuccioli di leone e di leopardo i medi con agnelli e con antilopi vediamo gli indiani con le perle e con l'oro tutti vengono a offrire doni al sovrano assiso sul suo trono preceduto da due doppie file di immortali della guardia reale con le loro lance dal pomo dorato con le loro sopravvesti ricamate di tutto questo oggi non rimane che la rovina il silenzio soltanto la voce del vento Alessandro si preparava di nuovo a partire ma intanto si era reso conto che la sua lunga assenza aveva determinato una quantità di problemi molti dei suoi governatori erano corrotti addirittura il tesoriere che aveva lasciato a custodire la sala del suo tesoro era fuggito con molto denaro e si era rifugiato ad Atene con l'arrivo di Alessandro a Persepoli concludiamo anche questa fase della grande avventura che abbiamo seguito io vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre su radio 2 alle 8 della sera dall'India Alessandro aveva portato diremmo un suo guru personale in greco viene chiamato Kalanos quindi non sappiamo quale fosse il suo nome originario sta di fatto che accompagnò Alessandro per tutta la durata del viaggio di ritorno e sicuramente fra i due ci fu un intenso scambio di discorsi di considerazioni di meditazioni forse cominciava proprio in quel modo la fusione di civiltà così lontane uno di quegli incontri di energie di pensiero che avrebbero dato poi origine alla nuova civiltà la civiltà ellenistica proprio in questo momento di festa c'era stato proprio l'ultimo tratto di strada era stato percorso con canti inni i soldati stavano sui carri Alessandro aveva addirittura fatto preparare delle grandi piattaforme su ruote aveva disteso dei letti treclinari facendo servire cibi vino come se fosse una gigantesca festa viaggiante un simposio continuo erano state fatte tanti sacrifici era stato sparso tanto sangue era il momento di ricomporre le lacerazioni era il momento di ricompensare i soldati che avevano combattuto con tanto valore era secondo lui il momento della gioia e della celebrazione e così il corteo era arrivato fino a Persepoli lì però il guru indiano di Alessandro si era sentito male non sappiamo di quale dolore si trattasse un dolore così acuto che era divenuto insopportabile una cosa curiosa perché è noto che questi gimnosofisti questi saggi indiani avevano un dominio delle sensazioni e soprattutto un controllo una sopportazione del dolore che era proverbiale quindi difficile capire che cosa fosse questa pena così acuta da essere divenuta insopportabile per un uomo di quel genere a un certo momento Kalanos chiese di porre fine alla propria esistenza sarebbe avvenuto in una maniera straziante egli sarebbe salito vivo sulla pira funebre così Kalanos fu portato su una barella perché era talmente sfinito che non riusciva più a reggersi in piedi in una nube di petali di fiori che venivano sparsi lungo il suo cammino di canti e di suoni e di danze poi egli fu deposto sulla pira funebre e gli fu messa in mano una torcia dicono le fonti che nel momento in cui le fiamme avevano preso ad ardere e l'avevano avvolte in una nube di fuoco egli avrebbe detto ad Alessandro ci rivedremo a Babilonia un messaggio inquietante un messaggio misterioso può darsi che questo non sia mai in realtà accaduto può darsi che sia una leggenda costruita a posteriori eppure da questo momento in poi molte delle nostre testimonianze concordano nel costellare il loro racconto di vaticini di segnali inquietanti e preoccupanti l'avventura del grande condottiero volgeva ormai verso il suo epilogo eppure in quell'autunno del 325 avanti Cristo Alessandro pensava a tutto fuorché ad una fine imminente si recò a Pasargade l'antichissima capitale la capitale ancestrale dei persiani e trovò che la tomba di Ciro il grande era stata saccheggiata i sacerdoti i magi che ne avevano la custodia furono messi sotto tortura per sapere chi fosse il responsabile di quel sacrilegio ma non ottennero nessuna informazione a questo punto furono rimandati liberi e fu imposto il restauro della tomba del grande condottiero il suo corpo fu ricomposto nell'arca in cui avrebbe dovuto ancora riposare per secoli poi Alessandro decise di dare una forma definitiva al suo regno al suo impero di assestarlo di consolidarlo voleva porre fine all'era delle guerre interminabili delle invasioni dei persiani in Grecia delle invasioni dei greci in Persia voleva creare un nuovo mondo e al tempo stesso identificarsi come il condottiero supremo il sovrano di questo nuovo mondo sposò anche la seconda figlia di Dario che si chiamava Barsine come la sua prima sposa la vedova di Memnone il suo avversario e chiese in sposa la più piccola Dripetis per il suo amico Efestione tale era il legame che lo univa al suo amico che gli sembrava cosa bellissima che i loro figli un giorno avrebbero chiamato zio sia Alessandro che i figli di Alessandro avrebbero chiamato zio Efestione questo era uno degli intenti poi diede in sposa al suo segretario generale Eumene Artonis figlia del satrapo Artabazo e poi decise di celebrare una gigantesca cerimonia nuziale proprio a Susa tra diecimila soldati e ufficiali macedoni e diecimila ragazze persiane un grande studioso ha detto che un uomo destinato a morire a 32 anni vive tutta la sua vita come uno che morirà molto giovane chi lo sa forse questa strana scorciatoia nell'integrazione una scorciatoia che passa per la camera da letto forse fu ispirata da un senso di fretta da una sensazione di un tempo che sfuggiva fra le dita come sabbia di un tempo che andava verso il suo esaurimento non lo sapremo mai certo fu una celebrazione grandiosa fastosa con grandiosi padiglioni splendenti di decorazioni preparati all'aria aperta con sfilate nuziali canti inni celebrazioni e un gigantesco emieneo che fu celebrato a conclusione della incredibile spedizione del condottiero certo Alessandro fu chiamato grande fu chiamato magno per la grandezza delle sue realizzazioni ma i critici moderni gli attribuiscono questa grandezza perché egli seppe pensare in grande andò oltre la pagina di Callistene andò oltre gli insegnamenti di Aristotele Aristotele aveva detto i greci devono comandare i barbari devono obbedire egli celebrò invece un matrimonio tra i vinti e i vincitori perché i figli fossero liberi tra i progetti di Alessandro in quel periodo c'era anche la riorganizzazione dell'esercito molti dei suoi soldati reduci dalla massacrante campagna in oriente erano debilitati molti avevano i postumi di ferite terribili altri portavano gli strascichi di epidemie di malattie molti ormai erano troppo vecchi per continuare a combattere durante una serie di manovre militari che gli aveva organizzato a Opis poco a nord dell'odierna Baghdad aveva deciso di congedare tutti i soldati che non erano più abili al servizio militare e di sostituirli con i cosiddetti successori cioè giovani persiani che venivano addestrati alla maniera macedone per rimpiazzare i veterani questo fu preso però dall'esercito dai macedoni come un'offesa sanguinosa fu detto al re senza mezzi termini che quegli uomini avevano dato la loro giovinezza che lo avevano seguito quando erano forti quando erano integri quando erano dei soldati straordinari loro che gli avevano dato il regno l'impero di tutto l'oriente ora erano stanchi malati e lui li rimandava a casa asseriva di non averne più bisogno li sostituiva con questi damerini scintillanti di lucide armature con calzoni ricamati che se li tenesse che stesse pure con loro loro ne avevano abbastanza o tutti sarebbero rimasti o tutti se ne sarebbero andati ancora una volta Alessandro si doveva confrontare contro una dura presa di posizione della sua forza armata si ritirò anche lì un'altra volta in dispetto in corruccio nella sua tenda rifiutando di vedere i suoi soldati a quel punto tra le truppe cominciò a spargersi un senso profondo di sconforto evidentemente tale era il carisma del sovrano che l'esercito non riusciva a sopportare il distacco da lui il distacco dalla sua confidenza dal calore della sua persona del suo contatto quasi fisico molti di loro cominciarono a dire che in fondo erano stati degli ingrati che Alessandro aveva beneficato tutti che era stato sempre generosissimo altri dissero che in fondo il re aveva patito le stesse privazioni aveva subito le stesse ferite aveva affrontato gli stessi pericoli sempre per primo non si era mai risparmiato aveva sorretto i deboli aveva curato i feriti forse veramente si erano dimostrati come ingrati molti di loro quindi spogliatisi delle armi andarono a sedersi attorno alla tenda del re e lì cominciarono a invocarlo ad alzare lamenti e poi a questi se ne aggiunsero altri e altri ancora e altri ancora finché divenne un coro di grida e di invocazioni Alessandro finalmente uscì come Achille dalla sua tenda abbandonò la sua ira funesta e si presentò davanti alle truppe dichiarò loro che li amava che li considerava che non voleva sbarazzarsi di loro che voleva solo che si riposassero che godessero i frutti della loro lunga avventura della loro lunga fatica decretò che per tutta la loro esistenza ricevessero lo stipendio decretò che i figli dei caduti ricevessero la paga dei genitori fino a che non fossero stati maggiorenni che tutti i reduci avrebbero avuto il diritto di portare nei luoghi pubblici una corona d'oro e augurò loro di godersi una serena vecchiaia un boato si levò dalle truppe e ancora una volta il re fu sommerso dall'entusiasmo dei suoi soldati poi lentamente i veterani di cento battaglie cominciarono a imboccare la via del ritorno con i veterani partì anche Cratero uno dei compagni di Alessandro uno dei più intimi con l'incarico di rilevare Antipatro dal suo ufficio di reggente in Macedonia fu una decisione molto forte da molti punti di vista perché Antipatro aveva sempre ben meritato era stato un fedele custode del trono Argeade in Macedonia aveva tenuto tutto sommato a bada la regina madre Olimpias aveva rintuzzato i tentativi degli spartani di riconquistare un'egemonia nel sud della Grecia e si era sempre tenuto pronto eventualmente a ribattere qualunque tentativo di attacco da parte della flotta persiana nei primi tempi della spedizione di Alessandro ma anche lui era un generale della vecchia guardia anche lui avrebbe chinato il capo la primavera del 324 fu dedicata a un'ultima operazione di polizia potremmo dire c'era ancora una tribù guerriera nel nord attorno ad Ekbatana che doveva essere ridotta alla ragione quindi Alessandro partì per una nuova spedizione che avrebbe dovuto essere molto rapida invece costò molti sforzi e molti combattimenti e durò quasi tre mesi poi finalmente egli fece il suo ingresso trionfale ad Ekbatana qui mise sotto processo tre alti ufficiali dell'esercito macedone che lui aveva lasciato di presidio partendo per l'Oriente Eracle Meleagro e Aristonico colpevoli di corruzione e di sacrilegio nei confronti dei santuari persiani evidentemente dovevano aver derubato alcuni santuari indigeni dei loro oggetti preziosi e Alessandro voleva dare un esempio chiaro e forte e cioè che non avrebbe più tollerato nemmeno da parte dei suoi propri ufficiali alcun tipo di offesa e di sopraffazione nei confronti della popolazione indigena dopodiché diede inizio a grandiosi festeggiamenti arrivarono quasi tremila artisti dalla Grecia e ebbero inizio spettacoli concerti rappresentazioni teatrali giochi gare una vera e propria festa che agliettò tutti agliettò l'esercito per parecchio tempo finché purtroppo un nuovo evento lottuoso venne a funestare la felicità del re c'era con lui Effestione il suo amico prediletto che a un certo momento cominciò a sentirsi male purtroppo Filippo il medico di fiducia di Alessandro che l'aveva sempre curato e l'aveva strappato alla morte tante volte era assente probabilmente era rimasto a Persepoli e Alessandro affidò l'amico alle cure di Glauco il quale ordinò una dieta rigorosissima infatti Effestione cominciò a sentirsi meglio la febbre che l'aveva divorato cominciò a scemare e sembrava mettersi sulla via della guarigione a quel punto il medico pensò di potersi concedere una distrazione e si recò appunto ad assistere a uno dei meravigliosi spettacoli allestiti quei festeggiamenti Effestione approfittò dell'occasione per togliersi la fame che aveva patito fino a quel momento divorò un pollo arrosto beve una mezza anfora di vino immediatamente le sue condizioni precipitarono quando Glauco fece ritorno lo trovò riverso sul letto morto Alessandro ebbe una reazione di un dolore terribile di una disperazione fuori misura fece uccidere il medico che aveva lasciato incustodito un così illustre paziente e si abbandonò al dolore e alla disperazione per più giorni poi inviò una missione al santuario di Amon a Siwa nell'oasi di Siwa chiedendo che Effestione potesse essere venerato come un eroe con questo abbiamo terminato per questa sera vi do appuntamento a domani sempre alle 8 della sera su Radio 2 abbiamo assistito nella puntata precedente a questo evento luttuoso che ferì profondamente Alessandro la scomparsa del suo amico prediletto Effestione non sappiamo esattamente che cosa sia successo sempre difficile fare la diagnosi di una malattia occorsa 23 secoli fa però i sintomi abbastanza accuratamente descritti dalle fonti fanno pensare a una peritonite o a un'appendicite acuta a quei tempi una malattia di questo genere oggi assolutamente banale risolvibile con un intervento chirurgico molto rapido addirittura a volte in laparoscopia era invece letale il fatto che una volta messo a digiuno stretto Effestione avesse recuperato abbastanza in fretta e la febbre fosse scemata fa pensare che effettivamente si trattasse di una forma di una patologia di questo genere invece dall'altro lato interessante vedere questo primo gesto di Alessandro la disperazione innanzitutto la reazione all'evento assolutamente esagerata fuori di ogni limite e questo chiaramente ha a che fare con l'ideologia omerica a cui sempre Alessandro si è legato si è tenuto vicino egli è il nuovo Achille quindi Effestione è il nuovo Patroclo e la scomparsa del nuovo Patroclo genera nel nuovo Achille una disperazione senza limite proprio come quella che era stata descritta da Omero nell'Iliade non sapremo mai quanto di spontaneo dolore ci fosse in questa reazione e quanto ci fosse invece dell'Alessandro attore dell'Alessandro che posa dell'Alessandro che recita davanti al teatro del mondo intero che assiste e ammutolisce certo i fatti che seguirono lasciarono veramente stupefatti egli fece imbalsamare il corpo dell'amico e lo fece trasportare fino a a Babilonia e lì preparò i funerali si trattò di un evento clamoroso a tutti i livelli fece innalzare una pira di legno di cedro alta una ventina di metri c'erano travi giganteschi scolpite in forma di animali mitologici c'erano sirene tritoni c'erano mostri chimere era un'orgia di dorature di ornamenti che lasciavano assolutamente stupefatti era il fasto orientale al servizio della ideologia imperiale del nuovo sovrano del mondo poi venuto il momento quella meraviglia effimera in cui era stata dilapidata una somma enorme di denaro divenne preda delle fiamme il corpo dell'amico fu consumato le sue ceneri raccolte in un'urna e sepolte in un mausoleo fastoso al tempo stesso nasceva subito per ammissione e per concessione dell'oracolo di Siua il culto eroico il culto del nuovo eroe nell'ideologia dei greci l'uomo poteva diventare eroe e l'eroe come era successo a Ercole antenato di Alessandro diventare un dio ormai la primavera volgeva al termine e Alessandro conclusi in questo modo i funerali dell'amico Effestione cominciò di nuovo a guardare al futuro certo era stato comunque un evento che lo aveva colpito in profondità la sua gioventù se ne andava aveva perduto il suo cavallo il suo cane i suoi compagni della giovinezza aveva perduto i vecchi generali di suo padre di cui aveva egli stesso provocato la fine e ora perdeva l'amico più intimo l'amante colui che gli era stato vicino per tanti anni e sempre gli aveva dimostrato una cieca devozione rimanevano gli altri rimaneva Perdicca che era innamorato di sua sorella Cleopatra e che poi un giorno l'avrebbe sposata rimaneva Bartolomeo l'amico intelligente fedele scelto per tante missioni delicatissime e pericolose Seleuco intelligente preparato freddo e determinato quanto bastava poi Cratero cui aveva affidato la reggenza di Macedonia e poi l'Isimaco e il possente Leonato che tante volte lo aveva divertito con le sue esibizioni da lottatore e che addirittura a volte anche gli aveva salvato la vita bisognava guardare al futuro e qual era il futuro di Alessandro la spedizione occidentale del cognato Alessandro De Piro si era conclusa in modo drammatico ma Alessandro non aveva dimenticato quell'impresa e tra i suoi progetti c'era sicuramente anche un progetto occidentale intanto però egli aveva di fronte la sterminata penisola arabica per noi è un immenso contenitore desertico per loro era un paese magico era il paese degli aromi dell'incenso della mirra dell'aloe sostanze preziosissime che a quei tempi avevano una circolazione assai ristretta solo tra i più grandi santuari e nelle corti più fastose quindi un paese favoloso e magico e per questo egli cominciò a progettarne la conquista e l'occupazione mentre il grembo di Roxane si ingrossava nell'attesa di un figlio Alessandro fece scavare sulle sponde delle Eufrate una darsena gigantesca capace di ospitare più di cinquecento navi da guerra e assieme a Nearco progettò la costruzione e il varo di una nuova flotta con la quale circonnavigare la penisola ed eventualmente prepararne lo sbarco ordinò un'altra impresa incredibile messaggeri arrivarono fino alle coste della Fenicia e chiesero di far arrivare fino al Golfo Persico una nuova squadra i marinai fenici di Tiro e di Sidone costruirono una quantità di navi e trasportarono tutti i pezzi il tavolame il fasciame le ordinate e quant'altro fino a Tapsaco sulle sponde delle Eufrate lì le assemblarono le vararono nel fiume e le inviarono fino al Golfo Persico una flotta intera era passata dal Mediterraneo alle rive dell'Oceano Indiano a dimostrare ancora una volta che nessun ostacolo era limitante che nessun ostacolo era preso in considerazione dal nuovo sovrano del mondo le nostre fonti specialmente quelle più tarde ci dicono ora di una quantità di delegazioni giunte da tutto il mondo per rendere omaggio al sovrano certamente in parte è vero si dice che giungessero dalla Libia che giungessero dall'India dall'Egitto dall'Anatolia dalle rive del Mar Caspio e dell'Oceano Indiano dai territori più lontani e remoti ma addirittura si dice che venisse anche una delegazione dei Romani una storia che i Romani non hanno mai digerito e che hanno sempre rifiutato perché era in qualche modo per loro umiliante loro che in seguito avrebbero battuto la Macedonia l'avrebbero ridotta a provincia romana ma non sarebbero mai riusciti a sconfiggere i persiani come invece era riuscito ad Alessandro l'idea di una loro ambasceria che andava a rendere omaggio a questo re era piuttosto umiliante Tito Livio comunque accetta l'idea che Alessandro progettasse anche l'invasione dell'Occidente e che quindi in qualche modo i Romani ne dovessero tenere conto si disse anche che l'idea di Alessandro era ancora più impressionante che lui dall'Egitto avrebbe prima mosso lungo la costa africana per sottomettere Cartagine poi giunto fino alle colonne d'Ercole avrebbe pensato di passare in Spagna e di là conquistare tutta l'Europa fino all'Italia forse sono esagerazioni forse sono semplici sta di fatto che c'era un grande fermento tra le colonie greche del sud d'Italia in particolare Taranto per esempio che l'anno prima era stata molto acquiescente e succube nei confronti dei Romani e invece adesso diventa addirittura arrogante e li sfida apertamente cosa che non si spiegherebbe se non si sentisse le spalle coperte come per esempio per un imminente arrivo di Alessandro e Tito Livio dice che i Romani a scanso di pericoli avevano nominato un condottiero che si chiamava Papirio Cursore che era pronto a inchiodare Alessandro sul bagnasciuga qualora avesse tentato l'invasione dell'Italia è chiaro che si tratta di una visione distorta di una romanità trionfante di età augustea che tende a proiettare anche nel suo periodo più arcaico lo stesso tipo di potenza è una cosa acquisita che in quel momento in tutto il mondo conosciuto non esisteva alcuna potenza in grado di sfidare Alessandro e quindi egli all'età di 32 anni era virtualmente il signore dell'intero mondo conosciuto nessuno tra lo stretto di Gibilterra e l'Indo avrebbe potuto permettersi di sfidare imponemente la sua potenza cominciano però in questo momento una serie di segnali sinistri ominosi di cui le fonti sono disseminate e che in qualche modo sono premonitori di una fine imminente Alessandro sta discendendo le Eufrate assieme al fido amico e suo ammiraglio Nearco in bocca la Pcallatu che era un canale scolmatore qui un colpo di vento fa volar via il cappello sul quale c'è il diadema reale un marinaio si tuffa per recuperarlo e per non rovinarlo si cinge il diadema sulla testa tra la costernazione dei sacerdoti caldei che dicono che bisogna immediatamente metterlo a morte per scongiurare il presagio sinistro Alessandro si limita a farlo frustare ma l'episodio lascia il suo segno qualche tempo dopo si verificò un altro presagio inquietante che avrebbe potuto essere interpretato come la fine imminente del re Alessandro stava seduto sul suo trono fuori dalle mura della città di Babilonia e assisteva all'evoluzione di alcuni reparti di cavalleria terminate le manovre Alessandro si alzò e andò a conferire a parlare con i suoi ufficiali probabilmente per commentare per discutere di aspetti tecnici di queste manovre militari improvvisamente mentre tutti erano distratti o parlando o ammirando le ultime manovre degli squadroni uno sconosciuto passò in mezzo a loro passò anche in mezzo ai ciambellani che non vi fecero caso e andò a sedersi sul trono di Alessandro ridendo sgangheratamente le guardie lo catturarono immediatamente e lo misero a morte ma i sacerdoti caldei si batterono il petto e si graffiarono il volto in segno di disperazione perché quello il fatto che uno straniero un estraneo uno sconosciuto si fosse seduto sul trono di Alessandro era il peggiore dei presagi eppure nonostante questi fatti Alessandro si sentiva bene faceva progetti e probabilmente anche l'imminente maternità di Roxane gli dava il senso della continuità del suo regno e del suo progetto a un certo momento possiamo anche pensare che egli progettasse di ricongiungersi a quanto restava della sua famiglia forse avrebbe fatto venire la regina madre Olimpias che non vedeva ormai da dieci anni forse avrebbe fatto venire la sorella Cleopatra che non vedeva da quando era andata in sposa ad Alessandro De Piro certo le voci di questi inquietanti presagi si dovevano essere diffusi fra gli amici può anche darsi che fossero stati esagerati può anche darsi che fossero stati diffusi ad arte è difficile dirlo oggi a distanza di tanti secoli sta di fatto che in qualche modo tutti gareggiavano per invitarlo a pranzo per tenerlo allegro lui accettava tutti gli inviti non rifiutava mai non diceva di no a nessuno passava giorni e notti intere bevendo gozovigliando senza ritegno una sera tornando da uno di questi conviti si sentì poco bene aveva la testa pesante si sentiva proprio male ma non diede peso a questa cosa si limitò a fare un bagno e si mise a letto il giorno dopo aveva la febbre ma si anzò ugualmente nonostante la regina insistesse e anche i suoi amici insistessero perché si riguardasse perché rimanesse a riposo invece andò a pranzo da un amico un amico greco che era venuto a trovarlo a Babilonia il suo nome si è tramandato alle fonti si chiamava Medio e rimase con lui tutta la giornata verso sera mentre era ancora a mensa sentì improvvisamente un dolore acutissimo lancinante e improvviso al fianco sinistro talmente forte che lo fece urlare e Alessandro era un uomo abituato a sopportare il dolore i servi lo sollevarono lo misero a letto e dopo qualche tempo il dolore sembrò attenuarsi forse si era trattato di un falso allarme e io sono giunto alla fine anche di questa puntata vi saluto vi do appuntamento per domani alle otto della sera sempre su radio abbiamo visto dunque che Alessandro nell'ultimo mese aveva accettato una impressionante quantità di inviti a pranzo a cena a simposi a casa di Tolobeo a casa di Perdicca di un dignitario persiano di nome Bagoas e di tanti altri e abbiamo visto come improvvisamente si era sentito male durante una cena a casa di un amico greco di nome Medio aveva avuto un dolore acutissimo al fianco sinistro poi era stato messo a letto febbricitante era sembrato che le cose si mettessero un po' per il meglio ma purtroppo il giorno dopo la febbre anziché diminuire era aumentata e qui bisogna un po' soffermarci su questo problema del bere secondo alcune fonti Alessandro dopo aver ordinato l'uccisione di Parmenione dopo aver ucciso di sua propria mano l'amico Clito a Samarcanda aveva cominciato a bere smodatamente sempre di più altre fonti invece più benigne nei suoi confronti dicono che Alessandro beveva soltanto per sostenere il piacere della conversazione sta di fatto che secondo una di queste testimonianze che potrebbe essere ricondotta sostanzialmente ai diari di Eumene che era il suo segretario Alessandro ebbe tre tracolli veri e propri nell'ultimo mese di vita e ogni volta ci vollero più di trentasei ore di sonno perché fosse di nuovo in grado di muoversi di camminare e andare a caccia e giocare ai dadi che era uno dei suoi passatempi preferiti quando quando Alessandro lasciò la casa di medio era il 29 maggio tornò il giorno dopo mangiò e poi di nuovo tornò a casa sua nel suo palazzo di residenza per fare un bagno lì ancora cenò e si addormentò nella stanza da bagno probabilmente anche per effetto della febbre che montava ancora come sempre succede verso sera il giorno successivo fu condotto fuori dal palazzo in barella perché non voleva rinunciare ad ufficiare comunque il sacrificio al dio Amon come era solito sempre fare dopodiché fu riportato al palazzo e lì convocò i suoi ufficiali per discutere della spedizione verso l'Arabia che avrebbe dovuto cominciare addirittura di lì a quattro giorni più tardi fu portato nel quartiere nord della città che è un quartiere più fresco più ventilato e lì continuò a discutere a giocare ad adi e anche a conversare con il suo amico medio che lo aveva raggiunto se non che la febbre continuò a montare e non lo lasciò per tutta la notte il giorno successivo le sue condizioni erano ancora peggiorate e non ebbe nemmeno la forza di celebrare il sacrificio cosa a cui peraltro aveva sempre tenuto moltissimo lo trasferirono nel palazzo vicino alla cosiddetta grande vasca ma anche lì non ebbe nessun giovamento chiaro che ci troviamo a Babilonia in piena estate quindi la calura era enorme era difficile dargli sollievo ancora per due giorni se dobbiamo credere ai diari alle efemerdi continuò a discutere i particolari della spedizione in Arabia con i suoi ufficiali è probabile veramente che Alessandro credesse che nulla lo potesse piegare che nulla potesse distruggerlo il fatto di avere passato tanti pericoli il fatto di essere stato ferito tante volte di essere stato sull'orlo della fine e sempre di essersi ripreso doveva avergli dato una certa fiducia in se stesso e nelle sue proprie possibilità comunque alla fine anche agli ufficiali fu chiesto di aspettare nel cortile mentre il re veniva di nuovo trasferito nel palazzo dove si era sentito male la prima volta i suoi compagni e i suoi ufficiali gli andarono dietro per continuare a tenergli compagnia ma Alessandro a questo punto non poteva più parlare l'otto e il nove le cose continuarono praticamente come prima non ci fu nessun miglioramento la febbre sempre altissima nonostante i medici cercassero di combatterla con dei bagni freddi e queste sue condizioni si protrassero immutate fino alla sera del nove il mattino dopo si verificò un episodio toccante i suoi soldati ormai erano insospettiti vedevano queste barche andare su e giù da un palazzo all'altro qualcuno aveva visto il re trasportato in barella volevano sapere che cosa stesse succedendo evidentemente non c'erano dei bollettini ufficiali i soldati erano tenuti all'oscuro di tutto a un certo momento forzarono il picchetto di guardia cominciarono a battere i pugni sui portoni del palazzo forzarono appunto il picchetto di guardia e raggiunsero gli appartamenti del re Alessandro li vide arrivare loro i soldati videro il loro re giacere mortalmente pallido divorato dalla febbre sul letto e cominciarono a sfilare in silenzio al suo capezzale uno per uno quei volti scavati dal gelo bruciati dal sole delle altezze dai deserti quelle membra segnate da cicatrici di cento battagli Alessandro per tutti ebbe un cenno dicono le nostre fonti un cenno del capo uno sguardo un sospiro non poteva più parlare ma i soldati sentivano che li vedeva che li sentiva vicini e che li stava salutando l'ultimo saluto alla fine uno dopo l'altro sfilarono e uscirono dalla porta posteriore il giorno dopo verso sera Alessandro spirò secondo invece un'altra versione dei fatti le cose sarebbero andate molto diversamente non ci sono qui descrizioni di tutti questi spostamenti da un palazzo all'altro invece si parla apertamente di un veleno un veleno che gli sarebbe stato portato da un tale Iolla figlio di Antipatro il quale appunto non volendo essere rimosso dal suo incarico meditava la soppressione di Alessandro ci sono addirittura anche tradizioni secondo cui Aristotele avrebbe inviato un veleno nascosto dentro alla zampa di un mulo Alessandro si sarebbe alzato dal letto avrebbe cercato di vomitare avrebbe chiesto a Iolla di aiutarlo a soleticargli la gola con una penna ma questa penna era già stata ancora di più intinta nel veleno e in questo modo la sua situazione ancora peggiorava avrebbe addirittura voluto gettarsi nelle ufrate ma Rossane lo avrebbe dissuaso abbiamo anche una scena nella quale Alessandro Morente è circondato dai suoi amici e qualcuno gli chiede a chi lasci il tuo regno Alessandro si sarebbe tolto l'anello l'avrebbe dato a Perdica mormorando al più degno è molto difficile per noi ricostruire la verità di quello che effettivamente accadde in quei giorni tumultuosi il fatto per esempio che in seguito Perdica uno dei diadochi cioè dei successori fosse tra i più accaniti difensori della unità dell'impero di Alessandro quasi che ne volesse difendere l'eredità farebbe pensare che questo gesto abbia avuto effettivamente luogo cioè che Alessandro abbia consegnato il proprio anello a Perdica può anche darsi che egli consegnasse l'anello perché era il più vicino dicendo al più degno non a te che sei il più degno ma al più degno in generale comunque un'espressione molto vaga e che avrebbe probabilmente dato adito a una zuffa tremenda fra gli stessi successori cosa che poi puntualmente accadde sta di fatto che la morte di Alessandro rimane comunque tuttavia un fatto molto discusso a più riprese gli studiosi hanno cercato di stabilire che cosa può essere stato a stroncare la vita del grande condottiero è stato ipotizzato per esempio che durante i suoi viaggi nel sud dell'Iraq dell'attuale Iraq della Mesopotamia delle zone paludose avesse contratto la malaria qualcuno pensando a questo dolore acutissimo al fianco sinistro che gli era occorso la notte del banchetto in casa di medio ha pensato ad un collasso epatico dovuto allo smodato uso del vino alle bevute eccessive ed esagerate ma pare che in realtà non siano questi i sintomi di un collasso epatico che non ci sia apparentemente dolore recentemente uno studioso americano ha fatto un'altra ipotesi egli cioè pensa che Alessandro sia morto di una febbre tifoidea è chiaro che c'era in atto un'infezione è chiaro che la febbre è segno di una infezione la febbre è altissima e un particolare delle fonti che apparirebbe a geografico invece ha indotto a questa ipotesi delle febbre tifoidee dicono appunto i diari che il corpo di Alessandro a Babilonia nel pieno dell'estate per giorni e giorni non emanò alcun odore di corruzione ma anzi manteneva il suo odore naturale che secondo la testimonianza di Plutarco era addirittura quasi una sorta di profumo questo che parrebbe un particolare completamente a geografico ha fatto invece pensare ad alcuni studiosi che Alessandro non fosse morto ma semplicemente in coma profondo quindi Alessandro per alcuni giorni creduto morto in realtà sarebbe stato ancora vivo e questo sarebbe un tipico sintomo delle febbre tifoidee di qualunque cosa si sia trattato di qualunque malattia si sia trattato molto probabilmente l'avrebbe risparmiato se egli avesse saputo risparmiare se stesso un grande studioso inglese ha detto di lui la lampada che arde più vigorosa consuma le pareti della lucerna che la contiene e Ariano lo storico più attendibile delle sue gesta colui che soprattutto si è rifatto alla testimonianza del suo amico Tolomeo dice egli non trovò mai un avversario degno di lui e se alla fine non avesse più trovato nessuno contro cui battersi si sarebbe battuto contro se stesso un'espressione che ci fa meditare sul carattere di quest'uomo sulla sua insaziabile curiosità sulla sua ardente sete di vivere che passò come una meteora cambiando completamente il mondo e morendo prima di aver compiuto il trentatresimo anno di età la leggenda di Alessandro si può dire che cominciò con il suo cadavere ancora caldo la Bibbia all'inizio del primo libro dei Maccabei disse di lui e allora sorse un uomo chiamato Alessandro e compì imprese incredibili e la terra rimase muta al suo cospetto e terra silhouette in cospetto eius si diffuse la leggenda di un uomo invincibile di un uomo disegnato dagli dei si diffuse la leggenda che la madre Olimpias una notte sarebbe stata visitata da un dio in forma di serpente e avrebbe concepito così Alessandro la leggenda che poi era rafforzata da quel vaticinio dell'oracolo di Siua non parlare così di tuo padre perché tuo padre non è un mortale tuo padre è un dio la leggenda si sviluppò e si stratificò assumendo colori e tinte diverse a seconda dei popoli e delle tradizioni che la recepivano e così Alessandro viene dipinto come una specie di demone nella tradizione successiva prima dei parti e poi dei sassanidi che avevano raccolto la eredità degli imperatori achemenidi raggiunse e si diffuse nelle valli remote dell'Himalaya dove un regno ellenistico quello di Batriana avrebbe ancora continuato a vivere dando vita alla civiltà Gandhara si stratificò in Egitto quando appunto la leggenda nata nell'oasi di Siua sarebbe giunta fino alle sue estreme conseguenze varcò i secoli dando origine al famoso romanzo di Alessandro dove il conquistatore macedone è dipinto come un dio come un uomo in grado di volare un uomo che scende fino negli abissi del mare nel medioevo cristiano egli fu trasformato in un cavaliere invincibile protagonista di imprese incredibili l'eco delle sue imprese si sparse attraverso il nord Africa tramite cirene fino agli estremi confini occidentali dell'Ecumene e in seguito ancora nell'India e nella lontana Cina purtroppo come abbiamo già avuto modo di dire le fonti così ricche così dettagliate così variegate di tanti differenti autori di Aristobulo di Clitarco di Onesicrito i diari di Eumene e di un misterioso coautore di nome Diodoto quelli di Tolomeo quelli di Nearco che ci parlarono dell'India e del faticoso ritorno della flotta fino al Golfo Persico tutto questo immenso materiale andò perduto non una sola riga di tutto questo ci è pervenuta l'interesse rinacque quando i romani di nuovo si volsero verso l'Oriente quando le truppe di Crasso furono annientate a carre allora nuovi autori rivisitarono le antiche fonti e sono gli unici che a noi sono pervenuti la biografia di Plutarco i capitoli di Diodoro Siculo e la grande storia l'anabasi di Ariano e Pompeo Trogo e Cursio Rufo altro non ci resta non sapremo forse mai quale sia stato il vero Alessandro per questo il suo più accreditato biografo moderno lo studioso inglese Robin Lane Fox ha intitolato il suo libro A Search for Alexander una ricerca per Alessandro così si conclude la vicenda di Alessandro ma la storia non è finita vi aspetto domani sempre alle 8 della sera su Radio 2 per vedere il mondo che cambiò per vedere cosa accadde dopo la scomparsa del grande condottiero e come nacque una civiltà di cui ancora noi oggi siamo partecipi quando Alessandro morì in quel lontano 10 giugno del 323 avanti Cristo Roxane la sua sposa era all'ottavo mese di gravidanza ma non si sapeva ancora se il nascituro sarebbe stato un maschio Alessandro aveva anche lasciato un figlio illegittimo diremmo noi oggi a quei tempi dicevano bastardo di tre anni dalla sua amante Barsine ma questo bambino non fu preso nemmeno in considerazione in Macedonia restava un membro della famiglia reale Argede Filippo Arrideo fratellastro di Alessandro ma mezzo scemo comunque siccome perdica aveva avuto l'anello di Alessandro fu lui a prendere la prima decisione convinse a un certo momento le guardie del corpo e la cavalleria a sostenere il figlio di Rossane la fanteria però fu convinta dal suo comandante Meleagro uno dei protagonisti della battaglia di Gaugamela a sostenere invece Filippo Arrideo il quale certamente non era il meglio che si potesse sperare per una successione però almeno non aveva sangue orientale questo ci fa capire quale fosse l'opposizione quanto forte fosse l'opposizione alla politica di integrazione etnica tentata da Alessandro in sostanza una grande parte dell'esercito non aveva mai accettato questa integrazione la coscienza di aver vinto il fatto di essere i conquistatori impediva loro di prendere in considerazione l'idea di potersi amalgamare di potersi confondere con i vinti ne nacque uno scontro violento addirittura nelle primissime ore Perdicca e Tolomeo dovettero rifugiarsi nella camera dove giaceva ancora il corpo di Alessandro i soldati di Meleagro sfondarono la porta e cominciarono addirittura a minacciarli con le armi furono fermati appena in tempo Perdicca si ritirò con la cavalleria fuori Babilonia e si accampò intorno alla città meditando la vendetta pose il blocco a Babilonia finché a un certo momento non fu più possibile a Meleagro rifornirsi dei viveri di cui aveva necessità per nutrire le sue truppe e così egli fu costretto a trattare un accordo rideo il fratellastro di Alessandro avrebbe avuto una reggenza fino a che il figlio del condottiero Macedone avesse raggiunto l'età di regnare sotto la tutela congiunta sia di Meleagro che dello stesso Perdicca seguendo un antico rituale l'esercito Macedone fu purificato dalla contaminazione della morte di Alessandro passando sfilando tra le due parti di un cane smembrato appena in seguito a questi accordi la sorveglianza si fu attenuata per Dicca reagì catturò una trentina tra i sostenitori di Meleagro e li fece schiacciare dagli elefanti Meleagro vista inutile ogni possibilità di resistenza si suicidò ed era passata soltanto una settimana dalla morte del re intanto la imperatrice madre Sisi Gambis la madre di Dario III dell'ultimo imperatore Achemenide si lasciò morire di Nedia e questo ci fa capire quale eredità di affetto avesse lasciato Alessandro l'imperatrice non aveva dimenticato come era stata trattata come le donne della corte erano state trattate dal vincitore nel volgere di un anno quella rivolta esplose fino al Mediterraneo con sostanzialmente due schieramenti in gioco da una parte quelli che difendevano l'unità dell'impero dall'altra i separatisti come Tolomeo che praticamente si proclamò indipendente e sovrano dell'Egitto le sanguinose convulsioni che si determinarono nell'impero alla morte di Alessandro non risparmiarono ovviamente nemmeno la sua famiglia Roxane con l'approvazione di Perdica avvelenò la moglie persiana di Alessandro Statira poi a un certo momento tartorì finalmente un maschio che fu chiamato Alessandro IV intanto moriva in Macedonia Antipatro uno degli ultimi generali della vecchia guardia di Filippo un uomo che aveva servito fedelmente Alessandro come reggente e aveva anche rintuzzato parecchi tentativi anche da parte degli Spartani degli Atenesi di riconquistare la libertà perduta alla morte di Antipatro la regina Olimpias che era in Epiro rientrò in Macedonia accolta dalla popolazione era una persona sacra era la madre dell'eroe scortata dai suoi traci e dai suoi epiroti per prima cosa uccise Arrideo esterminò un centinaio tra familiari e amici di Cassandro che era il suo avversario e pretendente al trono come figlio di Antipatro dimostrando tanta crudeltà la regina Olimpia si alienò le simpatie sulle quali avrebbe forse potuto contare come madre di Alessandro sfruttando la grande popolarità che avrebbe potuto avere in quel momento e finì per trovarsi invece completamente isolata Cassandro ne approfittò reagì duramente la chiuse la rinserrò dentro alla fortezza di Pidna che era una città del nord vicina al mare l'assedio futurissimo Olimpia si ridusse a nutrire i suoi elefanti con segatura e quando questi furono morti si cibò delle loro carni addirittura si disse che giungesse a nutrirsi anche dei corpi delle sue ancelli affrontò la morte comunque con grande coraggio così come era vissuta lasciando sostanzialmente però il campo libero all'avversario si era stato intanto un vertice a Cipro tra i più potenti tra i successori di Alessandro che si erano accordati in linea di massima su una spartizione dell'impero una clausola recitava che qualora fosse successo qualcosa al bambino cioè ad Alessandro IV la Macedonia sarebbe andata a Cassandro fu praticamente come condannarlo a morte intanto era morto per Dicca il sostenitore diciamo fino a quel momento dell'unità dell'impero era stato assassinato dalle sue stesse truppe quando lui aveva loro imposto di tentare un guado sul Nilo terrorizzate per la paura delle sabbie mobili e dei coccodrilli Roxane allora era partita era venuta in Grecia per mettersi sotto la protezione della suocera della regina madre assieme al bambino Cassandro li fece catturare e assassinare dai suoi schierani dopo undici mesi di prigionia così si spegneva completamente definitivamente la stirpe di Alessandro il Grande per vent'anni quello che era stato l'impero di Alessandro fu sconvolto da una serie incessante continua di incredibili convulsioni di guerre di lotte di faide di trattati firmati e poi subito traditi alla fine di questo periodo di incredibile terribile turbolenza l'impero risultò definitivamente spaccato in quattro regni principali viene da chiedersi se in uno scenario così desolante così spaventoso fosse rimasto qualche cosa del prestigio e del ricordo di Alessandro il Grande ebbene c'è un episodio che appare molto significativo riportato dalle fonti una volta Eumene il suo ex segretario generale convocò a Babilonia un summit diremo noi oggi ma presto questa riunione invece che giungere a un accordo degenerò in rissa a un tratto Eumene riapparve da una porta in cui era sparito poco tempo prima e gettò sul trono di Alessandro il suo mantello e il suo scettro improvvisamente nella grande sala si fece silenzio e per un momento sembrò che Alessandro fosse tornato che avesse ristabilito la sua autorità e il suo prestigio che tutti fossero di nuovo come un tempo soggiogati dal suo invincibile carisma abbiamo detto che alla fine di questo ventennio di convulsioni sanguinose quello che era stato l'impero di Alessandro si ritrovò sostanzialmente suddiviso in quattro regni l'Egitto sotto Tolomeo che divenne fondatore di una dinastia destinata a durare quasi 300 anni poi l'Isimaco uno dei compagni di Alessandro che divenne re in traccia poi Seleuco il comandante degli scudieri che divenne re di Siria e per qualche tempo addirittura sembrò essere l'unico in grado di restaurare l'unità dell'impero e in ogni caso colui che aveva raccolto sotto la propria autorità forse il 70% dei territori che erano stati dell'impero di Alessandro da ultimo la Macedonia il cui trono per parecchi anni fu l'obiettivo di scalate di diversi avventurieri poi alla fine diciamo che si stabilizzò sotto i discendenti di Antigono Monoftalmo uno degli ufficiali di secondo rango nella avventura di Alessandro ma che poi acquistò invece per parecchio tempo un ruolo di primo piano anche come opponente di Eumene il vecchio segretario generale di Alessandro che poi finì per ritagliarsi un proprio piccolo regno in Anatolia occidentale concentro a Pergamo una città poi che divenne famosa per lo splendore dei suoi monumenti e per l'enorme prestigio della sua biblioteca dalla narrazione di questa spaventosa serie di massacri è uscita quasi per caso questa parola magica biblioteca per farci capire che quell'epoca non fu soltanto guerre non fu soltanto sangue nella dolorosa difficile gestazione del periodo che fece seguito alla morte di Alessandro veniva pian piano delineandosi una nuova era man mano che gli stati che noi chiamiamo ellenistici si stabilizzavano la Siria l'Egitto poi la Tracia la Macedonia la stessa Pergamo veniva pian piano riaffiorando qualche cosa di forte qualche cosa di grande qualche cosa di profondo quando un grande impero collassa se non è stato soltanto guerre e oppressione qualche cosa di importante sopravvive e cioè la civiltà e questa civiltà che noi chiamiamo ellenistica trovò un'espansione straordinaria appena le guerre cessarono cominciarono le ricostruzioni cominciarono le fondazioni centinaia e centinaia di città non solo quelle che aveva fondato Alessandro che ebbero quasi tutte un futuro a volte splendido come Alessandro ed Egitto ma tante nuove fondazioni che prendevano i nomi dei nuovi signori Antiochia Apamea Pergamo e tante tante altre da queste sarebbero nate le fucine di una nuova era di una nuova cultura di una nuova scienza in questo immane processo di trasformazione si può dire che cambiò tutto ci fu l'incontro di tante civiltà che prima erano sempre state separate o addirittura in contrasto in guerra tra di loro la remota India l'antica Mesopotamia la grande Persia l'Egitto ricchissimo e misterioso le isole del Mediterraneo vennero a formare un tutt'uno in qualche modo vennero a determinarsi nuove linee di comunicazione vennero innervati nuovi centri di smistamento nuove casse di compensazione e il risultato fu una vera e propria esplosione di cultura cambiò l'arte cambiò la pittura l'architettura che si dedicò alla realizzazione di complessi straordinari è tipico proprio di questa epoca l'elenco popolarissimo delle mitiche sette meraviglie del mondo antico si tratta quasi sempre di monumenti di età ellenistica a parte la grande piramide e i giardini pensili di Babilonia ma pensiamo al colosso di Rodi un gigante di bronzo che fu eretto da carete di l'indo all'ingresso del porto di Rodi pensiamo allo splendore del mausoleo di Alicarnasso e a tanti tante altre realizzazioni ma soprattutto ricordiamo i centri del sapere la biblioteca e il museo di Alessandria per esempio che furono il primo centro di ricerca pura dell'antichità si dice che la biblioteca di Alessandria riunisse a un certo momento tutto lo scibile umano si parla di 800.000 volumi qualcuno dice un milione addirittura le navi che giungevano da lontano entrando in porto dovevano permettere a bordo un'ispezione da parte della biblioteca e se gli ispettori trovavano dei testi che venivano da paesi lontani che la biblioteca non aveva il comandante era tenuto a permettere che venissero ricopiati come in qualche modo una sorta di tassa portuale in questo modo si accumulò un sapere veramente straordinario lì fiorirono scienziati che raggiunsero dei risultati incredibili pensiamo per esempio a Eratostene che arrivò a misurare la circonferenza della terra con un errore di poche decine di chilometri pensiamo ai risultati di Archimede forse il più grande scienziato dell'antichità pensiamo ai grandi astronomi che addirittura giunsero a ipotizzare un sistema eliocentrico del nostro sistema solare è un risultato a cui sarebbero giunti soltanto Cheplero e Galileo tanti tanti secoli dopo veramente un nuovo mondo veramente un fiorire di attività culturali tecnologiche di ogni genere nuove macchine prodigiose vennero realizzate Erone di Alessandria ancora diciamo è il grande centro egiziano quello che fa da portabandiera di questa civiltà Erone di Alessandria costruì addirittura una macchina a vapore che poi fu usata più che altro per diremmo noi oggi effetti speciali nel teatro ma che già riconosceva per esempio il principio di azione e reazione addirittura si attribuisce a Erone la costruzione di una colomba in grado di volare o pensiamo ai mitici specchi ustori di Archimede o alle gigantesche navi navi quali mai il Mediterraneo aveva visto solcare le sue onde come la mitica Siracusana un gigante di oltre 3000 tonnellate di stazza che poi fu ancorata nel porto di Alessandria come attrazione per i turisti era nata una nuova era era nata una nuova concezione del mondo destinata a durare a lungo perché il testimone ben presto sarebbe passato a Roma la città che avrebbe realizzato anche se in modo diverso il sogno di Alessandro una sola patria per tanti popoli e tante genti diverse con questo vi saluto vi ringrazio per essere stati con noi per la vostra attenzione e vi do appuntamento all'ultima di queste nostre puntate di questi nostri incontri domani sempre su Radio 2 alle 8 della sera abbiamo visto l'avventura dell'uomo Alessandro del condottiero l'avventura dei suoi sogni dei suoi progetti eppure dopo che egli fu morto ci fu un'altra avventura l'avventura del suo corpo che veramente diede origine a eventi incredibili e alla fine ad una vera e propria leggenda quella della sua tomba scomparsa non vi fu pace nemmeno diciamo per il corpo di Alessandro quindi dopo che egli fu morto fu consegnato agli imbalsamatori egiziani sembra infatti che per le sue disposizioni testamentarie egli avesse lasciato detto che voleva essere sepolto nell'oasi di Siwa secondo le relazioni che ci sono pervenute addirittura nel suo testamento ci sarebbero state ancora delle disposizioni ben più incredibili ben più straordinarie per esempio l'erezione di una tomba per il padre Filippo grande almeno come la grande piramide la costruzione di intere città lo scambio di popolazioni insomma addirittura qualcuno ha pensato che il redattore principale dei diari probabilmente Eume benedicaria avesse inserito delle disposizioni così assurde da screditarle affinché appunto nessuno poi pensasse a realizzarle comunque stiano le cose in attesa che si assestassero i nuovi equilibri di potere il corpo di Alessandro affidato agli imbalsamatori restò poi a Babilonia per quasi due anni in quel periodo si pose mano alla costruzione del carro funebre un vero e proprio tempio semovente con tanto di colonnato ionico attorno con leoni che reggevano il sarcofago con vittorie con meravigliosi dipinti sul padiglione che lo ricopriva e poi si cominciò ben presto a discutere sulla destinazione finale del corpo dell'eroe ovviamente i macedoni volevano che tornasse a casa cioè che riposasse nella necropoli degli antenati che si trovava ancora nella vecchia capitale a Ege là dove di recente qualche anno fa è stato scoperto il sepolcro che gli archeologi hanno attribuito pur con qualche dissenso a Filippo al padre di Alessandro invece gli indigeni persiani volevano che il re riposasse per sempre a Babilonia e anche qui è interessante vedere che da un lato i macedoni consideravano Alessandro cosa loro e quindi doveva rimanere un macedone e tornare nella patria ancestrale mentre invece gli orientali cominciavano evidentemente a sentirlo cosa loro e cioè a pretendere che rimanesse in quella che lui aveva sognato come la futura capitale del suo nuovo mondo sta di fatto che dopo circa due anni tra il 321 e il 320 avanti Cristo il corteo funebre prese finalmente le mosse però qui le fonti a noi pervenute sono alquanto nebulose deve essere successo qualcosa di poco chiaro secondo alcuni per esempio ci sarebbe stato quasi una sorta di scippo mentre Perdica era occupato in Cappadocia Tolomeo avrebbe fatto un colpo di mano e si sarebbe impadronito del carro funebre trasportandolo in Egitto secondo altre testimonianze sarebbe stato un vero e proprio scontro diretto tra Tolomeo e Perdica in cui Tolomeo sarebbe risultato vincitore altri ancora parlano addirittura di un trucco una sostituzione della salma con un manichino per cui poi il vero corpo sarebbe arrivato in Egitto per vie traverse e durante trasporti notturni comunque siano andate le cose un fatto è certo che la destinazione finale della mummia del corpo di Alessandro fu l'Egitto da prima Tolomeo lo espose alla pubblica venerazione nella capitale nell'antica capitale di Menfi non lontane dalla odierna città del Cairo dove molto probabilmente gli eresse un monumento funebre poi in seguito il corpo venne trasportato ad Alessandria che era destinata a diventare la nuova e vera capitale del nuovo Egitto tonemaico qui le fonti sono abbastanza discordi ci sono problemi nella loro interpretazione per stabilire esattamente il punto topografico in cui sorse la tomba di Alessandro e c'è anche una sorta di confusione tra due parole greche la parola soma che significa il corpo cioè la mummia di Alessandro e la parola sema che invece designa il monumento funebre vero e proprio quindi c'è anche questo altro depistaggio per gli investigatori moderni sembra comunque che il mausoleo sorgesse nella necropoli reale anche se la testimonianza di un autore bizantino invece fa pensare che si trovasse all'incrocio delle due vie principali della città comunque la tomba di Alessandro divenne un luogo mitico certamente Tolomeo non aveva sbagliato dal suo punto di vista ad impossessarsi delle spoglie del grande condottiero perché chiaramente il suo possesso era elemento di straordinario prestigio qui ad Alessandria la tomba dell'eroe venne visitata da illustrissimi visitatori da filosofi da scienziati da re regine e imperatore ricordiamo per esempio la visita di Ottaviano Augusto che anzi danneggiò la mummia gli ruppe il naso nel tentativo di deporre una corona di fiori pensiamo a Caligola che dicono appunto spogliasse il corpo di Alessandro della sua armatura e tanti altri l'ultimo di questi illustri visitatori a vedere il corpo e le fattezze di Alessandro sarebbe stato l'imperatore Settimio Severo secondo una testimonianza dello storico Cassiudione Settimio Severo sigillò alla fine la tomba di Alessandro affinché nessuno più disturbasse il sonno dell'eroe con questo termine con questa espressione per noi abbastanza sibillina si conclude la vicenda antica della tomba di Alessandro noi non sappiamo cosa significhi esattamente cioè tecnicamente questa espressione sigillò sta di fatto che alla fine del quarto secolo Giovanni Crisostomo il grande oratore cristiano poteva dire dov'è dimmi la tomba di Alessandro mostramela dimmi il giorno in cui morì eccetera eccetera insomma da queste parole sembra di capire che per Giovanni Crisostomo la ubicazione della tomba di Alessandro era ormai un mistero si era perduta la memoria e la cognizione di dove si trovasse date le circostanze che abbiamo orora esposto uno potrebbe pensare che la tomba dell'eroe cadesse completamente nella dimenticanza e invece no per tutto il medioevo ma già nell'età antica e per tutto il medioevo si continuò a favoleggiare si continuò a parlare di questo misterioso monumento e si credette più volte di identificarlo or qua or là all'interno della città di Alessandria o alla sua periferia fino all'età moderna quando di nuovo prima gli avventurieri e poi gli archeologi risollevarono sempre in modo più clamoroso il problema vediamo ora di ripercorrere almeno le fasi principali di questa incredibile caccia alla tomba perduta di Alessandro la caccia comincia in qualche modo già nell'antichità è intorno al 400 dopo Cristo che giunge ad Alessandria una ricca vedova che si dice guidata addirittura dall'arcangelo Raffaele giunge da Roma per costruire una chiesa per erigere un tempio a San Giovanni Battista e al profeta Eliseo durante i lavori vengono demolite alcune collinette della città e durante questi lavori appare un tesoro coperto da una lastra di pietra e questo tesoro non sappiamo esattamente per quale motivo viene riconosciuto viene considerato come risalente all'epoca di Alessandro addirittura giunge l'imperatore e la cosa fa abbastanza scalpore non possiamo dire con esattezza a che cosa si riferisse questo tesoro esattamente comunque è per noi interessante vedere che già veniva connesso veniva riferito alla tomba di Alessandro e in seguito abbiamo altre notizie da scrittori arabi intorno al decimo secolo poi addirittura ancora nel sedicesimo secolo un geografo leone di Granada parla di un'edicola in forma di tempietto in mezzo alle rovine ad Alessandria dove i musulmani credevano che fosse conservato il corpo di Alessandro grande re anche egli profeta del Corano addirittura dice leone di Granada che questo edificio che era considerato la tomba di Alessandro era metà di visite di pellegrinaggi che venivano anche da molto lontano e veniamo al 1800 intorno alla metà del secolo un certo Ambroise Schilizzi che era un dragomano del consulato russo ad Alessandria d'Egitto asseriva di essere penetrato nei sotterrani della moschea di Nabi Daniel uno dei luoghi che in qualche modo era indiziato per essere in prossimità della tomba dell'eroe macedone e di aver visto laggiù una gabbia di vetro una teca di vetro con all'interno un uomo incoronato e seduto in trono più tardi circa 40 anni dopo appare sui giornali la notizia che un greco levantino un tale Ioannidis aveva trovato la tomba di Alessandro non solo aveva trovato anche la tomba di Cleopatra in un luogo alla periferia orientale della città e addirittura veniva specificata la profondità in cui si trovavano queste due tombe una a 16 metri e l'altra a 12 metri anche questa però si rivela la notizia di un mitomane queste segnalazioni in qualche modo proseguono fino ad arrivare al 1960 quando c'è veramente un evento clamoroso un altro greco di Alessandria un tale Stelio Camutzos asserisce di sapere esattamente dove si trova la tomba di Alessandro e queste notizie gli vengono da un libro che da molto tempo è in possesso della sua famiglia è tale la reazione della stampa il rumore sollevato da questa notizia che poi ha eco anche sulla stampa internazionale che le autorità locali sono praticamente costrette a furor di popolo a concedere il permesso di scavi nei luoghi indicati da questo Camutzos anche qui però si fa un buco nell'acqua il risultato è completamente deludente negativo la rivelazione di Stelio Camutzos sollevò tutta una serie di altre rivelazioni anche se aveva dato risultati totalmente negativi in particolar modo queste rivelazioni si concentravano sui sotterranei della moschea di Navi Daniel e tra l'altro in quel periodo accade che un vecchio arabo che aveva superato addirittura l'età di cento anni il suo nome è Mohammed Ali El Torabi disse di aver avuto un'esperienza sconvolgente nella sua gioventù aveva percorso un lungo sotterraneo sotto la moschea di Navi Daliel che conduceva addirittura appunto alla tomba di Alessandro egli era disposto a rivelare con esattezza il luogo al direttore del museo di antichità il dottor Riad e diceva addirittura proprio che questo buio fitto dei sotterrani lo aveva a tal punto riempito di spavento che poi aveva dovuto passare tre giorni a letto anche questo si rivelò completamente un falso allarme non portò a nessuna scoperta e resta solo da capire un po' da che cosa erano alimentate queste rivelazioni che cosa volevano dire a che cosa esattamente si riferivano è chiaro che la fantasia popolare poi veniva certamente eccitata da queste rivelazioni da queste dicerie non c'è si può dire villaggio al mondo dove non ci sia il mito di un tesoro sepolto e figurarsi ad Alessandria dove c'era invece la tradizione di questa tomba fastosa dell'eroe più grande di tutti i tempi ma veniamo alle indagini serie diciamo vediamo che cosa ci può essere di vero in queste tradizioni le fonti antiche ci danno delle notizie importanti Strabone il geografo che visitò Alessandria e la descrisse con grande precisione dice che la tomba faceva parte del quartiere reale ma che le spoglie non erano più nel sarcofago originario d'oro massiccio perché Tolomeo X lo aveva fatto sostituire con uno la parola greca è ialinon cioè letteralmente di vetro ma in realtà significa di alabastro e poi abbiamo un riferimento del poeta lucano nella Farsalia che cita appunto la tomba di Alessandro parlando di un antrum cioè di un antro e di un extructus mons e cioè di un tumulo che lo distingue nettamente dalle piramidi e dai mausolei dei Tolomei ecco quindi questa idea che si trattasse di un tumulo ci riconosce immediatamente alla tradizione macedone che recentemente è stata confermata dal rinvenimento della tomba di Filippo ora un archeologo italiano negli anni 30 Achille Adriani trovò nel cimitero latino alcuni enormi blocchi di alabastro che avevano una particolità straordinaria erano levigati su una facciata e erano completamente grezzi dalla parte esterna ricomponendoli venne a ricostruire praticamente una specie di camera di corridoio con le pareti interne di alabastro levigato la parte esterna invece grezza questo ci faceva capire che una volta quella struttura era ricoperta da un tumulo e quindi diciamo che la situazione topografica veniva a coincidere sostanzialmente con le indicazioni degli autori antichi e soprattutto a distinguere questo sepolcro da tutti gli altri per il fatto proprio che aveva le caratteristiche di un sepolcro macedone in più era fatto di alabastro proprio come dice la testimonianza di Strabone forse possiamo davvero concludere che questi blocchi di alabastro del cimitero latino di Alessandria sono tutto quanto ci resta di una delle più grandi leggende